Da Cambia, nell'isola di Creta, 6 luglio 1453. Lettera scritta dal reverendissimo cardinale Ruteno Isidoro di Kiev al reverendissimo signore Bessarione, vescovo di Tuscolo, cardinale Inceno, legato papale a Bologna. Il giorno 29 del mese di maggio, da poco trascorso, al sorgere del sole, quando i suoi raggi colpivano i nostri soldati negli occhi, i turchi investirono la città per mare e per terra e attaccarono il settore delle mura presso la porta di San Romano. La scalata alle mura in quella parte era facile, perché era stata buttata giù e quasi diroccata completamente dalle bombarde, per cui fu facile ai nemici rompere nella città, non trovandosi nessuno lì in grado di contrastare l'impero dai nemici. Isidoro era stato ferito. Lui, spessissimo, confessa, avrebbe maledetto quel crudele turco che lo aveva ferito con una freccia, ma soltanto superficialmente, così che non lo aveva ucciso di fronte alla porta del monastero. Lui era a cavallo, la freccia lo aveva stordito, ma non era caduto da cavallo. E probabilmente Isidoro di Kiev era un ecclesiastico, oltre che un uomo d'azione, oltre che un diplomatico, oltre che un filosofo. Si dice spesso che forse Dio lo ha risparmiato proprio perché lui possa raccontare ai suoi amici, all'Occidente, ai posteri, quello che ha visto nella sua grande e sfortunatissima città. Racconta di come tutte le vie, le strade, i vicoli fossero pieni di sangue, di umore sanguigno, dice che colava dai cadaveri dei cittadini uccisi, addirittura fatti a pezzi. Racconta delle case da cui venivano tirate fuori le donne che fossero libere, che fossero nobili, erano legate tra loro con una fune, la serva insieme alla padrona, dice a piedi nudi, e così erano nudi i figli che erano stati rapiti con le loro sorelle ed erano stati spartiti dalla soldataglia di infimo grado. E questo valeva per le giovani laiche, ma anche per le suore. Dice che non le trattavano neanche come si trattano i buoi o le pecore o altri animali domestici e mansueti, ma con la violenza che si usa per un branco indomabile di fiere spaventevoli e selvagge. Isidoro di Kiev era stato patriarca della Russe. Era riuscito rocambolescamente a fuggire dopo la presa della città nel 1453, nel giorno 29 del mese di maggio, da poco trascorso. Si era scambiato gli abiti con un monaco, cosicché il povero monaco che indossava gli abiti di Isidoro di Kiev fu decapitato dal sultano Mehmet II. La sua testa fu impalata per giorni perché si pensava fosse la testa di Isidoro, ma invece Isidoro, travestito da monaco, era riuscito a imbarcarsi per Creta. Era un uomo coraggiosissimo, era riuscito a fuggire, ancora oggi lo sappiamo come, dalla terribile fortezza del gran principe di Mosca, dove era stato rinchiuso per mesi, destinato alla morte, punito per avere sottoscritto la ricomposizione dello scisma tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa al Concilio di Firenze del 1439. Quello lì era stato un compromesso che solo una parte del clero bizantino aveva voluto e attuato. E questa parte era capitanata da Bessarione, appunto il destinatario della lettera, al solo scopo di ottenere dall'Occidente una crociata contro i turchi che minacciavano la sua patria, la patria anche di Isidoro di Kiev, Bisanzio. Da testimone oculare Isidoro espone i fatti quindi al principale fautore politico di un salvataggio fallito. Gli espone a colui che nonostante tutta la sua abilità, tutta la sua diplomazia, non aveva saputo evitare la caduta di quella che all'epoca veniva chiamata il faro del mondo, la città delle città, Costantinopoli. Caduta per gli europei, ma per gli islamici conquista. Ci sono giorni che possono cambiare la storia, ci sono date che diventano un simbolo, un ologramma, un mantra. Pensate a 9-11, all'11 settembre 2002, la caduta delle torri gemelle che imprime proprio alla nascita del ventunesimo secolo un sigillo terribile, il sigillo di quello che viene chiamato uno scontro di civiltà. Ci sono anche date meno agghiaccianti, però ugualmente simboliche, come quelle date alle quali si è soliti riferire la nascita di quella che chiamiamo età moderna. Per esempio il 1492, la scoperta dell'America, che proiettò lontano dall'area di irradiazione dell'impero bizantino, anzi dell'impero romano, che poi continua senza soluzione di continuità nell'impero bizantino, e cioè di quello che Fernand Brodel ha chiamato il Mediterraneo maggiore, le rotte commerciali che per secoli si erano contese le repubbliche mercantili, il cosiddetto proto-capitalismo dei traffici, Genova, Venezia. C'è un'altra data, il 1517, quando Martin Lutero affigge le sue 95 tesi sul portale della chiesa del castello di Wittenberg, sia lo scisma, la riforma protestante. Ci sono anche altre date alle quali si riferisce l'inizio dell'età moderna. C'è una vera nebulosa di date, pensiamo, c'è chi la riferisce all'invenzione della stampa, c'è chi invece pensa per esempio al matrimonio tra Zoe e Sofia Paleologhina, l'ultima esponente della dinastia imperiale bizantina con Ivan III di Mosca, il gran gnaz, il gran principe, che già allora si chiamava Kzar, cioè Caesar, dal greco Caesar, dal latino Cesare, cioè erede al trono di Bisanzio. Anche lì possiamo individuare qualcosa che denota l'età moderna. Ma dobbiamo dire che tutta questa nebulosa di date, alle quali appunto potremmo aggiungerne altre che sono state formulate dagli storici, che si addensano nei libri di storia, questa nebulosa di date segnala eventi che sono strettamente legati a un terzo, che volendo potremmo considerare i suoi epifenomeni. Cioè, se noi volessimo indicare la data che veramente segna l'inizio dell'età moderna perché è anche causa delle altre, perché ad esempio cambia rotta ai traffici mediterranei, perché ad esempio toglie al papato un antagonista all'ortodossia e lascia così spazio alla riforma protestante, per mille altre ragioni, allora dobbiamo menzionarne un'altra, quella del 29 maggio 1453, quella di cui ci racconta Isidoro di Kiev, quando Costantinopoli cade in mano ai turchi di Mehmet II, il conquistatore. Questa serie di Aleotto della Sera non racconterà quindi una storia di anni, neppure quella di un anno solo, come hanno fatto alcuni dei miei illustri colleghi, racconterà un unico giorno, un giorno che ha cambiato la storia di due civiltà, o forse di quest'unica civiltà in cui siamo immersi, e che ha inserito violentemente e prepotentemente l'Islam nella nostra storia europea. Il 29 maggio 1453 è la data della caduta dell'impero di Bisanzio, e cioè in definitiva dell'impero romano, o la data della sua conquista, a seconda dell'ottica con cui la vogliamo guardare. Noi forse la vogliamo guardare da due ottiche, da due cannocchiali, di due ottiche, due cannocchiali, un racconto bipartisan. Se noi guardiamo, sbirciamo anzi, dal cannocchiale turco, troviamo che la descrizione che dello stesso assalto all'alba del 29 maggio 1453 che ci ha raccontato Isidoro di Kiev, di quello stesso assalto abbiamo una descrizione invece incantata, quasi allucinata. È l'assalto contro la porta di San Romano, che era ormai squarciata da due mesi di cannoneggiamenti, ma è anche un assalto a qualcosa di più. Ce lo racconta uno storico turco grandissimo, Tursun Beg, un grande letterato, ma anche un testimone oculare della conquista, proprio come Isidoro di Kiev, e ce lo racconta in uno strano linguaggio in cui la poesia si mescola alla prosa e al turco si mescolano l'arabo e il persiano. Sentite. Quando l'ombra dei capelli arruffati della notte, simile al volto di una schiava greca, scese sul giorno, i guerrieri della fede traversarono il fossato e appoggiarono scudi e scale alte come il cielo alle mura delle torri. La battaglia durò fino al mattino, fino a che i soldati del giorno non ebbero irrorato di sangue le lande dell'aurora per contendere la torre celeste nel castello dello Zodiaco al negro emiro della notte che l'aveva occupata. Tursun Beg racconta che per Mehmet II, che da allora in poi fu detto il conquistatore, la conquista di Costantinopoli era diventata un'idea fissa, un'idea quasi erotica. Mehmet, il giovane padiscià, era ossessionato. E qui appunto la prosa di Tursun Beg si scioglie nei versi. Ogni qual volta per la sete desideravo bere l'acqua, sempre vedevo la tua immagine nella coppa. Perché Costantinopoli era la compagna inseparabile delle sue notti, era la giovane sposa cui avevano aspirato molti re e sultani dell'Islam. E qui Tursun Beg allude ai predecessori e agli avi di Mehmet II, anzi anche a suo padre Murad II, che aveva un po' svogliatamente assediato Costantinopoli tempo prima. Era la città che era stata promessa nell'adit di Muslim. Felice l'armata, felice il capo che la farà sua. Come dice Seferis, lo straniero, il nemico, lo vedemmo allo specchio. Costantinopoli ormai era un enclave al centro di un impero grandissimo, l'impero della sublime porta. E questo era un dato di fatto. Costantinopoli, sempre scrive Tursun Beg. Per la sua bellezza era come una donna carezzevole con un neo sulla guancia, posta nel bel mezzo dei paesi ottomani. La conquista della città fu un trionfo di sangue, fu un massacro, fu morte, fu devastazione, ma dal grande storico turco è paragonata a una seduzione. Costantinopoli è una fortezza inespugnabile, ma è anche una sorta di ortus conclusus. È, scrive, la città vergine che non aveva mostrato di gradire le richieste di matrimonio avanzate dai re stranieri. È una città vergine per la quale il sultano, il giovane Mehmet, il padiscià, prova un'attrazione fisica, come per una donna desiderata in modo incontenibile dopo un lunghissimo corteggiamento. È erotismo puro la prosa di Tursun Beg, con i suoi simbolismi, con i suoi sottintesi, quando ci racconta la topografia stessa di Costantinopoli, della città delle città, della bellissima dama carezzevole con un neo sulla guancia. In effetti Costantinopoli è anzitutto un'ansa marina, perché Costantinopoli è principalmente il corno d'oro, e cioè quello che Tursun Beg descrive come una grande fessura profonda, formata dal fiume impetuoso, che poi è lo stretto tra il Mar Nero e l'Ak Deniz, il Mediterraneo. Scrive Tursun Beg, l'abile architetto l'ha fatta più profonda di quanta non sia la profondità della preoccupazione. Da un lato è vero, la voglia, la brama di conquista del Padiscià è religiosa, è mistica. A occhi ortodossamente islamici la conquista sarà provvidenziale, perché è ispirata dall'ordine dell'incomparabile e bontà divina, motore della storia. L'ordine divino che si traduce in un eros, in un eros mistico, proprio come vedremo che l'ordine celeste e zodiacale si rispecchierà agli occhi degli intellettuali, ma anche dei militari turchi nella topografia dell'assedio, si rispecchierà in una sorta di architettura immaginaria in cui il cielo e la terra si rispecchiano di continuo e continuamente si scambiano, continuamente si passa dall'uno all'altro nel gioco delle costellazioni, nel gioco degli orientamenti e perfino nella programmazione stessa degli attacchi, nella numerologia che viene impiegata, eserciti di astrologhi, ma non solo dalla parte di Mehmet II, anche dalla parte degli occidentali saranno messi all'opera al momento della conquista o della caduta. C'è questo visionario delirio astrologico di cui parleremo, ma c'è parallelamente a questo eros mistico, celeste, zodiacale così proprio della civiltà, perché si parla di una civiltà che l'Islam portava nella sua spinta da Oriente a Occidente, c'è poi proprio un eros fisico, quasi genitale, che Tursunberg usa per descrivere la conformazione della città. La larghezza di questo immenso organo sessuale femminile, che è il corno d'oro, supera il miglio, la lunghezza di circa cinque miglia e si insinua nella terra e forma una rada che può accogliere nel suo seno infiniti vascelli e contiene giardini meravigliosi e odora dei soffi profumati del nord e del nord-est. Per tutto l'assedio, racconta Tursunberg, Mehmet II, il sultano, cheppure aveva solo vent'anni, si astiene completamente dai piaceri sessuali. E di nuovo la prosa di Tursunberg così si contrae nei versi, scrive, «Ho legato alla grazia della misericordia le mie speranze. Attendo che la mia bella faccia felici le mie pupille». Tursunberg racconta che il padiscià, il signore della conquista, parlava della seduzione della nuova sposa, attendeva il momento di unirsi a lei e di contemplare da vicino la sua bellezza. Il nuovo versi «Come si agita nell'occhio la tua immagine, uno sguardo prolungato rivela la tua bellezza. Spero che con il ferro dei cannoni ne farò conquista. Come mai altrimenti potrebbe unirsi a te la mia casta fortezza?» I cannoni da un lato, cannoni enormi, dal calibro immenso come vedremo, puntati sulla città dalla casta fortezza di Mehmet. La fessura che contiene giardini meravigliosi e odora dei soffi profumati dall'altra parte, la sposa, la dama con un neo sulla guancia. Sono gli elementi iniziali di un assedio che è una seduzione e che è una violenza, una violazione, che è comunque un matrimonio, voluto o non voluto, tra due mondi, ma esitiamo a dire tra due civiltà. Vedremo come queste nozze di sangue lentamente si celebreranno. Scontro di civiltà, scontro di religioni, scontro di eserciti. Sì, però è la trasversalità quella che ci colpisce in questa grande battaglia che segna l'inizio dell'età moderna, anche dal punto di vista della storia militare vera e propria. La trasversalità dei fronti nella loro composizione etnica, da entrambe le parti, era praticamente identica. La trasversalità nelle amicizie, nelle simpatie, nelle affinità. Perché era già da due secoli, dalle invasioni dei selgiuchidi, dei turchi selgiuchidi in Asia minore, che stava avanzando la pressione mongolo-turchesca che stava riorganizzando e comunque si stava sovrapponendo, in parte sostituendo all'eredità propriamente romana, il cui avamposto, il cui presidio era stato per un millennio l'impero di Bisanzio con i suoi satelliti politico-culturali, quello che è stato chiamato il Commonwealth bizantino, ma che i suoi sudditi chiamavano ancora e sempre impero romano, Romaios, Romeo, un impero che aveva controllato per tutto il Medioevo l'istmo strategico dell'Eurasia. E l'aveva continuato a partire da quelle lissi compiuta già nel IV secolo da Costantino, che aveva trasferito la prima Roma un po' più a est, fondando come seconda Roma Costantinopoli, ma sempre di Roma si trattava, sempre di impero romano. E questa era un'eredità, un'eredità dinastica, un'eredità giuridica in palio il 29 maggio 1453, anche se ormai l'impero era ridotto territorialmente, attorniato com'era dalla grande islamizzazione, eroso territorialmente e tenuto in scacco dai sultani. A ridurlo così comunque erano state anzitutto le conquiste latine della Quarta Crociata, quando nel 1204 erano stati i latini a profanare per la prima volta Costantinopoli. La conquista latina di Costantinopoli del 1204, la cosiddetta deviazione della Quarta Crociata, dal punto di vista, diciamo, asettico della storia della civiltà, fu certamente più distruttiva di quella del 29 maggio 1453, se non altro perché fu assolutamente inaspettata. Pensate che quando furono avvistate dal formidabile sistema di intelligence della corte bizantina nel 1204 le navi crociate sul Danubio, nessuno pensò minimamente alla necessità di una difesa. Mandarono gli esattori doganali, perché pensavano queste navi devono pagare le imposte, in effetti era sulle imposte doganali che si era sempre fondata la ricchezza dell'impero di Bizanzio. La imprevedibilità della Quarta Crociata portò a qualcosa che per gli intellettuali bizantini, quelli stessi che abbiamo visto anche ora, Isidoro di Kiev, Bessarione e tutti gli altri, fu sconvolgente, più sconvolgente ancora dei costi umani. Portò all'interruzione della tradizione manoscritta di una parte del patrimonio dei classici greci, perché i cristiani bruciarono, distrussero. Noi sappiamo che molti libri andarono perduti. Sappiamo per esempio Daniceta Coniata, uno storico straordinario, uno straordinario intellettuale che fu testimone oculare di quell'altro precedente, assedio di quell'altra precedente conquista, che fu talmente spaventoso per gli occhi dei bizantini vedere quel massacro di libri che molti fuggirono, fuggirono in Asia Minore, in quel caso perché la pressione militare veniva da Ovest, fuggirono trasportando con sé su carri di fortuna, sui cavalli, molte meno vettovaglie e molti più volumi. Questo intarsio di regni, di piccoli regni, al quale era ormai ridotto il grande impero di Bisanzio, il Commonwealth bizantino, l'impero romano o Romeo, che aveva controllato l'istmo strategico dell'Eurasia per tutto il Medioevo, che era stata la superpotenza per undici secoli del Medioevo, questo intarsio di regni era colonizzato economicamente dagli occidentali. Perché dopo il ritorno dei bizantini a Costantinopoli, i bizantini si erano dopo la quarta crociata ritirati appunto in Asia Minore, la spinta provenendo da Occidente, nel cosiddetto impero di Nicea, ma nel 1261 il primo della dinastia dei Paleologhi, l'ultima dinastia bizantina, Michele VIII, l'aveva riconquistata la grande città. Però i mercanti europei avevano tenuto per sé Creta, l'Eubea, gli scali di Argo e di Naupia e di Corone e Modone, nel Peloponneso, le teste di Ponte, nel Mar di Marmara, nel Mar Nero, in Asia Minore, quasi tutte le isole dell'Egeo. C'era una superiorità navale, c'era una nuova mentalità finanziaria, c'erano privilegi commerciali che si accrescevano a ogni guerra e che consentivano alle cosiddette repubbliche marinare italiane di esercitare una dittatura indiretta sull'impero, basata su una logica politico-economica che era inflessibile e distruttiva. In nome degli interessi genovesi e veneziani, anzitutto, che si facevano guerra l'uno contro l'altro, l'impero era progressivamente e deliberatamente minato all'interno e privato delle difese esterne. Bisanzio non era più, dopo la Quarta Crociata, il soggetto del gioco politico del Mediterraneo, ma una sua posta, l'oggetto di una continua contrattazione fra, da un lato, le due repubbliche marinare italiane e, dall'altro, l'impero ottomano. Del resto, l'egemonia dei turchi ottomani si era affermata nel secolo precedente a quello di cui stiamo parlando. Aveva visto un progressivo innalzamento di status dei successivi leader ottomani. Il capostipite Osman, che aveva regnato dal 1288 al 1324, aveva la carica di dei, cioè di comandante, ma già il grande Orkan I, suo figlio, aveva cominciato a farsi chiamare sultano. Aveva trasmesso il titolo ai suoi discendenti, che erano Murad I, figlio notare di una greca, una greca di nome Ninfea, che aveva trasformato il pur fortissimo e meravigliosamente riorganizzato e mirato Gazi di suo padre Orkan nella più forte potenza militare dell'Europa sudorientale. E poi c'era stato Bayazid I, la Folgore. Anche lui era figlio di una greca, in questo caso era una schiava, si chiamava Fior di Luna. E poi c'era Mehmet I Celebi, ossia il gentiluomo, padre di Murad II, a sua volta padre di Mehmet II. Era un sultano pacifico, illuminato, amico per tutta la vita dei suoi vis-à-vis bizantini, amante della cultura, delle arti, come testimonia per esempio la meravigliosa moschea verde che fece costruire a Brussa la sua capitale. Pensare a una contrapposizione fra gli ottomani e i bizantini è così difficile tenendo conto di tutte queste parentele, di tutte queste amicizie, di tutti questi scambi, di questo intrecciarsi continuo che era cominciato proprio nel sultanato di Iconia o Iconio, quando alla corte dei turchi selgiuchidi si era avuta una fioritura della mistica sincretistica, la mistica islamica insieme alla mistica ebraica, insieme a quella grandissimo movimento mistico che dominerà la cultura dell'ultima Bisanzio e poi della nascente spiritualità russa, che fu l'esicasmo. Abbiamo i sufi, i dervisci, abbiamo rumi, abbiamo una composizione sincretistica che parte da questo centro propulsivo dell'Asia minore che da sempre è stato il centro propulsivo da Erodoto in poi della civiltà greco-romana e questo non si interrompe, non si interrompe con l'impero ottomano. Ma partiamo ancora un po' più da lontano. Se da un lato c'era questa guerra santa e mercantile degli europei che colpiva e destabilizzava il potere dei Basileis d'Oriente a partire dalla Quarta Crociata e poi nella lotta commerciale tra Genova e Venezia principalmente, però contemporaneamente la metà settentrionale dell'emisfero asiatico, dalla Crimea alla Corea, era stata invasa dalla migrazione mongola. L'impero dei Tatari, dell'orda d'oro e dell'orda bianca, era andata espandendosi dal centro dell'Asia verso le sue periferie. Nel suo lembo occidentale per più di due secoli era stata oggetto di questa migrazione tutta la Rus. Alla fine del Trecento i principati slavi erano ormai assoggettati con stragi, razzie nelle campagne e per sopravvivere pagavano ai Khan Tatari i loro tributi in oro e pellicce. Ma contemporaneamente all'impero mongolo e avvolto in conflitto con lui, quest'altra ondata mongolo turchesca che sempre proveniva dalle steppe dell'Asia centrale aveva invaso la parte sud dell'Eurasia sfociando nel Mediterraneo attraverso le vie direttrici più antiche, quelle del Tigri e delle Eufrate e alla metà esatta del Trecento aveva sottomesso l'Asia minore sbarcando sulla sponda europea del Bosforo a Gallipoli. Sembrava che nulla potesse fermare il suo procedere da est a ovest che i cronisti annotavano, era la direzione del sole. Alla fine degli anni 50 del Trecento la conquista sistematica dei paesi balcanici era cominciata, erano cadute l'una sull'altra le megalopoli bizantine della traccia della Tessaglia, di Dimoteico, Adrianopoli. Nel 371 la grande battaglia della Marizza aveva visto cadere il regno macedone, serbi, bulgari, i bizantini stessi avevano dovuto offrire al sultano ottomano tributo e alleanza. Negli anni 80 si erano affrontati il sultano e il re di Serbia, erano cadute Sofia, Nis. Nel 1387 era crollata Tessalonica, nel 1389 c'era stata la terribile battaglia del Kosovo Polie, il campo dei Merli, la cui memoria avrebbe echeggiato lungamente nei poemi popolari e nelle leggende ageografiche del Medioevo. Un combattimento che era cominciato e finito con due assassini a freddo. L'assassinio del capo turco Murad I, pugnalato a tradimento nella sua tenda da un disertore serbo prima della battaglia, ma anche il principe Lazzaro con i suoi nobili, che alla fine della battaglia, vinta da Bayazit la Folgore, il figlio e successore di Murad, lo aveva portato nella stessa tenda con i suoi nobili e l'aveva trucidato allo stesso modo. E così era caduto anche l'ultimo ostacolo al controllo ottomano dei Balcani. Anche Costantinopoli sarebbe stata conquistata al tempo di Giovanni VII, ultimo paleologo, se non ci fosse stato un elemento casuale. Perché i turchi vedevano bene la scarsa convinzione con cui gli occidentali mostravano di voler proteggere Bisanzio. Per esempio, nonostante la propaganda storiografica esercitata, la spedizione del maresciallo Busiko fu in realtà misera e del tutto improduttiva e questo aveva spinto nel 1402 Bayazit a portare il suo grande esercito fin sotto le mura della città con ottime probabilità di conquistarle. Non fosse stato appunto per l'intervento tanto sanguinario quanto per i bizantini, che erano un po' masochisti, provvidenziale di Timur il Tartaro. Sì, appunto, Tamerlano, il sovrano che alla fine del 300 aveva edificato un impero che si estendeva dai confini della Cina e dal golfo del Bengala fino al Mediterraneo. E che era in realtà un turco, anche se discendeva in linea femminile dal grande clan mongolo di Gengis Khan. L'esercito di Timur portava orrore e massacro al suo passaggio e fu così anche quando si spinse nel territorio bizantino con le sue grandi forze potenziate, pensate da un corpo indiano di elefanti, che tuttavia fecelo ritirare Bayezid da Costantinopoli. Quella volta, almeno, i turchi furono allontanati dalla città delle città. Si racconta che quando Tamerlano fece prigioniero nella battaglia di Ankara del 25 luglio 1402, il sultano Bayezid lo portò prigioniero in una gabbia d'oro. In realtà probabilmente era una lettiga. Sappiamo per certo che l'anno dopo Bayezid si suicidò. La questione è che mai l'impero ottomano fu più debole e tante volte gli storici si chiedono ma come mai? Ma se in questo momento, all'inizio del 400, le potenze occidentali avessero tentato un'azione congiunta, la minaccia islamica alla cristianità avrebbe potuto essere stroncata per sempre. In realtà non era così. Abbiamo visto quanto intreccio ci fosse fra la dinastia ottomana e anche proprio non solo genealogicamente ma geneticamente la stirpe greca. L'ondata mongola aveva fatto ancora di più, aveva spinto centinaia di migliaia di turchi, intere tribù con le loro famiglie, le loro tende, le loro greggi, nelle province europee più sicure. I genovesi avevano lucrato, avevano fatto grandi soldi traghettando tutte queste centinaia di migliaia di turchi sulle loro navi. Lo storico bizantino Dukas dice che intorno al 1410 c'erano più turchi in Europa che non in Anatolie. E non lo dice con grande dispiacere, lo dice come una cosa normale. Il fatto è che per le potenze occidentali estirpare i turchi non solo non appariva utile, ma probabilmente non era neanche possibile. E questa era la situazione quando il sultano Murad II si trovò a decidere chi fosse il suo successore. E non aveva poi tanta scelta perché i suoi due figli legittimi, i suoi due primogeniti, erano morti per altre circostanze molto misteriose. E così aveva dovuto ripiegare sul giovane Mehmet che aveva avuto da una schiava. Il nostro Mehmet era in realtà figlio di una turca, ma non avrebbe mai smentito la leggenda di essere figlio di una dama dell'aristocrazia francese addirittura. Era un personaggio strano, aveva un carattere difficile, decisamente inadatto alle responsabilità del potere su un impero ormai così grande e complesso come era quello ottomano. Quando per la prima volta Murad II volle provare a metterlo sul trono, perché dovete sapere che anche Murad era un personaggio curioso, oltre alla sua fitta trama di alleanze e alla sua oculata diplomazia verso i bizantini, oltre al fatto di avere sposato la bellissima Mara, la figlia di Giorgio Brankovic di Serbia, cui era rimasto sempre affezionatissimo e che aveva influenzato il suo atteggiamento che già di per sé era tollerante e giusto, e quindi l'aveva portato ad avere frequentazioni, rapporti stretti con i cristiani della sua corte e amichevoli con il basileus bizantino Manuele II, che da sempre era stato interlocutore e amico di suo padre Mehmet I celebi. Ecco, dovete sapere che Murad era a quanto pare un derviscio, se non altro per i suoi rapporti con i giannizzeri, che aveva riorganizzato completamente, anzi di fatto aveva rifondato l'ordine dei giannizzeri, sembra avesse un'inclinazione verso i Bektashim, una setta sufi eretica e sincretista, si diceva che appartenesse a un ordine di quelli sufi che aspirasse a una vita di meditazione e perché per questo, dopo la battaglia di Varna, avesse fatto voto di entrare in una comunità religiosa lasciando il trono a questo suo figlio dodicenne. Che figlio però, che problema per Murad II, da Jacques Raton. Chi sarà mai Costei? Pare che fosse una donna straordinariamente intelligente, straordinariamente pia, la nutrice di Mehmet II, di quello che sarebbe diventato Mehmet II, quel figlio di schiava, quasi certamente turca e non francese, come Mehmet in seguito avrebbe deciso di far credere. era stato trascurato dal padre, era stato allevato a Adrianopoli con la madre e appunto con questa nutrice, molto sensibile, ma certamente entrambe queste donne non avevano una grande cultura, avevano in compenso un amore sviscerato per il giovane erede al trono. La sua educazione era stata trascurata dal punto di vista imperiale, il ragazzo era venuto su impulsivo, selvaggio, presuntuoso, diciamo pure viziato, insomma non assomigliava in nulla al padre così tollerante, così mite e con quel suo senso straordinario di responsabilità che aveva portato tutto il suo regno, il regno di Murad II, come abbiamo visto, a sostanzialmente essere amico di Bisanzio, a non avere rapporti aggressivi, se non in seguito alle trame che il figlio primogenito di Manuele II, paleologo Giovanni VIII, aveva un certo momento cominciato a fare per erodere dall'interno attraverso congiure, attraverso l'apporto di anti-imperatori presunti, aveva cercato di destabilizzare la corte ottomana. Ma a parte la reazione a questo, Murad II era sempre stato estremamente tollerante. Niente di simile invece in Mehmet, che fin da bambino sognava solo Costantinopoli. Fin dall'infanzia, fin dai giochi dell'infanzia, ci viene detto. Quando fu nel 1444 il momento di cedergli il trono, il padre lo affidò così alle cure di un esercito di precettori, cappeggiati da un famosissimo professore kurdo di nome Hamet Kurani, e poi alla tutela di un politico molto saggio e prudente, un personaggio cruciale però perdente nella nostra storia, un personaggio da tenere a mente, il gran vizir, cioè il primo ministro Khalil Pasha. Però gli esordi del regno del ragazzo erano stati così imbarazzanti, era stato così avventato, così arrogante, così sgradito alla corte e anche all'aristocrazia, così pericoloso per la politica stessa del suo stato, che il padre aveva dovuto riprendere le redini del potere per evitare disastri e inviare il ragazzo in esilio. E probabilmente, prima di morire, stava nutrendo il progetto di diseredarlo, perché dall'ultima moglie, che tra l'altro era l'altolocata figlia di un nobile emiro, aveva avuto un nuovo figlio, Hamet, che probabilmente avrebbe presto designato quale erede al trono al posto di Mermet, così sconsiderato, così caratteriale. E però nel 1451, cioè due anni prima dell'anno in cui si svolge la storia che stiamo raccontando, il prudente Murad era morto. Mermet era per forza di cose innalzato al trono, naturalmente appena salito al trono aveva strangolato il piccolo Ahmed nel bagno dell'Arem e il suo progetto, la sua ossessione infantile di conquistare Costantinopoli a tutti i costi, anche trascurando guerre di frontiera delicate e strategicamente più importanti, erano rimaste immutate, anzi, erano cresciute. Aveva vent'anni. Rispetto agli anni della prima adolescente aveva sicuramente fatto progressi, perché intanto aveva acquisito esperienza nelle faccende belliche, ma soprattutto aveva trascorso gli anni dell'esilio studiando ostinatamente, conosceva sei lingue, padroneggiava la letteratura classica persiana come quella greca e latina. Tutto si può dire di lui, ma non che non fosse intelligente. Questo accadeva nel 1451, dall'altra parte del Bosforo. Sale al trono, ottomano, un ventenne, intelligente, un po' pazzo, che ha studiato disperatamente e che ha sviluppato uno strano carisma personale, oltre ad avere coltivato da sempre l'ossessione di conquistare Costantinopoli. Ma poco prima, nel 1448, c'era stata un'altra successione al trono. Era morto l'imperatore Giovanni VIII Paleologo senza lasciare eredi e gli era succeduto suo fratello minore Costantino. Costantino Paleologo, detto Dragasse, si faceva chiamare così dal nome di sua madre, Elena Serba, una donna che lo aveva sempre consigliato in tutto ciò che avrebbe mai fatto nella vita. Elena Dragas, di cui Dragasse. Ma prima di parlare di Costantino dobbiamo parlare di suo padre. Ne abbiamo già un po' accennato. Manuele II Paleologo era il padre degli ultimi bizantini, aveva sei figli. Il primo genito era appunto Giovanni VIII. Ce n'erano degli altri, ma la cosa importante era anzitutto lui, perché in realtà è lui il padre non soltanto degli ultimi regnanti, ma della loro politica. era figlio di Giovanni V Paleologo, nipote di quel genio di Giovanni VI Cantacuzzeno. Era salito al trono con l'aiuto occidentale imponendosi in una complicatissima lotta per la successione che si era incattivita fino a degenerare in una vera e propria guerra civile. Diciamo che le cose erano andate più o meno così. Vi ricordate la battaglia di Kosovo-Polie nell'89? Ecco, l'anno seguente, nel 90, il governo ottomano, forte, aveva strumentalizzato le aspirazioni dinastiche del giovane figlio del fratello maggiore di Manuele, che si chiamava Andronico IV e che aveva già tentato, con maggiore o minore successo, di usurpargli il trono per ben due volte precedentemente. Il trono che gli spettava, perché Giovanni V lo aveva associato a quel trono e lo aveva proclamato erede ufficiale. Però i soldati del figlio di Andronico e nipote di Manuele, Giovanni, con l'appoggio di Bayazit, si erano impadroniti di Costantinopoli nell'aprile del 1390. Giovanni era detto Kaloghiannis, Giovanni il piccolo, e di cui in turco Kaloyan. Kaloyan aveva usurpato il trono e si era proclamato imperatore col nome di Giovanni VII. Noi sapremo ben poco di questa vicenda se non ne fosse stato testimone oculare e non lo avesse raccontato nel suo meraviglioso diario un colto e molto pio viaggiatore russo di nome Ignazio di Smolensk, al quale Bisanzio sembra avere voluto offrire tutte le sue specialità, non soltanto le icone, le reliquie descritte nella prima parte del suo diario, ma i colpi di stato militari che in effetti erano tanto tipici della vita politica di Costantinopoli quanto le icone e le reliquie. Racconta Ignazio di come Manuele salì al trono nel tumulto della città, con la folla che tremava di terrore, con scontri che dall'alba duravano fino alla mattina e poi al pomeriggio, e con Manuele che entra a Costantinopoli con degli strani personaggi che avevano una croce scarlatta cucita sul petto. Chissà chi erano. Erano in realtà i veneziani ad aver aiutato Manuele a riprendere il suo trono. La prima cosa che Manuele fece fu però andare a rendere omaggio all'imperatore dei turchi. E che cosa fece l'imperatore? Lo trattenne come suo prigioniero e mandò al padre di Manuele, cioè al vecchio Giovanni V, un messaggio che diceva «Manuele non lascerà le mie mani fino a che tu non avrai distrutto il tuo castello». E così contro ogni auspicio il povero vecchio imperatore diede ordine che il vecchio, favoloso palazzo imperiale fosse smantellato. Lui morì per il dolore. I turchi liberarono Manuele che divenne imperatore e vai a zitt la folgore sentenziò «Chi non sapesse che è un imperatore se ne accorgerebbe al solo vederlo». Vi ricordate Bessarione? Bessarione, il reverendissimo signore Bessarione, destinatario della drammatica lettera a desiderio di Kiev da Creta in cui racconta la caduta di Costantinopoli? Ebbene Bessarione che a quel tempo era diventato cardinale orientale della curia romana, nel senso che sostanzialmente si era infiltrato nella curia romana per fare gli interessi della sua patria, Bisanzio, dopo che li aveva fatti al concilio di Firenze procurando questa unione virtuale delle chiese che era semplicemente un atto di realpolitik, un atto di cinismo, se vogliamo, politico che serviva a ottenere a Bisanzio l'aiuto degli occidentali e in particolare quel aiuto crociato che nel 1444 tuttavia, come abbiamo visto, il turco avrebbe fatto fallire a Varna nella battaglia di Varna in seguito alla quale appunto il povero Murad II avrebbe voluto ritirarsi tra i suoi dervisci lasciando Mermet II al trono ma non poté. Ebbene Bessarione quando scrisse, giovanissimo, probabilmente aveva 15-16 anni, era un enfant prodige, quando scrisse l'elogio funebre di Manuele II Paleologo alla corte di Costantinopoli lo definì un regale uccello migratore, era l'imperatore che vide l'Atlantico, era l'imperatore che nello sforzo diplomatico a 360 gradi per salvare il suo regno, il suo impero, l'impero romano come abbiamo detto, aveva discusso con i dotti francesi alla Sorbona, era stato ovunque, era stato nelle nevosi corti tedesche, era stato in Inghilterra dove i suoi modi e i suoi strani dignitari erano stati descritti da un cronista contemporaneo che peraltro era molto sensibile ai problemi di Bisanzio, Adam di Asc, quando Manuele Paleologo era stato alla corte di Enrico IV. Le cronache testimoniano sempre con grande stupore la vista di questi imperatori romani con le loro vesti ampie di broccato, i loro turbanti, le loro guardie del corpo che li seguono come ombre. Adam Asc dice che Manuele in visita a Londra era sempre attorniato dai suoi uomini vestiti tutti uguali e dello stesso colore, cioè di bianco in lunghe tuniche tagliate in guisa di tabarri, che lui trovava ridicole, perché diceva perché tante distinte fogge di abiti, negli abiti degli inglesi, si rispecchiava, secondo Manuele, l'incostanza e la mutevolezza del tempo inglese. Adam di Asc scrive che pensava in cuor suo quanto fosse crudele che un grande principe cristiano dovesse partire dal lontano oriente per visitare queste remote isole occidentali con un tempo così orribile. Però lo fece Manuele II passò veramente la vita a cercare aiuto e raccontò lui stesso la sua vita in una delle opere più belle della letteratura bizantina, che è il suo epistolario. Ma una cosa lo aveva segnato prima di tutto, il fatto che era stato vassallo del sultano, il fatto che aveva soggiornato alla sua corte come ostaggio, il fatto che aveva dovuto combattere al suo fianco contro la bizantina Filadelfia, che aveva dovuto perfino appoggiare con le proprie truppe la conquista delle ultime città greco-asiatiche dell'Asia minore. Ed era stato questo a consentire a Manuele II l'ingresso a Costantinopoli. E questo imprinting spiega la politica di Manuele, che poi sarà quella dei suoi figli, e che non è così lineare come potrebbe sembrare. Abbiamo detto che nel 1449, cioè quasi contemporaneamente a quando il padisciame Ahmed II, eredo del grande Murad II, aveva cinto la corona ottomana, il terzultimo figlio del Basileus, Manuele II, Costantino, Costantino Dragasse, aveva ottenuto, dopo lunghe controversie con i fratelli, l'ultima corona di Bisanzio. Costantino XI, Dragasse, sarebbe stato infatti l'ultimo imperatore di Bisanzio, un Costantino, a chiudere la grande serie di imperatori che con un Costantino era cominciata undici secoli prima. L'incontro di due temperamenti militari intransigenti, di due concezioni belliciste, dicono gli storici, diede fuoco alla miccia della distruzione. Sì, in parte questo è vero, nel senso che sia Mermet II, sia Costantino XI erano estremamente diversi, nel modo di essere proprio, nel carattere dai loro padri, cioè rispettivamente da Murad II e Manuele II, che erano anche amici. Ma dobbiamo tenere conto di una cosa. Manuele II aveva capito, anche per come era salito al trono, anche per il fatto di essere stato vassallo del sultano Bayazit, che la nuova realtà dell'impero andava affrontata e fronteggiata con un nuovo sistema di governo. Un sistema altrettanto nuovo, ma non necessariamente decadente e perdente, come in genere lo descrivono le analisi storiche quando parlano di questo impero smembrato, ridotto, un intarsio peraltro non continuo di regni. Anzi, le innovazioni che Manuele II introdusse, se la storia fosse andata diversamente, ma qui c'è sempre il problema della van-istorie, della storia fatta con i sé, certo la storia non si può pensare a una storia andata diversamente, però se qualche cosa, diciamo, fosse andato diversamente, le sue innovazioni avrebbero garantito la sopravvivenza dell'impero bizantino e cioè dell'impero romano. Non fu così anche perché, come diceva Robespierre, il caso è il re del mondo e dunque anche della storia. Comunque, quanto più il territorio dell'impero si contraeva, tanto più Manuele aveva capito che bisognava trasformare l'autocrazia imperiale in un governo pluricefalo che, creando un forte potere dinastico, prevenisse lo smembramento delle ultime parti dell'impero. Così Manuele aveva diviso quelle minime parti tra i suoi figli e, dopo la sua abdicazione e monacazione, lo scacchiere bizantino mostrava lo scettro di Costantinopoli nelle mani, come abbiamo visto, del primo genito Giovanni VIII, la morea in quello del secondo genito Teodoro II, in associazione con gli ultimi due, Demetrio e Tommaso. Tessalonica era stata affidata al terzo genito Andronico, che poi l'aveva ceduta ai veneziani e si era fatto monaco. Il governatorato di Amasè e Mesembria sul Mar Nero era stato affidato a Costantino, appunto al futuro Costantino XI. In seguito, però, a Costantino non sarebbe bastato quell'appannaggio. Una lunga lotta lo avrebbe opposto al fratello immediatamente maggiore, Teodoro Paleologo. E anche se per il principio della rotazione dinastica introdotto da Manuele II avrebbe dovuto seguire in linea di successione alla morte o all'abdicazione di Giovanni VIII, Teodoro, il titolo di Basileus in realtà passò direttamente, anche se non senza contestazioni, al volitivo Costantino XI. Per la politica di Manuele II, Paleologo e dei suoi figli, non è così lineare e così semplice come può sembrare, si diceva. In effetti, pensiamo a un fatto. Costantino XI, per esempio, si sposò due volte. La prima volta nel 1428 con Maddalena Tocco, la figlia di Carlo Tocco dell'Epiro, che prese nome Teodora e che morì l'anno dopo, nel novembre del 1429, la seconda volta con Caterina Gattilusio, un'altra italiana, figlia del signore di lesbo, un genovese. Anche lei morì nel 1442. Maddalena Teodora era morta ufficialmente di parto. È stato però notato dalla più imparziale letteratura scientifica che i decessi per parto o aborto non furono mai tanto frequenti nella corte bizantina quanto in occasione della permanenza a Mistra, la capitale della Morea, di cui era despota Costantino, di queste spose occidentali degli ultimi Paleologhi. Parlo di spose occidentali al plurale non solo perché anche la seconda moglie di Costantino, Caterina Gattilusio, dopo aver preso il posto di Teodora, morì così. E quindi non solo perché, non c'è dubbio, Costantino Paleologo era molto più attento alla ragione di Stato che a badare alle sue donne, come del resto i suoi cinque fratelli, ma perché in questi matrimoni con spose occidentali c'era già una strategia, una tattica diplomatica molto acuta di Manuele II Paleologo. Dobbiamo fare un salto indietro al 1418 al concludersi del concilio di Costanza con l'elezione di, finalmente, dopo lo scisma d'Occidente, un unico Papa, Martino V, Odone Colonna. Questa elezione era stata sicuramente molto aiutata dall'appoggio diplomatico della legazione bizantina a Costanza, inviata da Manuele II. Per sdebitarsi, Odone Colonna, Martino V, aveva promesso ai bizantini di risolvere, dopo che con il loro aiuto era stato risolto lo scisma d'Occidente, anche lo scisma d'Oriente, cioè il problema della divisione delle chiese cattoliche ortodosse. E proprio per questo, proprio all'indomani della sua elezione, aveva inviato una lettera in cui autorizzava i sei figli del Basileus bizantino Manuele II a sposare delle aristocratiche occidentali attraverso una formula, quella del matrimonio misto, che di fatto voleva dire matrimonio interconfessionale, cioè ciascuno dei due sposi avrebbe mantenuto la propria confessione, le spose quella cattolica e gli sposi quella ortodossa. In realtà la cosa fu più complessa di così. Dobbiamo tenere presente che, oltre alle spose date a Costantino, ma le due più importanti nozze che questa lettera, diciamo, rese possibili, furono quelle di Giovanni VIII stesso, il primo genito, con Sofia di Monferrato, e del secondo genito, Teodoro, despota di Mistrà, che avrebbe dovuto succedere, come abbiamo visto, al trono di Giovanni VIII, con Cleopa Cleopa Malatesta. Cleopa Malatesta era figlia adottiva di quel grande intellettuale filellenico filo bizantino, che era Carlo Malatesta, il signore di Rimini, figlia carnale di Malatesta dei Malatesti, detto Malatesta dei Sonetti, signore di Pesaro e Fano. Sarebbe morta in maniera molto oscura, prima di poter dare alla luce un erede al trono, un erede al trono bizantino, che sarebbe stato imparentato non solo con la casa dei Malatesta, ma anche, essendo Cleopa cugina di Martino V Colonna, ebbe anche con il Papa di Roma. Era quindi un unico disegno, la divisione dell'impero, il principio della rotazione, il matrimonio dei figli di Manuele II concessi da Martino V. C'è da dire che la loro inutilità dinastica fu clamorosa. Sofia di Monferrato si rese conto della situazione e riuscì addirittura a scappare dalla corte, lasciando Giovanni VIII libero di sposarsi la bellissima Maria Dalania, la stupenda Maria Comnena di Trebisonda, di cui un viaggiatore occidentale, che tra l'altro era una spia e di cui riparleremo Bertrandondo e la Brocchier, ci ha dato una descrizione straordinaria. Ma Cleopa, come abbiamo detto, morì. Abbiamo dei versi di Bessarione, sempre lui, che ritorna, ma è il protagonista, è il cervello di tutto questo nella generazione successiva, in cui, insomma, appare abbastanza chiaro che c'è qualcosa di oscuro dietro la morte di Cleopa e comunque appare chiaro dagli altri testi che furono prodotti dalla scuola di Mistrà, di cui Cleopa era diventata allieva, la scuola platonica diretta da Giorgio Gemisto Pletone. Appare chiaro che Cleopa era incinta, stava aspettando un erede, il famoso erede maschio, che avrebbe forse cambiato la storia se fosse stato partorito, ma non fu partorito perché madre e figlio furono forse uccisi o comunque furono eliminati dalla linea dinastica che avrebbe accomunato la ultima dinastia di Bisanzio con le principali signorie italiane e perfino quella del Papa. Il punto è che la Morea, nella divisione di Manuele II, era fondamentale, era importantissima. Quando Costantino XI viene incoronato Basileus, imperatore, viene incoronato a Mistrà, cioè nella capitale della Morea, non a Costantinopoli, poi dopo anche a Costantinopoli. La Morea era, nella divisione di Manuele II, il territorio bizantino più facilmente difendibile e al quale era stato, se vogliamo, dato il massimo lustro anche dal punto di vista culturale. Se la corte di Costantinopoli era una corte operativa, ma certamente abbastanza instabile, tant'è vero che molto spesso gli eredi al trono venivano spostati da Costantinopoli a Mistrà nel timore di una spedizione e di un assedio turco. Mistrà si trovava al centro del Peloponneso, sostanzialmente dove si trovano le rovine, si trovavano anche allora dell'antica Sparta, costruita su un monte scosceso, il monte Taigeto. Inizialmente era una cittadella franca, era stata edificata da uno di questi conquistatori crociati, poi un po' insabbiati, un villarduin, e poi era stata ricostruita e rifortificata dai bizantini. Ora, la morea è un punto fondamentale del piano politico, ripeto, meno semplice, meno semplicistico di quanto si possa pensare di Manuele II, dei suoi figli, e di Bessarione, il grande burattinaio della generazione successiva, perché costituisce in qualche modo il piano B della strategia bizantina. Che Costantinopoli possa accadere lo si sa, lo si sa presto, lo si sa forse un secolo prima del 29 maggio 1453. E la divisione dei regni e la costituzione in morea di una corte importante, stabile e soprattutto inviolabile, ebbè, significa qualcosa di molto preciso. Noi stiamo raccontando la conquista di Costantinopoli del 29 maggio 1453, ma non possiamo pensare Costantinopoli senza Mistra, e non possiamo capire, o non capire, la conquista senza tenere presente che la morea, in caso di conquista turca, magari provvisoria, di Costantinopoli avrebbe costituito il luogo, l'enclave, in cui si sarebbe attuato un salvataggio occidentale di Bisanzio. Abbiamo visto che nel 1204, quando Costantinopoli cadde sotto una pressione che proveniva da ovest, quella dei crociati, l'impero si rifugiò provvisoriamente a est, nella città di Nicea, in Asia minore. Se Costantinopoli fosse caduta in mano turca, magari provvisoriamente, come era caduta in mano latina nel 1204, anziché trovare un'ospitalità orientale, l'impero avrebbe trovato un'ospitalità occidentale, perché appunto in questo caso la pressione veniva da est. E questo presidio occidentale sarebbe stato la morea, sarebbe stata la corte di Mistra che era stata predisposta per questo, già da Manuele II. Questo lo sapevano benissimo tutti all'epoca. Lo sapeva il Papa di Roma, lo sapeva la Curia, lo sapevano i regnanti europei, lo sapevano i signori italiani, lo sapevano i Malatesta, lo sapevano gli Este, lo sapevano tutti, lo sapeva soprattutto Bessarione, lo sapevano tutti coloro che negli anni centrali del Quattrocento, diciamo tra il 1420, data dei matrimoni occidentali dei principi bizantini, al 1470, per 50 anni perseguirono un piano di salvataggio occidentale di Bisanzio, che avrebbe portato quel titolo così importante, quel titolo che non era semplicemente la corona di un regno balcanico qualunque, ma che era l'eredità dinastica legittima dell'impero romano che era stato continuato da Costantino, quel titolo sarebbe stato forse provvisoriamente, comunque in ogni caso vitalmente conservato a ovest sotto probabilmente la sfera di influenza papale e comunque sicuramente a tutelare anche gli interessi commerciali delle repubbliche mercantili che nel Peloponneso avevano i loro principali scali strategici, come abbiamo visto, così come nel Peloponneso con l'Episcopato di Patrasso gli interessi confessionali della Chiesa Cattolica avevano una grandissima testa di ponte. Quindi bisogna tenere conto del fatto che nella scuola platonica di Mistrà, di cui abbiamo parlato, diretta da quel grande filosofo che era Giorgio Gemisto, il reintroduttore del platonismo nel Quattrocento, colui che trasmetterà il contagio platonico all'umanesimo e poi al rinascimento occidentale, quel platonismo definito da Eugenio Garen la filosofia della eversione europea. Ebbene, in questa scuola filosofica di Mistrà, di cui faceva parte Bessarione, di cui fece parte anche, pur essendo una donna, la giovane Cleopama alla testa prima di morire misteriosamente, si coltivavano idee politiche ben precise che tendevano alla istituzione di una nuova forma statale ellenica, in teoria di stampo platonico, ma in pratica riveduta e corretta in base allo studio delle moderne esperienze statali dell'Occidente. La formula politica di questa morea, che sarebbe stata una nuova Bisanzio, avrebbe dovuto essere ben diversa da quella della Basileia multietnica plurinazionale che si era appunto gradatamente ristretta fino a quasi estinguersi nei secoli precedenti. Doveva essere una specie di città-stato a metà tra la polisellenica e la signoria rinascimentale italiana. E questo in uno schema molto precisamente elaborato negli scritti politici di Gemisto stesso e poi di Bessarione, che solo apparentemente erano utopistici. Gemisto, nella sua raccomandazione al despota Teodoro sulla situazione del Peloponneso e poi nel suo memoriale all'imperatore Emanuele sui fatti del Peloponneso. Bessarione, quantomeno, nella sua lettera a Jacopo della Marca. Il programma politico di riforma della morea e di costituzione nella morea di una nuova Bisanzio, elaborato negli scritti politici di Gemisto e poi riecheggiato in quelli di Bessarione, era solo apparentemente utopistico. Entrambi, nei documenti operativi che avevano inviato i regnanti bizantini, proponevano delle riforme concrete, in alcuni casi possiamo dire illuminate. C'è un grande storico russo, Vassiliev, che è arrivato a paragonare le opinioni politiche della scuola di Mistra a quelle di Rousseau e di Saint-Simon. Ogni dettaglio veniva considerato e studiato alla scuola di Gemisto in modo molto concreto. I complessi testi della legislazione bizantina, per esempio, ma anche gli aspetti economici, fiscali, l'amministrazione territoriale, i problemi di economia monetaria, il risanamento della bilancia commerciale che invocava misure protezionistiche contro le importazioni di beni producibili all'interno, la modernizzazione delle tecniche di produzione, oltre a una riforma della pubblica istruzione concepita personalmente da Bessarione che avrebbe dovuto aggiungere allo studio delle lettere quello delle tecnologie per adeguarsi appunto ai progressi tecnici dell'Europa nord-occidentale e ritrovare, adattandola agli equilibri del mondo moderno, la prosperità e l'autonomia dell'antica Grecia. Questo programma così dettagliato era prodotto da un vero e proprio laboratorio di analisi politica in cui operavano i migliori cervelli di Bisanzio e anche per questo il giovane, allora Bessarione, vi era entrato. Non possiamo non pensare che tutto questo fosse assolutamente presente anche a Costantino XI quando si decise a rimanere a Costantinopoli nonostante l'assedio si facesse sempre più duro, gli attacchi di Mermet sempre più frequenti, i bombardamenti sempre più insidiosi e incessanti. Per tre volte a Costantino XI fu proposto di ritirarsi a Mistrà, in Morea. Il sultano stesso aveva garantito la possibilità di continuare l'impero in Morea e invece Costantino XI, l'ultimo imperatore di Bisanzio morì in battaglia. Molti non sarebbero riusciti a crederci, avrebbero detto che si era marmificato, che era diventato una statua di marmo sprofondata nei sotterranei della città e che ogni notte avrebbe continuato a animarsi a combattere contro gli infedeli, lanciando con la spada scintille nel buio. Alcuni cristiani ortodossi considerano Costantino XI un santo, anche se non è stato ufficialmente beatificato. Certamente quello che noi possiamo giudicare dalle fonti del suo comportamento eroico nella difesa di Costantinopoli è moralmente notevole, ma al di là di questa non ufficiale, ufficiosa glorificazione di Costantino XI come etnomartir, c'è anche stata nella piazza della cattedrale di Atene l'erezione della statua di San Costantino XI etnomartire con la benedizione formale delle autorità ecclesiastiche, c'è una sua festività che cade proprio il 29 maggio. Ma al di là di questo il vero grande problema che si pone nell'analista di fronte al comportamento di Costantino XI a Costantinopoli è come mai non adottò il piano B, come mai non lasciò la città per andare a Mistra. Quando il 3 febbraio del 1451 Murad II era morto e quando il 18 febbraio suo figlio Mermet era stato incoronato sultano aveva anche rinnovato la pace con l'imperatore Costantino XI, con l'etnomartire di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata. Il nuovo sultano si era impegnato a pagare una somma di 300.000 aspri, monete d'argento, che erano un capitale all'epoca, considerando anche la povertà dell'impero, a favore di Urkan Celebi. Chi era questo Urkan? Era un aristocraticissimo turco, presunto nipote di Bayazit, pretendente al trono, che già da tempo era ostaggio a Costantinopoli. Ci sarebbe molto da dire su cosa significava essere ostaggi a Costantinopoli, sulla quasi ineluttabile bizantinizzazione che questa posizione portava. Vedremo il ruolo, che non fu piccolo, del principe Urkan, nipote di Solimano I, nell'assedio di Costantinopoli. In ogni caso, in quel trattato di pace, Costantino XI aveva giurato sulla Bibbia e soprattutto i rappresentanti di Mehmet avevano giurato sul Corano che non avrebbero violato il territorio imperiale. Ma il 15 aprile del 1452 Mehmet violò quei patti. Già il 26 marzo era arrivato nel Bosforo alla testa di un esercito di circa 50.000 uomini, che per lui erano pochissimi, e con una flotta di 30 navi fra triremi e navi da trasporto, ne parleremo poi meglio. Il 15 aprile sbarcò addirittura nel territorio bizantino e diede inizio alla costruzione di una grande fortezza sulla sponda europea del Bosforo. Dopo avere delimitato il perimetro personalmente, non senza naturalmente l'aiuto degli astrologi, oltre che di tutti i suoi ingegneri e dei suoi tre generali, il saggio Khalil Pasha, di cui abbiamo già detto, e poi altri due, Saganos Pasha e Karajah Pasha, che avrebbero avuto un ruolo fondamentale poi nell'assedio. Costantino già tra febbraio e marzo gli aveva mandato un'ambasceria che non era stata ricevuta e il giorno stesso dell'inizio della costruzione una nuova protesta bizantina aveva fatto presente al sultano che in base ai patti non poteva assolutamente costruire fortificazioni sulla costa occidentale, ma Mehmet aveva risposto che serviva a rendere più sicuro il passaggio alle sue navi, il controllo del suo territorio, insomma ha continuato a negare ogni intenzione ostile nei confronti della capitale bizantina. Durò quattro mesi e mezzo la costruzione di quello che all'epoca i tuiti chiamavano Bogaz Kesen, ossia il castello che taglia lo stretto, ma anche più semplicemente e più letteralmente il taglia gola, perché stretto e gola in turco sono sinonimi. La corte bizantina, tutta la popolazione avevano assistito allibiti a questa gigantesca opera e intanto avevano continuato a lanciare invocazioni di soccorso agli occidentali che però rimanevano in evase. Il 14 febbraio di quell'anno per esempio il senato veneziano in risposta all'ambasciatore bizantino che era tornato precipitosamente a Venezia per informarlo dei preparativi di Mehmet si era limitato a suggerirgli di sollecitare aiuti da Firenze, da Roma e da altri principi occidentali perché i veneziani non sarebbero intervenuti se non in seno a un'alleanza che li precedesse. Questo è un primo esempio della tattica attendista che sarebbe stata in questa faccenda assolutamente tipica dei doji. Nel mese di giugno dello stesso 1452 Costantino inviò una seconda ambasceria a Mehmet chiedendo un'ulteriore formale rassicurazione che la costruzione del Tagliagola non comportasse un assedio della città. Risposta, decapitazione degli ambasciatori. E fu solo l'inizio. Tra giugno e luglio i greci bizantini delle città intorno a Adrianopoli, quelli che non erano stati già espulsi e spossessati dei loro beni furono massacrati con violenze e saccheggi terribili. Ce ne fu uno, celebre, quello degli abitanti di Epibation. Costantino come rappresaglia arrestò i turchi residenti a Costantinopoli ma poi si rese conto dell'inutilità di questo provvedimento e li rilasciò perché intanto c'è da dire che a Mehmet le vite dei suoi sudditi interessavano pochissimo. Ne avrebbe con assoluta disinvoltura sacrificate infinitamente di più pur di raggiungere anche il più marginale degli obiettivi tattici dell'assedio. E poi c'è da dire che i turchi residenti a Costantinopoli erano molto filo bizantini, erano degli amici, insomma furono rilasciati e furono in quell'occasione chiuse le porte della città. Il 31 agosto il Tagliagola, che sarebbe stato poi in seguito denominato Rumeli-Isari, era terminato e faceva così da gemello a quello che già Bayezid I aveva costruito sulla sponda opposta del Bosforo, la fortezza asiatica oggi detta Anadolu-Isari. Va detto che per progettare la nuova fortezza Mehmet II aveva adunato su quelle sponde europee, 5.000 tecnici che nell'opera di costruzione erano stati coadiuvati da migliaia tra muratori, carpentieri, operai di ogni genere e naturalmente dalle truppe, il che spiega la velocità con cui il Tagliagola fu ultimato. Abbiamo delle descrizioni piuttosto precise di come era fatto, due storici ce le danno, Ducas e Calcondila. Aveva una forma quasi triangolare che seguiva la conformazione del terreno, peraltro scelto personalmente dal giovane sultano. Aveva una cinta muraria alta 15 metri e spessa 2 metri e mezzo almeno, se non di più, arrivava fino a 5 metri di spessore. Aveva due grandi torrioni alti 70 metri e altre 9 torri. E soprattutto le torri meridionali, quelle che davano sullo stretto, erano letteralmente gremite di artiglieria. Quella innalzata da Mehmet e dai suoi tecnici in soli 5 mesi era veramente una fortezza immensa. Secondo i turchi, le sue fondamenta raggiungevano il centro della terra e dai merli delle sue torri era possibile osservare le stazioni della luna. Ma il terrore suscitato da tutto questo negli abitanti di Costantinopoli non è neanche paragonabile a quello che provarono il 3 settembre successivo, giorno in cui, contrariamente a quanto era accaduto alle povere città circostanti Adrianopoli, non fu versata una sola goccia di sangue. Ma semplicemente Mehmet marciò dal tagliagola fin sotto le mura di Costantinopoli alla testa di 50.000 uomini, accompagnato dal suo stato maggiore e dai suoi tecnici per non fare assolutamente nulla se non studiare le fortificazioni della città, quanto mai serenamente, mettendo al contrario alla prova per tre interi giorni i nervi degli abitanti. All'interno della città bisogna dire che i difensori, che anche includendo gli occidentali e i magri rinforzi che sarebbero sbarcati durante l'assedio, erano complessivamente meno di 5.000, contro i 400.000 effettivi dell'esercito turco. In seguito dettaglieremo meglio queste cifre che naturalmente variano da fonte a fonte. Dobbiamo però considerare che gli effettivi turchi non erano soltanto costituiti dalle truppe regolari anatoliche temibilissime, ma anche dal neoriformato corpo dei Giannizzeri, ancora più temibili, e da una valanga di irregolari, i cosiddetti basci bazook. Ma sì, leviamoci il pensiero sulle stime degli uomini in grado di combattere all'interno della città. Secondo Sfranz, che era il gran logoteta dell'imperatore che ebbe l'incarico di farne il censimento, c'erano 473 bizantini e circa 200 stranieri, cioè latini. Quindi un totale di 4973 uomini. Forse questa cifra è un po' in difetto. Possiamo aggiungere che Ducas parla di 4.000 combattenti, ma in un altro punto di circa 8.000. Leonardo Di Chio, un altro testimone, come vedremo, dell'assedio, dice che erano 6.000 ai greci e 3.000 ai latini. 5.000? 4.973? 6.000? Comunque i turchi erano, secondo alcuni, 700.000. Ma queste sono le fonti turche che forse esagerano. Secondo Calcondilas, Ducas e Dotti, 400.000. Secondo Critobulo, Isidoro di Chiev, Leonardo Di Chio, Enrico di Sommern, Nicola da Foligno e l'anonimo Veneto del Lamento di Costantinopoli, 300.000. Secondo Ducas, da 260.000 a 400.000. Secondo Quirini e Montaldo, 240.000. Secondo Sfranz, 200.000. E solo 160.000, secondo Barbaro. Va detto che queste stime in realtà non sono complessive, cioè riguardano di volta in volta i reparti che erano in azione e quindi possiamo considerare che il mezzo milione di uomini forse è effettivamente quello più corrispondente, la valutazione più corrispondente alla realtà. Quindi siamo a un rapporto da 5.000 a 500.000. Il tutto per assediare una cinta muraria lunga 22 chilometri e mezzo. Perché per questo Mermet aveva fatto il suo sopralluogo di tre giorni terrorizzando i bizantini con l'esercito che si era portato dietro, i tecnici, lo Stato Maggiore? Perché doveva ispezionare qualcosa che era leggendario nel mondo medievale, e cioè le mura di Costantinopoli. Perché la città, con tutti i suoi diversi quartieri che erano divisi da larghe zone di verde, era tutta all'interno delle mura, se si eccettua il quartiere genovese di Pera o Galata, e si estendeva lungo una penisola quasi triangolare dai lati leggermente curvi che si insinuava nel Bosforo avendo a sinistra il Mar di Marmara, mentre a destra era divisa dalla costa traccia dalla famosa fessura del Corno d'Oro, al di là del quale si trovava appunto il quartiere di Pera. Ora, i due lati sul mare erano abbastanza facilmente difendibili già di per sé. Sul lato sud, lungo il Mar di Marmara, da sempre gli scogli e le secche avevano scoraggiato gli attacchi. E neanche a nord, sempre sul tratto di mare, le mura erano accessibili se il nemico non penetrava nel Corno d'Oro, cosa che non era riuscita a nessuno, cioè era riuscita soltanto a loro tempo nel 1204 ai crociati e ai veneziani che però controllavano pienamente il porto e il cui ingresso era stato consentito dal contrasto interno fra i partiti bizantini. Per questo le mura lungo il Mar di Marmara erano relativamente semplici, a picco sul mare e vi si aprivano ben 11 porte, erano aperte in 11 punti. Lungo il Corno d'Oro invece, nel corso dei secoli, si era formato un litorale che ormai nel XV secolo era gremito di magazzini e di imbarcazioni da pesca. Per agevolare i trasporti che vi si svolgevano continuamente, qui le mura avevano ben 16 porte. Il lato debole non era il mare, era l'entroterra. Ma le mura che proteggevano l'entroterra erano le mura teodosiane, quella gigantesca fortificazione costruita nel V secolo d.C. dall'imperatore Teodosio II, che tra l'altro è ancora visibile oggi nonostante il maldestro restauro turco. Vabbè. Comunque, nessuno le aveva violate. Si estendevano in lunghezza per 7 km. Diciamo a nord dal quartiere delle Blacherne, dove si trovava nel XV secolo il palazzo imperiale, mentre l'estremità sud del confine di terra coincideva con il quartiere di Studion sul mar di Marmara e con la porta d'oro circondata da grandi leggende. Per l'intersezione nord, quella delle Blacherne, bisogna dire che le mura scendevano verso la porta di San Romano e la chiesa di San Salvatore in Cora, una delle più belle chiese del mondo, l'attuale Cari e Giami. C'è a questo punto delle mura la porta Carseo, porta di Adrianopoli, vicino alla quale c'era la chiesa di San Giorgio. Si diceva che il santo spesso fosse comparso sul tratto di mura vicino alla chiesa per respingere vari invasori e questa porta dava adito fra l'altro alla Mese Odos, che portava dritta al foro di Teodosio, a quello di Costantino e di qui a sinistra a Santa Sofia, a destra all'ippodromo e al vecchio palazzo. Per le mura marittime potremmo prendere come riferimento, per la parte del mar di Marmara, oltre a Studion, la famosa chiesa della Vergine Peribleptos e poi i porti, Eleuterion con Toscalion, Iulianu, il Bucoleon e poi il faro con la porta Fari e la chiesa dell'Odigitria e i mangani e l'Acropoli e infine, quasi in corrispondenza della porta di Santa Barbara, la punta del Serraglio, che ovviamente viene chiamata così dopo. Per la parte delle mura marittime sul lato del Corno d'Oro, naturalmente il punto di riferimento principale è il quartiere veneziano e più a nord-ovest la chiesa di Santa Teodosia, oggi Gulciami, la Moschea delle Rose, perché secondo la leggenda è il giorno in cui la città fu presa, l'edificio era inghirlandato di rose per la festa della Santa. Attenzione però, questo sbarramento straordinario, che nessuno aveva mai violato e che possiamo considerare una sorta di linea convessa, ma sostanzialmente dritta, che appunto dalla intersezione con il Corno d'Oro portava all'intersezione con il mar di Marmara, aveva un'ingegneria assolutamente complessa. Iniziando dall'esterno c'erano, un muro di controscarpa che delimitava un fossato largo 20 metri, un secondo muro che stavolta culminava in un bastione merlato. Dopo questo si apriva il Paratechion, ossia un camminamento largo altri 15 metri. Seguiva il primo muro vero e proprio alto 8 metri e scandito ogni 50-100 metri da torre. C'era poi il Peribolos, che era un altro camminamento a livello più alto del Paratechion e più o meno largo in media, come il Paratechion, 15 metri. Infine c'erano le mura interne, alte 12 metri, con torri messe in modo tale da alternarsi a quelle della cinta esterna, quindi di fatto sorvegliare l'intera lunghezza. La convinzione errata, come vedremo, che Mehmet II si formò dopo quel primo sopralluogo, era che la città si potesse conquistare solo se la si bloccava anche dal mare. Vedremo quanto sarebbe stata errata. La topografia di Costantinopoli. Quando alla vigilia dell'attacco finale, la notte del 28 maggio 1453, Mehmet II fece il suo discorso agli ufficiali, dopo aver enumerato, come riferisce sfranze le volutà promesse nel paradiso islamico ai credenti morti in combattimento, iniziò a descrivere le ricompense più terrene che la conquista avrebbe fruttato. E la prima cosa che disse fu, troverete una città meravigliosa, con grandissimi giardini profumati di fiori di ogni genere. In effetti era così. Il mese di maggio le rose fiorivano, non soltanto negli spazi verdi che distinguevano un quartiere dall'altro, ma anche proprio nelle siepi che costeggiavano i viali. Va detto che la città era stata parzialmente abbandonata e quindi le zone di verde si erano allargate. Ma l'impressione che lo studio della topografia di Costantinopoli e delle sue fortificazioni fece ai turchi, forse ce lo racconta meglio di nuovo Tursunbeg. Quando racconta questo, dice che le fondamenta di Costantinopoli poggiano dove il toro terrestre, la catena montuosa del tauro, intreccia le sue corna con quelle del toro celeste, la costellazione del toro. Il vento della vittoria che scompiglia i capelli è la tua bandiera, Giove e Venere, i due pianeti felici della natura sottile sono la tua bandiera, continua Tursunbeg. E nella narrazione che ci ha lasciato del sopralluogo del giovane sultano, questo simbolismo zodiacale ritorna a confermare questa fortissima dimensione mistico-astronica della conquista. In Tursunbeg, oltre alla descrizione di Bogatzke-Sendel, del tagliagola, in cui il luogo e l'ora della fondazione sono decisi dagli astrologi, e a quella dell'accampamento turco che vedremo, si sente che la sorte delle mura di Costantinopoli è assimilata alla situazione della costellazione del Capricorno. In effetti, se per caso avete qualche amico astrologo, vi potrà confermare che la situazione astrale del 29 maggio 1453 ha dei punti in comune con quella dell'11 settembre 2002. Ma la butto lì, senza insistere. Vorrei però, a proposito di questo misticismo, di questa sorta di delirio, di ebbrezza che pervade le fonti turche, sottolineare anche un altro aspetto, questa sorgività dell'ondata turca, del misticismo islamico e particolarmente ottomano. Questo peculiare senso di essere guidati da una forza più grande, di essere uno strumento della provvidenza, che si avverte nelle fonti turche e che peraltro fa da pendant allo stesso sentimento, negativo però, che emergerà nella mistica e nella teologia ortodossa della caduta, nella dottrina della oiconomia divina, cioè della dolce provvidenza divina che ha fatto cadere Costantinopoli per un motivo preciso, nella fattispecie per punire una serie di deviazioni dalla sorgività, per l'appunto, cristiana. Ma a proposito di sorgività, va detto che all'epoca l'ondata turca sembrava portata proprio dalle ali del platonismo. Era vista come parallela a quella rinascita degli antichi valori ormai perduti dall'aristoterismo occidentale, ma anche bizantino. Non è un caso se gemisto il capo della scuola platonica, il reintroduttore del platonismo nel rinascimento occidentale, oltre che a Bisanzio, verrà chiamato secondo Maometto. Una dottrina della provvidenza che taglia trasversalmente i fronti. Una disposizione mistica che viene avvertita come più sorgiva nell'Islam addirittura che nel mondo occidentale, ma anche nel mondo greco-bizzantino, che infatti ha reagito reinventando, reintroducendo il platonismo e in qualche modo reintroducendo una forma di misticismo, di spiritualità più intensa. Non dimentichiamo che i catari di Bosnia si arresero agli islamici pur di contrastare il proselitismo del Papa. Beh, c'era stata l'inquisizione in Bosnia contro i catari, l'eresia dualista che così si chiama in Occidente, ma che in tutto l'impero bizantino continuava a prosperare un'eresia agnostica che si chiama a seconda delle zone in cui viene a prosperare paolicianesimo o bogomilismo. Ma comunque questi eretici, questi mistici sentivano più vicini al loro tipo di cristianesimo gli islamici che i papisti, come li chiamavano, i latini. Questa trasversalità è importante, la vedremo poi in tante altre cose, vedremo come i due fronti siano composti sostanzialmente allo stesso modo, sia dal punto di vista etnico, sia dal punto di vista religioso, difficile, difficile vedere nell'assedio di Costantinopoli un testa a testa, un confrontarsi di due civiltà diverse. Comunque la decisione ufficiale dell'assedio arriva a questo punto, arriva all'inizio di gennaio e naturalmente c'è un primo tentativo dello Stato Maggiore di Mehmet II di fermare il giovane sultano, in particolare viene da Khalil Pasha. Mehmet non ascolta il suo antico precettore, Mehmet anzi gira travestito per le vie di Adrianopoli, come ci racconta Ducas, lo storico bizantino, per cogliere lo stato d'animo dei suoi soldati ancora accampati lì. Il partito dei moderati era perplesso, ma va detto che i moderati erano coloro che avevano servito Murad, il padre di Mehmet II. E gli altri invece avevano giurato la loro fedeltà al figlio e addirittura sospettavano che il visir Khalil Pasha fosse una spia dei bizantini, per la sua prudenza. Oddio, è una notizia accreditata da qualche occidentale. Per esempio, Leonardo Di Chio ritiene che l'accusa di essere in parte almeno al servizio dei bizantini, che poi costerà la vita a Khalil Pasha, che verrà decapitato non solo per disfattismo, ma anche per connivenza con il nemico, avesse qualcosa di vero. C'è da dire che anche altre volte Khalil avrebbe fatto sentire la sua voce e sarebbe sempre stata una voce di pessimismo e di moderazione. La conquista di Costantinopoli avvenne, come sappiamo, ma fu per più di un verso casuale. Costò al giovane sultano moltissimo. Non sarebbe mai avvenuta se un sovrannumero di circostanze negative e imponderabili non esse travolto i bizantini. Prima fra tutte, come vedremo, l'ambiguità indecifrabile delle repubbliche mercantili, che essi erano contese, essi contendevano il controllo dei traffici in quello spicchio di mare ormai ristretto dopo la fine della tax mongolica e che erano principalmente Genova e Venezia. Sì, perché se pensiamo a chi erano, non solo a quanti erano, i difensori di Costantinopoli al momento in cui Mehmet II comunica la decisione dell'assedio, dobbiamo tenere presente che oltre ai bizantini, che comprendono fra l'altro anche tutti i monaci, che non sono pochi, a difendere la città ci sono veneziani, militari ma anche equipaggi di mercantili, ci sono genovesi o quantomeno greco-genovesi, cioè i mercenari di Giovanni Giustiniani Longo, ci sono i 200 uomini che porterà con sé Isidoro di Kiev quando arriverà da Chio con appunto Leonardo di Chio, l'altro testimone della conquista, i catalani di Pere Julià e poi il già nominato principe Orcan con i suoi turchi. Detto questo, il perno della difesa è proprio occidentale e è un genovese, un genovese esperto di poliorcetica, un nobile di Chio, di nome Giovanni Giustiniani Longo. Noi abbiamo pochissime notizie sulla sua personalità e la sua biografia. Sappiamo che quando arriva a Costantinopoli, seduta stante, Costantino lo nomina protostrator, cioè sostanzialmente generale di terra. Sappiamo che è un favoloso anticipatore delle mosse del sultano. Non è soltanto la preparazione tattica della battaglia che in qualche modo è da scrivere a lui, ma anche il prevenire le mosse di Mermet che probabilmente gli derivava da un ottimo rapporto con la rete di intelligence internazionale che nel frattempo si era messa in moto. Dobbiamo pensare in questo momento, questa è la storia non scritta, la storia di cui non abbiamo memoria, ma abbiamo degli accenni e comunque possiamo certamente immaginarlo. In questo momento dall'Inghilterra alla Mongolia, dalla Curia papale a naturalmente tutte le repubbliche mercantili che poi avevano le navi veloci, avevano i mezzi di trasporto, c'è un reticolo di spie che si passano informazioni. Non possiamo altrimenti spiegarci come mai Giovanni Giustiniano Longo si porta un maestro minatore tedesco, se non pensiamo che abbia avuto notizia del fatto che Mermet avrebbe utilizzato i minatori serbi delle miniere d'argento per scavare delle gallerie sotto le mura, in quella che quindi sarà la prima guerra di mine della storia della poliorcetica. Comunque su Giovanni Giustiniano Longo abbiamo un paio di cose da dire. Intanto la sua investitura è inizialmente genovese. Il 23 luglio del 52 viene convocato a Genova perché a Genova i consigli e l'opinione di un autorevole consigliere come Gabriele Doria avevano manifestato grande preoccupazione non tanto per Costantinopoli ma per Galata e per Caffa, cioè per le due teste di ponte mercantili genovesi. Tanto che avevano invitato i cittadini ad arruolarsi per la difesa di Caffa, il governo di Genova a un certo punto aveva costretto con la forza gli abitanti della riviera di Ponente che pur avendo ricevuto il soldo cercavano di sottrarsi all'imbarco per il Levante. Giovanni Giustiniano Longo era stato chiamato a Genova, poi a un certo punto messo sotto inchiesta insomma i partiti, le divisioni erano moltissime. Però noi sappiamo che quando Giovanni Giustiniano Longo arriva a Costantinopoli è arrivato il vero grande cervello tattico della battaglia. Mentre i genovesi si riuniscono, si lambiccano, si consigliano, si punzecchiano e comunque cercano di capire come salvare i loro interessi sia attraverso la difesa delle loro teste di ponte, sia attraverso la diplomazia con i turchi, i veneziani non sono da meno. Tutto questo periodo precedente, l'inizio dell'assedio vero e proprio era stato dominato da infinite, innumerevoli, forse anche noiosissime, per questo ve le ho un po' risparmiate, discussioni all'interno del Senato veneziano. Ce ne sono due in particolare importanti. Quella dell'agosto del 1452 in cui il Senato veneziano decide di inviare Gabriele Trevisan che aveva il titolo di vicecapitano del golf, con una galera veloce a Costantinopoli per organizzare la scorta a tre galere da mercato che devono rientrare da Tana, dal Mar d'Azov. Queste navi, le navi di Trevisan e quelle del sovracomito Zaccaria Grioni, sono delle galere veloci e armate, arrivano a Costantinopoli all'inizio di ottobre del 1452. Poco più tardi i veneziani di Costantinopoli nella loro assemblea invieranno a Venezia per mare e per terra lettere che spiegheranno al loro governo le ragioni che li hanno spinti a trattenere le navi. Ed è così che Trevisan, ma tanti altri, anche capitani di mercantili, equipaggi, insomma individui comuni, non politici, non diplomatici, non strateghi, rimarranno a Costantinopoli, parteciperanno ai lavori di rafforzamento delle difese, parteciperanno alla difesa delle mura. Trevisan e i suoi saranno dislocati a proteggere il tratto fra la porta di Kinegon e la porta del Fanario, lui con 400 veneziani insieme a Giorgio Di Nicolò da Drivasto. Ma gli atti di eroismo singoli, individuali, dei veneziani che sono a Costantinopoli o che si trovano intorno a Costantinopoli, ripeto, capitani di mercantili, gente ordinaria, si moltiplicano, sono infiniti e contrastano con l'attendismo, il cinismo, l'eccesso di prudenza del Senato veneziano. Questo elemento di incertezza continua nelle decisioni, in particolare di Venezia, è forse la chiave di volta per spiegare tutta la battaglia e anche per spiegare quel problema di cui si era parlato prima, cioè come mai Costantino non raggiunse Mistra, non andò in Morea, non lasciò la città. perché in realtà qui era questione di un voto in più o di un voto in meno all'interno del Senato di Venezia. E, signori, qui il problema della modernità. Se in questa sorta di duello allegorico tra Venezia e Bisanzio, Venezia rappresenta la modernità, rappresenta anche il pluralismo e il pluralismo a volte fa degli scherzi. Insomma, all'inizio dell'evo moderno a far cadere Bisanzio non furono solo i turchi. L'impero che Mermet II raccolse era già ostaggio di una logica che gli era intrinsecamente estranea. Una logica finanziaria. La logica, per l'appunto, per dirla con Brodel, del protocapitalismo dei traffici. La logica delle repubbliche mercantili. Già Alessio I Comneno, il padre di quella grande scrittrice intellettuale che è Anna Comnena, nel 1081 aveva concesso ai veneziani i primi monopoli, le prime franchigie, perfino le mescite di vino lungo le rive occidentali del corno d'oro. In tre secoli un crescendo di violenze aveva insanguinato quelle rive perché il popolo di Costantinopoli si ribellava contro la colonia veneziana mentre il governo era costretto ad accettare prestiti a tassi di interesse sempre più alti. Nella tragedia di Bisanzio possiamo considerare il profitto, il profitto privato come una sorta di deus ex machina. Protagonista e antagonista. Il mondo di ieri e il mondo di oggi. L'antichità e la modernità. Furono attori. Recitarono sino in fondo le loro parti. I d'oggi furono coerenti. Le loro valutazioni particolari furono sempre profetiche. Il loro pessimismo generale fu sempre giustificato. Eppure l'insieme dell'operato veneziano ebbe sul piano storico un effetto rovinoso per Venezia stessa. Quanto ai genovesi, già nei primi anni del 300 si erano arroccati nel quartiere di Galata o pera, pera significa al di là, cioè al di là del corno d'oro, e avevano conquistato Chio, l'avevano persa, poi l'avevano ripresa. E per tutto il 300 l'impero bizantino era stato destabilizzato al suo interno dalle guerre e guerriglie finanziate e armate da Venezia e Genova che poggiavano per danneggiarsi l'un l'altra sui conflitti sociali e sulle contese dinastiche dei bizantini. Sette anni dopo essere stata ceduta in protettorato a Venezia, per esempio Tessalonica fu assediata dai turchi. Il governo veneziano obbligò quella che era stata fino ad allora la seconda capitale dell'impero a resistere a oltranza contro ogni realismo, perché le banche della Serenissima avevano investito grandi capitali in città, non la si poteva perderla. I figli dei greci sì, potevano morire di fame, pena l'arresto e la deportazione dei padri, quando non la tortura o la condanna a morte per tradimento. Però, quando Tessalonica cadde e per tre giorni e tre notti subì, dopo tanta ostinazione, il vendicativo saccheggio islamico, le navi in attesa nel porto permisero la fuga ai soli funzionari veneziani, non ai civili bizantini, che furono sterminati a migliaia. È vero che quando Costantinopoli fu assediata i movimenti delle monarchie europee sullo scacchiere del Mediterraneo, che tra l'altro era dominato dalla nuova potenza aragonese, erano lontani dal Bosforo, che le finanze pontifici erano assorbite dalle trattative con re di Napoli. Però il punto vero è che se la flotta veneziana fosse arrivata, se la flotta veneziana, che poi era partita ed era rimasta a largo, avesse avuto il permesso o comunque non fosse stato contestato dal Senato veneziano l'assoluto bisogno di quell'aiuto, Costantinopoli non sarebbe stata abbandonata al suo destino. In quello stesso anno va detto che alcuni senatori veneziani presentarono al Senato una mozione perché Costantinopoli venisse abbandonata. Ora, la mozione non fu approvata, però è già significativo che sia stata presentata. Anche Tursunbeg si è accorto di questa ambiguità di Venezia. Gli infedeli, a nota naturalmente alludendo ai cristiani, erano aiutati da navi da guerra occidentali alte come montagne. Si trattava delle navi veneziane, con i loro mille marinai comandati da Trevisan, Diedo, Denier e dagli altri ufficiali della serenissima distanza nel Bosforo. Abbiamo visto che durante il Consiglio che si era riunito al profilarsi dell'assedio, la maggioranza dei veneziani influenti a Costantinopoli aveva votato per restare e partecipare alla difesa della città. E abbiamo visto che sulle due navi venute da Genova e dalle colonie al comando di Giovanni Giustiniani Longo erano arrivati altri 700 uomini genovesi. Abbiamo visto che Giovanni Giustiniani Longo avrà il titolo di protostrator, cioè di responsabile della difesa terrestre, mentre il Trevisan capitale di mare sarà appunto il responsabile della difesa per mare. E questo dunque dentro Costantinopoli avviene. Dentro Costantinopoli abbiamo una sorta di coscienza che Venezia e in parte anche Genova hanno vissuto, hanno potuto vivere in qualche modo come parassiti dell'impero bizantino e che se l'impero bizantino cade saranno danneggiati, forse saranno annientati anche loro, anche questi capitali, questi profitti immensi accumulati nel Levante. Però ecco è un po' come il famoso aneddoto della rana e dello scorpione che vuole attraversare lo stagno. La rana dice allo scorpione ma non mi pungerai? E lo scorpione dice ma no, perché dovevi pungerti? Voglio anch'io attraversare lo stagno, ho bisogno di te. La rana si fida, si mette lo scorpione sulle spalle ma quando è arrivata a metà dello stagno lo scorpione la punge. E la rana dice ma come mai mi hai punto? Mi avevi detto che non ti conveniva perché saresti annegato anche tu. E lo scorpione le risponde è la mia natura. Ecco è un po' così, è un po' come se fosse nella natura del commercio, della modernità, questa distruttività inconsapevole se vogliamo, come strutturale e indipendente dalla volontà dei singoli, quei singoli che si distinsero nella difesa di Costantinopoli per terra e per mare. L'apporto dei difensori occidentali fu in effetti assolutamente fondamentale. Quando Sfranze racconta del censimento e fa la sua stima delle difese degli effettivi dentro Costantinopoli aggiunge, lo so con certezza perché l'imperatore aveva ordinato ai demarchi e agli strateghi di registrare tutti quelli che si trovavano nelle rispettive aree, sia i laici in grado di portare le armi sia i monaci e di accertare di quante armi ciascuno disponesse per la propria difesa. Pertanto ognuno dei demarchi consegnò all'imperatore una lista della propria aree. Allora l'imperatore, continua Sfranze, il grande storico e gran logoteta di Costantino XI, mi chiamò e disse «Questo incarico è affidato a te solo e deve essere svolto in segreto. Prendi le liste del censimento e va a casa tua. Calcola esattamente quanti sono gli uomini e quante le armi e gli scudi e le frecce e le macchine da guerra. Quando finì di far quel che il mio sire l'imperatore mi aveva chiesto, conclude Sfranze, ritornai da lui pallido e affranto, e il numero rimase segreto, noto solo a lui e a me». Il 26 ottobre arrivò a Costantinopoli, da Roma, ma dopo una lunga tappa a Chio, niente di meno che il nostro Isidoro di Kiev, con un bel po' di provviste per fortuna, ma soprattutto con una missione precise. In quanto legato papale, perché anche lui come Bessarione era, diciamo, una talpa bizantina nella curia pontificia, doveva indurre l'imperatore e gli altri suoi compatrioti, fino ad allora refrattari, a dichiarare ufficialmente valida l'unione delle chiese sancita al concilio di Firenze del 1439, doveva indurli invece ad accettarla. Il papa, che all'epoca era Nicolò V, e che fra l'altro si mostrava così l'unico interlocutore sensibile all'allarme provocato dai movimenti di Mermet, aveva chiarito che si trattava di una precondizione imprescindibile per ottenere un concreto aiuto occidentale a Bisanzio. Il nostro Isidoro era accompagnato da Leonardo, Leonardo arcivescovo di Mitilene, Leonardo di Chio, genovese, come abbiamo visto e come vedremo testimone prezioso dei fatti nella relazione latina che scrisse allo stesso papa Nicolò V nell'agosto successivo alla caduta della città. I due erano scortati da 200 arcieri ingaggiati a Napoli, sempre per ordine del papa, e come vedremo anche con questo fondo magro contingente, se pensiamo all'entità delle forze turche, questi due dotti ecclesiastici saranno tra i protagonisti delle difese di Costantinopoli, in particolare sarà loro affidata la difesa del punto più importante delle mura marittime sul mar di Marmara. Dopo due mesi che Isidoro era salpato da Roma, a fine luglio, era deceduto il patriarca latino di Costantinopoli, il cardinale Giovanni Contarini, per cui fra l'altro Isidoro arriva già come patriarca latino di Costantinopoli. Patriarca latino in che senso? Nel senso patriarca del partito unionista che si contrappone all'antilatinismo delle gerarchie ecclesiastiche che non avevano accolto l'Unione. Ora, nonostante questo antilatinismo che non era diffuso solo nel clero ortodosso ma anche tra i massimi esponenti della nobiltà e di cui vedremo poi le cause, l'emergenza portò nuove reclute al sino ad allora quanto mai minoritario partito unionista. La città rimaneva sempre divisa in due partiti e quello antiunionista era capeggiato addirittura dal megaducas, cioè dal primo ministro Luca Notaras. L'ala figlio unionista o semplicemente in extremis transformist faceva capo a due intellettuali peraltro molto amici di Bessarione che però erano rimasti a Costantinopoli e cioè Giovanni Argiropulo e Michele Apostolis e diciamolo pure annoverava la maggior parte a questo punto dell'aristocrazia di corte. Anche se da tempo si cantava sulle navi bizantine, era il canto dei marinai, si cantava meglio il turbante turco della tiara latina, anche se con questa frase che non è sua come a volte gli storici ci inducono a credere ma appunto è tratta da una cantilena popolare, Luca Notaras entrò più volte nel consiglio bizantino, però l'unione si sarebbe proclamata a Santa Sofia il 12 dicembre 1452. La descrizione della proclamazione dell'unione a Santa Sofia il 12 dicembre 1452 è descritta sia da Leonardo Di Chio sia soprattutto dal veneziano Barbaro, altro testimone d'eccezione di tutta la vicenda, compreso l'assedio. Fu certamente un atto formale, fu un atto in mala fede, fu un atto di realpolitik, fu un atto di cinismo e se vogliamo anche un atto un po' sacrilego dal punto di vista teologico quanto meno dogmatico, però in fondo era stata la stessa cosa anche quello dei negoziatori del concilio di Ferrara-Firenze e cioè di Isidoro di Kiev, che appunto già era lì e ancora di più di Bessarione. Era stato un episodio di realpolitik, era stato un atto di opportunità politica e di infedeltà teologica e non ci stancheremo mai di sottolinearlo e del resto questo era stato rilevato anche dai prelati contemporanei, antiunionisti e anche in seguito da parte laica, per esempio da Gibbon. L'unione di Ferrara-Firenze del concilio del 1438-39 che fu proclamata nel 1439 a Firenze da Bessarione in greco e dal cardinal Cesarini in latino, quello stesso cardinal Cesarini che sarebbe poi morto nella battaglia di Varna alla testa della crociata che proprio in cambio del decreto di unione aveva organizzato, beh quella unione era qualcosa di ben diverso da ciò che oggi con il senno di poi, sapendo quanto disattesa fosse stata, quanto storicamente, ecclesiasticamente, politicamente virtuale fosse stata possiamo pensare, ma doveva fornire una piattaforma religiosa mista a quella nuova enclave greco-cristiana nel dominio turco, ridotta ma assolutamente determinante sul piano politico che sarebbe stata la Morea, il famoso piano B. Non doveva essere Costantinopoli, doveva essere il Peloponneso, il Peloponneso così ben difendibile in cui la corte era al centro, lontana dalla costa, ma ben collegata alla costa con il porto di Monenvasia, dove si incrociavano possedimenti bizantini e possedimenti occidentali, dove avevano le loro teste di ponte i veneziani, dove aveva il suo principale centro ecclesiastico il papato a Patrasso. Anche proprio come area di influenza sarebbe stato uno scalo fondamentale nel Mediterraneo che avrebbe prevenuto la sua turchizzazione, la sua islamizzazione. Eppure la proclamazione del 12 dicembre 1452 a Santa Sofia fu non meno virtuale dell'aiuto alla difesa della capitale che avrebbe, anzi, che non avrebbe fornito all'Occidente. Abbiamo detto che la convinzione che si era formata Mehmet II durante il suo famoso e terribile sopralluogo di tre giorni alle fortificazioni di Costantinopoli era che la città dovesse essere presa controllandola dal mare. Anche nel discorso che aveva fatto al suo consiglio il sultano aveva messo in risalto che la cosa fondamentale era il dominio del mare. I tentativi precedenti contro la città erano stati sempre fatti soltanto dalla terraferma. I bizantini erano sempre stati in grado di ricevere rifornimenti via mare. Non basta. Fino a poco tempo prima i turchi erano sempre stati obbligati a servirsi di navi cristiane per il trasporto tra l'Europa e l'Asia dei loro eserciti. Mehmet aveva cambiato le cose. Per tutto il mese di maggio del 1453 vedremo navi di ogni tipo radunarsi a largo di Gallipoli. Già la prima mossa di Mehmet, come abbiamo visto, era stata di impossessarsi delle città sulla costa della Traccia e di radunare a largo di Gallipoli una flotta che contava, secondo appunto le testimonianze dei più prudenti fra i cronisti e gli altri vari testimoni dell'assedio, sei triremi, dieci biremi, quindici galere, settantacinque fuste e venti parandaria. Ma la cosa più importante è che la maggior parte di questa flotta era stata creata da pochissimo e concepita e costruita secondo le tecniche più avanzate e con i migliori materiali. Il giovane padiscià non badava spese, aveva messo a capo di questa flotta l'ammiraglio Baltaoglu, Suleyman Baltaoglu, che tra l'altro era un cristiano di origine bulgara convertito all'Islam e che era entrato con la sua flotta del Mar di Marmara nel marzo del 1453. Tra le navi che cominciarono a radunarsi a largo di Gallipoli per tutto il mese di maggio c'erano anche vecchie navi che però erano state riparate e ricalafatate, cioè reincatramate, ma soprattutto c'erano quelle costruite precipitosamente durante gli ultimi mesi negli arsenali delle città della costa Egea. Intanto le triremi nuove, a differenza delle vecchie triremi, avevano i banchi tutti a un solo livello e ogni fila ad angolo leggermente obliquo sul fianco della nave aveva tre rematori, ciascuno con un unico remo corto sullo scalmo, ma tutti tre sporgenti attraverso un'unica scalmiera, mentre lo scafo era basso sull'acqua e aveva due alberi. Le vele venivano usate solo quando il vento era favorevole. Vi erano poi le biremi con scafi leggermente più piccoli, un solo albero dove i rematori sedevano appaiati su entrambi i lati. Le fuste di cui abbiamo parlato erano dei lunghi vascelli più leggeri e più veloci delle biremi con rematori singoli dalla prua fino all'albero sui due lati e appaiati a poppa. Vi erano poi le galere, termine che spesso veniva usato abbastanza genericamente per indicare qualsiasi grande vascello, cioè sia una trireme, sia una bireme, sia un veliero che non avesse rematori, ma tecnicamente stavano a indicare un'imbarcazione grande più alta sull'acqua con un'unica fila di lunghi remi. Vi erano poi i parandaria che erano delle pesanti chiatte a vela impiegate normalmente per il trasporto delle merci. La valutazione sulla consistenza numerica della flotta turca è variabile come quella sulla consistenza numerica dell'esercito, però abbiamo le testimonianze di tanti marinai italiani che si trovavano a Costantinopoli e che ci informano appunto che oltre a quelle che abbiamo annunciato prima c'erano poi moltissime corvette, lance usate per portare messaggi. Abbiamo detto la guerra di spie, l'intelligence, la comunicazione ebbe un ruolo fondamentale in questa prima grande battaglia dell'età moderna. Nel frattempo erano state fatte convergere in traccia anche le forze terrestri. La mobilitazione dello sterminato esercito turco possiamo dire che fu quasi totale, cioè pochissime truppe furono lasciate giusto per presidiare anche poco le frontiere e per mantenere un po' di ordine pubblico nei territori imperiali. Ma per l'assedio di Costantinopoli la mobilitazione fu tale che, come scrive di nuovo il nostro visionario Tursun Beg, per le lance l'aria si trasformò in una foresta, la terra sparì a causa delle tende. C'è da dire che per tutto l'inverno gli armaioli di tutti i domini di Mehmet si erano dedicati alla fabbricazione di scudi, elmi, corazze, giavellotti, spade e frecce, mentre gli ingegneri avevano costruito le baliste e gli arieti. La mobilitazione fu rapida ma fu veramente completa perché i reggimenti furono radunati da ogni provincia, anche i soldati in licenza furono richiamati ai loro accampamenti. Furono assoldati a migliaia gli irregolari e non soltanto non erano state lasciate nemmeno le guarnigioni necessarie a difendere le frontiere e ad assicurare l'ordine della provincia, ma una serie di forze erano state fatte affluire dai territori balcanici e greci. Abbiamo già visto quanto spaventosa fosse l'entità dell'esercito che fu radunato da Mehmet sotto Costantinopoli, almeno tre o quattrocentomila nell'accampamento del sultano. Gli irregolari, i basci buzuc, da soli erano almeno ventimila che si univano agli ottantamila anatolici regolari. I basci buzuc erano uno strano tipo di esercito, vedremo quale sarà il loro ruolo, in che cosa saranno impiegati questi uomini. Dobbiamo poi anche dire che il posto d'onore spettava ai reggimenti giannizzeri, che dopo la loro riorganizzazione da parte di Murad II, il padre di Mehmet II, erano almeno 12.000. Una piccolissima parte del corpo, anzi dell'ordine cavalleresco, se vogliamo, dei giannizzeri, era costituita da tecnici o funzionari statali o guardiani di cani e falconieri aggiuntivi. A quell'epoca ogni giannizzero era di origine cristiana, ma era stato educato fin dall'infanzia a essere un musulmano devoto, a considerare il reggimento come la sua famiglia. I giannizzeri non si sposavano, il sultano era il loro comandante e il loro padre, la loro fede era fuori discussione, la loro disciplina era eccezionale. Senza i giannizzeri nulla di ciò che accadde il 29 maggio 1453 sarebbe mai potuto accadere. Ma tutto questo non era nulla rispetto all'artiglieria, rispetto ai cannoni. Ricordate Isidoro di Kiev, ricordate come fosse riuscito miracolosamente a fuggire dopo la conquista, come scrive lui, come Giona dal ventre del mostro e a riparare a Creta. Ebbene, in una delle lettere che spedì, oltre alla descrizione del saccheggio che abbiamo in parte già citato, consegnò all'amico Bessarione queste ulteriori considerazioni. Il folle, cioè Mehmed II, medita di sottomettere tutta la terra. Ha un esercito stimato tra fanti e cavalieri in circa 300.000 uomini e una flotta grandissima di 220 navi, fra triremi, biremi, uniremi, più navi mercantili. Ha con sé tutti i possibili fabbricatori d'arme, ammassa ogni sorta di proiettili, ogni genere di strumenti, con geni e artifici con cui si possano assalire ed espugnare le città. Ogni tipo di macchine da getto, bombarde, catapulte in gran numero e di dimensioni enormi, le cui moliti sarebbero sembrate mostruose e portentose. In un'altra lettera Isidoro testimonia che il sultano fece fondere più di mille bombarde e che tre di esse erano assai più grandi delle altre e che quelle tre lanciarono più di 700 grandi proiettili e provocarono spaventose rovine. Secondo Isidoro la città fu sottoposta per 51 giorni a un martellamento di queste bombarde ininterrotto giorno e notte e fu attraverso le devastazioni delle bombarde che Costantinopoli, secondo Isidoro, fu presa ed espugnata. Fu indubbiamente l'uso delle armi da fuoco in misura e modi mai visti prima a causare la sconfitta di Costantino XI. Critobulo, un altro bizantino, scrisse lapidario «I cannoni decisero tutto». Ma questo potrebbe essere inesatto se non sapessimo qualcosa di particolare sui cannoni e in generale sull'artiglieria e sul suo uso nella battaglia di Costantinopoli. Qualcosa di particolare e anche di molto simbolico, di molto emblematico. Abbiamo già visto come è una sorta di duello allegorico quello fra Bisanzio, la tradizione, la conservazione, il mondo antico e Venezia, la modernità, il mondo moderno, il commercio, il protocapitalismo e via discorrendo. Questa stessa emblematicità si eleva forse all'ennesima potenza se teniamo conto di un fattore assolutamente stupefacente. I bizantini si sa che non accolsero, non accettarono i servigi di Urban. Il fabbricatore, l'ingegnere ungherese o forse danese che era arrivato a Costantinopoli nell'estate del 52 e aveva offerto all'imperatore i suoi servigi come costruttore di cannoni. E si dice a poveri bizantini non lo fecero perché non avevano i soldi. In parte è vero, ma in parte è anche vero un fatto. I bizantini avevano le fortificazioni murarie più grandi del mondo, ma anche le più antiche perché risalivano al V secolo. Era proprio l'antichità della potenza bizantina essere la sua debolezza. I bizantini non potevano usare i cannoni, non potevano usare l'artiglieria, perché le vibrazioni dei rinculi, le vibrazioni delle esplosioni avrebbero fatto implodere le mura, cioè le avrebbero sgretolate già semplicemente a partire dai colpi che ne venivano esplosi, non a causa di quelli che ricevevano. Questo è impressionante e questo forse dice qualche cosa di più su che cosa sia stata la caduta di Costantinopoli. Quando il misterioso Urban lasciò la corte di Costantinopoli, dove aveva offerto i suoi servigi a Costantino che non poteva pagargli quella retribuzione o forse sapeva che i cannoni così grandi non potevano essere sostenuti dalle mura della città stessa, si rivolse all'augusta presenza di Mehmet II e dichiarò che avrebbe costruito un cannone capace di distruggere le mura della stessa Babilonia. Mehmet II lo pagò quattro volte tanto quello che lui aveva chiesto, gli fornì tutta l'assistenza tecnica di cui aveva bisogno e in tre mesi Urban costruì l'enorme cannone che il sultano piazzò sulle mura del Tagliagola. Una volta sperimentato questo primo enorme e immenso cannone, Mehmet gli ordinò di farne uno grande il doppio, che venne fuso a Adrianopoli e fu pronto a gennaio. Per avere un'idea di quanto fosse grande questo cannone, teniamo conto che per trasportarlo, secondo lo storico bizantino Calcondila, ci volevano 70 coppie di buoi e 2000 uomini. Vi risparmio tutti i dettagli sul peso dei proiettili, che comunque erano qualcosa come 490 chili l'uno, secondo alcune delle fonti, o il calibro della bombarda, o la circonferenza del proiettile che doveva essere di almeno due metri e mezzo, cioè immaginatevi quindi la grandezza e l'impatto. Una cosa che forse può dare un'idea di cosa fecero i cannoni durante la battaglia di Costantinopoli è il calcolo che fu fatto a posteriori, dopo la battaglia, dei proiettili sparati dai cannoni di Urban. 100-120 colpi al giorno per 55 giorni, quindi un totale di 5.500-6.300 proiettili di queste dimensioni. E addirittura è stata fatta una media della polvere da sparo, considerando mille libri al giorno, cioè 326 chili per 55 giorni, viene fuori un totale di 17,98 tonnellate. Non parliamo del costo, 55.000 Ducati, secondo appunto coloro che fecero un po' i ragionieri alla fine, che fecero i conti in tasca al sultano, perché il sultano aveva effettivamente una disponibilità incredibile. Avete sentito parlare di una città di cui un lato è terra e gli altri due mare? L'ora del giudizio non suonerà finché 70.000 figli di Isacco non l'avranno catturata. Così aveva detto il profeta e questo Mermet voleva fare e non gli importava né quanta polvere da sparo usava, né quanto denaro spendeva, né soprattutto, come vedremo, quanti uomini sacrificava. Mermet II era bello. Era di media statura, di costituzione atletica, aveva un volto dominato da occhi penetranti sotto sopracciglia arcuate, aveva un naso sottile, un po' adunco, che si incurvava su una bocca dalle labbra particolarmente sensuali, rosse e carnose. Lo conosciamo il suo volto dal ritratto che un veneziano, Gentile Bellini, gli avrebbe fatto e di cui lui sarebbe stato molto soddisfatto. In quell'occasione, fra l'altro, Gentile Bellini gli avrebbe portato in dono un quaderno di disegni eseguiti da suo padre, Jacopo Bellini, in cui erano effigiati gli imperatori paleologhi bizantini che erano venuti al concilio di Ferrara a Firenze, perché evidentemente ci teneva, Mermet, non solo a essere raffigurato dai pittori veneziani, ma anche a sapere di essere raffigurato da quegli stessi che avevano raffigurato i bizantini. Il rapporto tra gli ottomani e i veneziani è veramente paradossale. Se tra Venezia e Bisanzio già c'è un rapporto molto complesso da sceverare, da comprendere, se noi analizziamo il comportamento dei veneziani, la loro estrema cautela, tutta la loro diplomazia fatta per non rovinare, non compromettere in alcun modo i rapporti con gli ottomani. E poi vediamo i risultati, confrontiamo tutto questo con i risultati che ciò produsse e ci viene quasi da sorridere, anche se da sorridere un po' amaro, perché in realtà dei mille balletti diplomatici dei veneziani sembra proprio che a Mermet non importasse sostanzialmente nulla, anzi che quasi si prendesse gioco di questi veneziani che sì, gli piacevano, perché appunto erano ancillari a Bisanzio. Ma insomma è emblematico che il collaudo del cannone di Urban fosse fatto proprio a spese di quella cautelosissima Repubblica di Venezia che aveva tentato fino ad allora, con la sua diplomazia appunto in tutti i modi, di mantenere i buoni rapporti con il sultano. La nave del veneziano Antonio Erizzo, che era carica di orzo e proveniente dal Mar Nero, fu bombardata appunto dal cannone per non avere ubbidito all'intimazione del comandante del Tagliagole di fermarsi. Affondò davanti al Tagliagole, il comandante e una trentina di marinai raggiunsero a nuoto la riva, vennero fatti prigionieri e il povero Erizzo condotto ad idimoteico venne impalato l'8 dicembre del 52, mentre lo scrivano della nave, Domenico Maestri, venne inviato al serraglio. I marinai vennero segati in due. I loro cadaveri insepolti vennero visti da Ducas, lo storico che si trovava in dicembre ad idimoteico e questa esecuzione era stata decisa malgrado il fatto che il bailo veneziano in persona, Girolamo Minotto, avesse inviato un corner come ambasciatore a intercedere presso lo Stato Maggiore turco. Questo dà un po' l'idea di quanto poi in realtà sbagliate nel fondo fossero le valutazioni dei veneziani, tutte le loro cautele di quanto in realtà poco importasse a Mehmet dei suoi rapporti con Venezia. Anzi possiamo dire che fu veramente quasi una beffa, uno sfregio quello di Mehmet quando collaudò proprio su una nave veneziana il grande cannone di Urban. Chiaro che a questo punto c'è una rottura di fatto della tregua, pace o quel che sia tra Venezia e Mehmet. Va anche detto che poco dopo, tra il 2 e il 4 dicembre, Jacopo Cocco, che è un personaggio assolutamente notevole della difesa veneziana di Costantinopoli, uno di questi individui veneziani che riscattano tutta la storia della città, in bocca con la galera di Trevisonda lo stretto, scortato da dodici fuste, abbiamo visto di navi leggere, è portato fino all'altezza del tagliagole ma riesce a sottrarsi alla cattura e riesce a approdare al porto di Costantinopoli sano e salvo con la sua galera e con il suo equipaggio. Tra il gennaio e il febbraio del 1453 la grande bombarda di Urban viene trasportata con l'enorme impiego di mezzi che abbiamo visto da Adrianopoli a 5 miglia da Costantinopoli. Nel frattempo i veneziani si danno un grande affare, discutono in Senato gli affari costantinopolitani, deliberano che vengano eletti capitani per una serie di galerie che dovranno essere inviate, ma non a Costantinopoli, in parte a Corfu, in parte a Creta, in parte a Negroponte. Ma un fatto è interessante che già dal febbraio del 1453, cioè anche qui facendo esattamente l'opposto di quello che i loro governanti stanno cercando di fare, i mercanti e comunque gli equipaggi veneziani cominciano ad aver paura e contravvenendo al giuramento prestato a dicembre del 52, una prima nave veneziana fugge dal porto di Costantinopoli. Il suo capitano, questo antieroe rispetto a Coco, si chiama Piero d'Avanzo e dopo il suo esempio altre sei navi fuggono dal porto, da Candia stavolta, non da Costantinopoli, salvando 700 persone. Le sette navi raggiungono Tenedo, poi si dirigono verso Venezia. Venezia dove intanto il Senato è riunito per decidere l'armamento della flotta da inviare a Costantinopoli e l'elezione del capitano generale e dove le relazioni degli informatori, dell'intelligence, delle spie non soddisfano comunque i senatori. Intanto tra l'inizio e la metà di marzo si ha il completamento della mobilitazione e del trasferimento dell'esercito turco di terra davanti a Costantinopoli, quindi ha inizio il blocco della parte di terra. All'interno della capitale continua, va detto, l'opposizione accanita degli antiunionisti che a questo punto spargono un timore che l'attacco avvenga durante la settimana santa. Nel 1453 la Pasqua è presto, la settimana santa è quella dal 25 al 31 marzo. Ed è così che si cominciano i lavori di rafforzamento della parte nord della muraglia di terra, quella vicina alla Xiloporta, e si approfondisce il fossato, soprattutto vicino al porto. C'è da dire che in questo si distingue l'opera dei veneziani. Lo stesso Gabriele Trevisan mette a disposizione i suoi equipaggi insieme a quelli delle altre navi veneziane di Alvise di Edo per l'approfondimento del fossato, soprattutto in prossimità del porto e per il rafforzamento della muraglia nella zona del palazzo dell'Evdomon. Mentre i veneziani trasferiscono le loro navi dall'ancoraggio di fronte a Pera alla porta del Chinegion, a Venezia vengono stanziati altri 30.000 Ducati per l'armamento delle galere destinate a Costantinopoli, destinate, come vedremo, ma che non arriveranno mai. Al termine della Megaliv Domada della settimana di Pasqua del 1453, il 31 marzo, con un sospiro di sollievo, i bizantini possono dirsi salvi. Mermet non ha attaccato durante la settimana di Pasqua. Loro l'hanno passata a rinforzare, a rafforzare le fortificazioni e il 31 marzo stesso comincia l'assegnazione dei comandi della difesa delle mura di terra e di mare a Costantinopoli da parte di Costantino XI, coadiuvato dal protostrator Giovanni Giustiniani lungo. È abbastanza complicata da illustrare la disposizione dei diversi difensori, ma una cosa va notata anzitutto, e cioè l'estrema convinzione con cui Costantino XI e tutti i suoi uomini vollero difendere Costantinopoli e architettarono la tattica difensiva. Ha scritto quel grande storico che abbiamo citato più volte, Fernand Brodel, nel suo libro intitolato «Il mondo attuale». «Non esiste civiltà degna di questo nome che non abbia ripugnanze rifiuti». E ogni volta il rifiuto giunge al termine di una lunga serie di esitazioni e di esperienze. Un caso tipico potrebbe essere la conquista di Costantinopoli da parte dei turchi nel 1453. Uno storico turco ha sostenuto che la città «si era data», era stata presa dall'interno prima dell'assalto ottomano. La tesi non è inesatta. La civiltà bizantina preferì all'unione con i latini, che sola avrebbe potuto salvarla, la sottomissione ai turchi. Ebbene, abbiamo visto che non è così. Abbiamo visto che per quanto grande fosse la turcofilia o la latinofobia dell'aristocrazia bizantina, l'unione era stata non solo fatta a Firenze nel 39, ma ricelebrata a Costantinopoli. Altrimenti non si spiegherebbe la intelligenza e l'accortezza con cui furono distribuiti i comandi di terra e anche quelli delle mura di mare. Dobbiamo considerare che fu creata una disposizione a scacchiera di bizantini, veneziani, genovesi, bizantini, veneziani, genovesi, che faceva sì che le possibilità di defezione fossero minime, ma soprattutto che il tipo di combattimento si integrasse. Questo nelle mura di terra, la cui parte più vulnerabile, che era quella della porta di San Romano, dove il fiume Lycos entrava nella città, era presidiata dall'imperatore stesso, Costantino XI e da Giovanni Giustiniani Longo. Mentre la parte nord, all'altezza del palazzo imperiale delle Blacherne, ma anche dell'intersezione col Corno d'Oro, era presidiata dal bailo veneziano, da Minotto, e invece la parte meridionale, al di sotto del fiume Lycos, fino all'intersezione con il Mar di Marmara, Porta Aurea, quartiere di studio, era di nuovo presidiata da un alternarsi di bizantini, veneziani, genovesi, bizantini veneziani e anche dai monaci greci. I monaci che erano stati presi dai monasteri, ma che si erano mobilitati volontariamente, che combatterono fino all'ultimo sangue. Ebbè, anche Omer ogni tanto sonnecchia, si dice. Per mostrare quanto errata sia in Brodel l'affermazione che Bisanzio sia voluta cadere, quanto lontana dalla verità, dobbiamo tenere presente anzitutto un fatto. Molte e molte altre volte prima di questa, lungo tutto il millennio bizantino, la città delle città, il faro delle cumene, era stata cinta d'assedio. Molte e molte volte era stata sul punto di venire spugnata, una volta lo era stata davvero, con la cosiddetta deviazione della Quarta Crociata, nel 1204, come abbiamo visto. Ma ciò nonostante mai l'impero di Bisanzio, e cioè l'impero romano trasferito da Costantino a Oriente nel IV secolo, ma in quanto tale auto-identificato e percepito era caduto. Anzi, forse possiamo dire che l'impero romano non è mai caduto. Nel senso che come l'impero romano non era caduto nel 476? Perché semplicemente la sua capitale era stata spostata di baricentro, seguendo peraltro uno spostamento di interessi, di investimenti fondiari, di capitali dell'aristocrazia senatoria romana nella stessa direzione. Così come possiamo dire che quindi l'impero romano non è certo caduto nel V secolo, perché è caduta sì la pars occidentalis, ma non la pars orientalis, che continuava a tutti gli effetti, non soltanto nell'autopercezione dei bizantini, ma nella percezione di tutto il Medioevo occidentale, l'impero romano senza soluzione di continuità. Ebbene, se ammettiamo questo, possiamo dire che l'impero romano bizantino non è caduto neanche il 29 maggio 1453. Forse è caduto soltanto nel XX secolo, quando sono caduti, l'uno all'inizio, l'altro alla fine del Novecento, i due tronconi imperiali multietnici in cui si è spezzato, e cioè a nord-est, l'impero zarista, poi sovietico, alla fine del Novecento, a sud-est, per l'appunto quell'impero ottomano che si insedia il 29 maggio 1453 e che cade all'inizio del XX secolo. Se il XXI secolo si apre all'insegna dei conflitti etnici, nelle zone d'attrito, balcaniche, caucasiche, mesopotamiche, microasiatiche, che furono le stesse in cui la multietnicità romano-bizzantina aveva composto i conflitti per tanti secoli, per millenni, ebbene forse possiamo dire che è il fantasma di Bisanzio che ancora oggi aleggia, il fantasma di un impero romano che soltanto da poco è forse caduto. Vi ricordate Isidoro di Kiev? Era stato mandato a Costantinopoli dal Papa in pieno assedio, era un cardinale orientale della curia romana e doveva far ratificare a Santa Sofia l'Unione di Firenze del 1439, l'Unione fra le Chiese, cosa che gli era riuscita nonostante qualche dissenso all'interno della parte turcofila della Corte che era abbastanza preponderante. Abbiamo anche anticipato che sarebbe riuscito a scappare dopo la conquista come Giona dal ventre del mostro, scrive, perché si travestì, fu venduto a bassissimo prezzo a un genovese portato a pera, poi di qui su una nave turca riuscì a riparare a Creta, fatto sta che da Candia scrisse delle lettere molto importanti a Bessarione, al Papa ed altri. Ora, in una delle lettere che spedì da Candia, oltre alla descrizione del saccheggio che appunto avete già ascoltato, consegnò all'amico Bessarione queste ulteriori considerazioni. Il Folle, cioè Mermet II il sultano, medita di sottomettere tutto l'orbe terrestre, elenca tutte le armi, il potenziale bellico, le navi, i fabbricatori d'armi, di proiettili, eccetera, eccetera, e dice, medita certamente di passare in Italia con una schiera fortissima e con un grandissimo esercito. Ritieni anche tu, sempre dice a Bessarione la notizia del tutto veritiera, io non dubito che ciò avverrà se è vero che ogni giorno ascolta in arabo, in greco e in latino la vita di Alessandro Magno. Le stesse cose saranno poi ripetute da Isidoro in un'altra delle sue lettere, inviata poco dopo il 15 luglio, questa è quella del 6 luglio, sempre da Candia, invece al Papa Niccolò V. Il suo amico Leonardo di Chio, l'arciresco di Mitilene, un genovese, è ancora più esplicito nel memoriale che invia al Papa da Chio poco dopo il 16 agosto. Dice, rifletti su tutto ciò, beatissimo padre, tu che tieni in terra le veci di Cristo, cui deve stare a cuore a vendicare oltraggi così gravi fatti a Cristo e i suoi fedeli. Abbi misericordia della cristianità, tu che sai e che puoi, al cui cenno tutti i principi cristiani obbediranno senza difficoltà per vendicare le ingiurie fatte ai cristiani. Sappi che il turco è montato a così tanta superbia che osa affermare che penetrerà nell'Adriatico e arriverà fino a Roma. fino a Roma. Dunque si pensava che l'Islam, che questa grande ondata islamica portata dalla caduta di Costantinopoli del 29 maggio 1453, avrebbe annichilito la cristianità, sarebbe arrivata fino a Roma, fino alla sede del Papa, che i turchi sarebbero arrivati a San Pietro. In effetti bisogna pensare allo shock che era stato determinato dall'ingresso a Santa Sofia, per esempio, che era il grande simbolo della cristianità. E pensate, oggi cosa succederebbe se effettivamente un esercito islamico entrasse dentro San Pietro e buttasse giù tutti gli altari e massacrasse tutti dentro. Ma il punto è, insomma, veramente Isidoro e il suo amico Leonardo e anche gli altri che esprimono questi timori pensavano a un'espansione mondiale turca. Cioè, veramente temevano che l'Islam sottomettesse il papato stesso, con il suo potenziale certamente immenso, 300 mila uomini, dice Isidoro di Kiev, chi parla anche di 700 mila uomini, oltre a quella enorme, grandissima flotta di 220 navi, di cui parla Isidoro proprio in questa lettera, e ogni tipo di macchine da getto, bombarde, catapulte, alcune di dimensioni enormi, le cui moliti sarebbero sembrate mostruose e portentose, si riferisce, vi ricordate, ai cannoni di Urban. Però il punto è questo, erano sinceri nel parlare al Papa e anche a Bessarione, Isidoro di Kiev e il suo amico Leonardo di Chio? Per capire che cosa significasse per un cristiano del Quattrocento la presa di Costantinopoli bisogna cercare di mettersi nei suoi panni, bisogna avere, diciamo, degli occhiali particolari. Intanto bisogna tenere conto che Costantinopoli all'epoca, cioè prima dell'eclissi del mondo bizantino, seguito alla caduta, seguito a una serie di vicende, tra cui il naufragio del progetto di salvataggio occidentale di Bisanzio che Bessarione, Isidoro e i papi coltivavano, quello dell'ultima crociata, ebbene a quell'epoca Costantinopoli veniva vista come la culla stessa della cristianità, come la sede originaria della chiesa cristiana, più di Roma. Cioè noi oggi abbiamo una percezione ancora più romano-centrica della storia, soprattutto della storia ecclesiastica, che appunto è dovuta poi agli sviluppi della nostra storiografia, ma anche in qualche modo alle rimozioni della nostra psicologia collettiva nei confronti di Bisanzio, nell'età moderna e successiva. Ma all'epoca era lì, nella città fondata dal primo imperatore cristiano, per farne la sede del primo impero cristianizzato, nel luogo dove l'architettura stessa di quell'edificio gigantesco della teologia e della dogmatica cristiana era stata costruita, era stata elevata al cielo, un po' come quella sbalorditiva cupola della Basilica di Santa Sofia edificata da Giustiniano. E questo era avvenuto nei grandi concili dei primi secoli, appunto tra il quarto e il quinto, nelle discussioni complesse, sottili, dei grandi padri e quella chiesa era la chiesa madre. Pensiamo a quel capolavoro che è la Lamentazio Matris Ecclesi e Costantinopolitane di Guillaume Dufay, il grande musicista fiammingo, che la compose la Lamentazio nel 1454. Secondo alcuni per il famoso Banquet du Faison, il banchetto del Fagiano del 17 febbraio, comunque sicuramente per Filippo III di Borgogna, che appunto in occasione di quel banchetto aveva fatto voto di organizzare una crociata per la liberazione della Morea, di andare a Bisanzio a combattere contro i turchi. Il duca di Borgogna sarebbe stato sempre uno dei grandi sostenitori della causa bizantina. Su di lui Pio II e Nea Silvio Piccolomini, per esempio, avrebbe contato più che su ogni altro a Mantova nel 1459 nell'organizzazione della sua crociata. Ora, questo mottetto di Difeo di Fai stupendo è a quattro voci. Tre cantano in francese, mentre la quarta e più importante, quella del tenor, intreccia al lamento della lingua dell'oggi, cioè dell'Europa del presente, il lamento antico in latino della lamentazio di Geremia. È la chiesa di Costantinopoli a parlare in prima persona proclamandosi madre, appunto, madre afflitta che lamenta il misfatto, il sacrilegio, la violenza ingiusta fatta a suo figlio, il tormento atroce, l'oltraggio insopportabile, sto citando il testo di Difeo di Fai, fatto al più bello degli umani. Quindi, la chiesa di Costantinopoli è la chiesa madre per eccellenza. La cristianità orientale è paragonata a Cristo Tucur, quindi la conquista di Costantinopoli alla sua passione e crocifissione. Cosa ci ricorda questo? Ci ricorda il ricorrere, ossessivo fra l'altro, di metafore analoghe in tutta la letteratura occidentale, umanistica di quel tempo e non soltanto nelle moltissime testimonianze scritte del trauma che appunto la caduta di Costantinopoli rappresentò per tutti i cristiani, ma anche nella pittura. La pittura di questa idea era il manifesto e pensiamo fra tutti al più enigmatico dipinto di Piero della Francesca, La Fragellazione di Urbino, dove è espressa per immagini esattamente la stessa metafora. Anzi, proprio in questa metafora e nella costernazione dell'Europa cristiana dinanzi alla caduta, oggi rimossa, quasi dimenticata, ma allora ben presente, folgorante, corale, collettiva, proprio in questo sta l'enigma del quadro. D'altro lato bisogna pensare che Isidoro aveva partecipato con Bessarione al concilio di Ferrara Firenze. Condivideva con lui il ruolo, diciamo così, di infiltrato nella curia romana, il ruolo di cardinale orientale, con la barba però, per organizzare dall'interno come insider il salvataggio occidentale di Bisanzio. E per di più era lui stesso Isidoro originale del Peloponnese, una delle pochissime cose certe che sappiamo su di lui, la sua biografia, per il resto è molto misteriosa, oltre al fatto comunque certo che era un grande intellettuale, una grande mente e anche un grande politico e diplomatico. In quanto tale, più di ogni altro era cosciente della necessità di una crociata in morea, cioè della messa in atto di quel piano B che riguardava il Peloponneso e che fin dai tempi di Manuele II, paleologo, cioè del padre di tutti i paleologhi, era stato prospettato come piano di emergenza in caso di perdita di Costantinopoli. Non per nulla, rifletteteci, Costantino XI, come abbiamo visto, era stato incoronato imperatore proprio a Mistra, rendendola così città imperiale. La morea rappresentava, lo abbiamo già detto, la possibilità di ricostituire uno stato bizantino in cui l'eredità giuridico-dinastica dell'impero romano, con tutto quello che implicava, permanesse vivente, trasformata però nelle sue strutture statali, amministrative, economiche, secondo quanto aveva elaborato, come abbiamo visto, la scuola platonica di Mistra, giusto appunto, negli iscritti del suo leader, cioè di Gemisto Pletone, ma anche in quelli dei suoi allievi Bessarione in testa. Sarebbe stata una Bisanzio limitata territorialmente, ma in un territorio cruciale per gli interessi sia confessionali del papato, sia commerciali delle repubbliche mercantili e in generale per gli interessi strategici delle potenze europee. Una Bisanzio inglobata nella sfera di influenza occidentale, con tutti i vantaggi che questo avrebbe comportato per la Chiesa di Roma. Non ultimo, il rinsaldarsi, come abbiamo accennato, del soglio di Pietro nel suo risaldarsi, e perdonate il calambur, con il titolo di Costantino. Erano i tempi in cui la donazione di Costantino, la falsa e mentita Costantini donazione, era tanto contestata, pensate a Lorenzo Valla appunto, insieme al potere stesso del papato di Roma, il potere temporale di un papato decadente, insidiato dai conciliaristi, contestato quindi anche al suo interno. E allora Isidoro, nel drammatizzare, se vogliamo pensare che lo drammatizzasse comunque in buona fede la minaccia turca per l'Europa, implicitamente perorava presso il Papa e anche presso il suo amico Bessarione, così influente, la causa della morea, della ricostituzione occidentale nel peloponneso di un nuovo Stato bizantino. Un progetto politico che avrebbe occupato le migliori menti d'Europa per almeno vent'anni ancora. E sarà il suo fallimento, dovuto a circostanze tutto sommato casuali, come sono spesso le circostanze storiche, a stendere quel velo di dimenticanza, a indurre quella sorta di rimozione nella coscienza storiografica occidentale che spiega forse il perché tanti enigmi, tanti misteri iconografici come quello della flagellazione di Piero della Francesca sono rimasti irrisolti, finché qualcuno non ha portato l'attenzione su quell'altra parte del Mediterraneo, su quell'altra sponda, su quello che accadeva, finché qualcuno non ha cominciato a segnalare che l'impero bizantino non era questa infinita decadenza, questo torpido luogo in cui torpidi regnanti non aspettavano altro che farsi catturare, che farsi prendere. No, l'impero bizantino era qualcosa di molto vitale, qualcosa che produceva ancora cultura, che produceva scienza, soprattutto che produceva un grandissimo patriottismo. Il papa di allora, il papa destinatario delle lettere che abbiamo menzionato di Isidro di Kiev e di Leonardo di Chio, era Niccolò V e quando non era ancora papa, si chiamava Tommaso Parentucelli, veniva da Sarzana, era stato anche lui presente a quel cruciale concilio di Ferrara, Firenze 38-39 ed era un umanista cristiano, era un vero intellettuale. Quando ebbe la notizia della cruda di Costantinopoli e la ebbe da una lettera del Senato di Venezia, che da Venezia era stata spedita il 30 giugno, che gli era arrivato all'8 luglio del 1453, questo anche per dare un po' un'idea di che cosa fosse la comunicazione a quel tempo e quindi anche dei pasticci che dovevano esserci nei servizi di intelligence, ebbene quando comunque ebbe l'8 luglio questa notizia fu scioccato, fu attanagliato dal senso di colpa per il suo atteggiamento diplomatico, che tutto sommato era stato di grande vaghezza e soprattutto di grande lentezza nel fornire gli aiuti che poi in realtà non erano neanche arrivati all'Isola di Creta, 6 luglio, così promosse subito un'attività diplomatica intensissima per cercare di pacificare un po' le varie signorie italiane, di far collaborare fra loro le potenze anche straniere, insomma organizzare subito una crociata antiturca. E in questo era già coadiuvato dal futuro Papa Pio II, cioè da Enea Silvio Piccolomini, che però allora stava da tutta un'altra parte, cioè era il segretario dell'imperatore tedesco Federico III e fra l'altro era tra i conciliaristi, però nel nome di Bisanzio si crea un'alleanza già fra il Papa e Federico III grazie a Enea Silvio Piccolomini. E questo progetto è esplicitato in una bolla di Niccolò V, ad perpetuum rei memoriam del 30 settembre 1453. Però il documento più impressionante del senso di colpa e del trauma psicologico di questo intellettuale che era Niccolò V è il suo testamento. Lui morirà due anni dopo la cauta di Costantinopoli, anzi meno di due anni dopo, il 24 marzo del 55, ed è un'autodifesa quella che è contenuta nel suo testamento veramente disperata del suo operato, anzi del suo mancato operato. Lo stesso stato d'animo, questo stesso senso di colpa e di urgenza della crociata si coglie anche nelle moltissime altre reazioni occidentali alla crociata di Costantinopoli, ce ne sono moltissime. Facciamo soltanto degli esempi, per esempio uno, la lettera di Girolamo da Firenze, era un francescano di Candia nell'isola di Creta, molto dotto, aveva una buonissima biblioteca nel suo monastero, amico di Zoro di Kiev che scrive non al Papa ma al Cardinal Capranica che in effetti avrà un ruolo importante nell'organizzazione appunto nei vent'anni successivi del salvataggio occidentale di Bisanzio, organizzazione che poi appunto fallì, e anche lui auspica una spedizione concorda e immediata delle potenze cristiane contro Mehmet, definisce la crociata di Costantinopoli, il povero Girolamo da Firenze, una sciagura di cui non si è udito mai l'uguale dall'inizio dei tempi. Oppure pensiamo alle parole di Enea Silvio Piccolomini stesso, cioè quelle che dedica alla crociata di Costantinopoli nei suoi commentari scritti, i memoriali che scrisse quando era già Papa, ma già nelle lettere che spedì sia il Papa, Nicolo V, sia Nicola Cusano da Graz nel luglio del 1453. C'è il famoso lamento sulla perdita della fonte stessa della cultura, della cultura occidentale, perché è una sola cultura. Scrive è la seconda morte di Omero, la seconda morte di Platone e poi si strugge per la distruzione che immagina dei codici preziosissimi, dei manoscritti degli autori greci ancora sconosciuti in Occidente. C'è anche il filologo, oltre che il bibliofilo, che parla e piange e si lamenta. Cito, che dire dei libri che là erano innumerevoli e ancora ignoti ai latini? Ahimè, quanti nomi di grandi scrittori si perderanno adesso? E poi aggiunge che con la caduta di Costantinopoli la fonte stessa delle musa si è prosciugata. Nella lettera al suo amico Nicola Cusano, invece, provengono delle frasi altrettanto belle, ma soprattutto quella famosa affermazione secondo cui, e cito testualmente, nessuno dei latini poteva apparire sufficientemente istruito se non avesse studiato per un certo periodo di tempo a Costantinopoli. Questo era proprio vero. Se dobbiamo riflettere, come stiamo riflettendo su cosa accadde veramente in quella data cruciale, il 29 maggio 1453, che cambiò la storia del mondo, che diede inizio forse all'età moderna, che comunque anticipò, se vogliamo, quello scontro di civiltà di cui oggi si parla tanto, che produsse l'ingresso nella nostra storia europea di un nuovo soggetto, i turchi, ottomani, un soggetto islamico, ebbene, dobbiamo anche riflettere alcuni dati materiali, come per esempio gli armamenti, e gli armamenti si sa sono sempre molto importanti. Il giovane Mehmet II, il sultano, sempre scrive Isidoro di Kiev, una delle nostre fonti e testimoni oculari preferiti, aveva fatto fondere più di mille bombarde, e tre di loro erano molto più grandi delle altre. E quelle tre lanciarono più di 700 grandi proiettili e provocarono spaventose rovine. Abbiamo visto quanto grandi erano i proiettili. E furono 51 giorni di martellamento di queste bombarde. E fu attraverso queste devastazioni delle mura, fra l'altro conclude Isidoro di Kiev, che Costantinopoli fu espugnata. Anche un bizantino dello schieramento opposto, Critobulo, che scriveva in greco, che era un intellettuale molto raffinato, molto bene informato e tutto sommato molto oggettivo, ma che stava in campo turco, era passato al sultano. E fra l'altro la sua oggettività e anche la buona qualità delle sue informazioni dipendono dal fatto che era in contatto stretto con i generali di Mehmet, in particolare era amico personale di Hamzabeg, l'ammiraglio che sostituirà, come vedremo, Baltahoglu al comando della flotta. Ebbene, nel suo preziosissimo resoconto sulla battaglia di Costantinopoli, Critobulo scrive Lapidario, i cannoni decisero tutto. Ora, è verissimo che le armi da fuoco non erano una novità, che erano state usate anche in Occidente, nelle battaglie, fin dal secolo precedente, senza una particolare efficacia, anzi, ancora nel Cinquecento. È noto, Michel de Montaigne avrebbe potuto emettere il suo celebre giudizio. Le armi da fuoco hanno scarso effetto, a parte l'assordamento delle orecchie a cui tutti ormai si sono abituati. E anche Machiavelli, nell'arte della guerra, emette un giudizio simile. Ma queste opinioni non tenevano conto dell'innovazione micidiale, dell'invenzione folle, spericolata, che Mehmet II aveva sollecitato a Urban, quell'ingegnere ungherese o forse danese, che aveva assunto facendolo assistere dai suoi migliori tecnici. L'invenzione di quel monstrum, dell'inaudito, gigantesco cannone, che nessuno aveva neanche mai osato pensare si potesse progettare, o tantomeno costruire. Il cannone di Urban, lo ricordo, con una gittata utile compresa tra i 600 metri e il chilometro, era anzitutto tale da mettere i serventi al sicuro dalla reazione dei difensori. Nel senso che in teoria una balestra avrebbe potuto colpire a quella distanza, ma con una protezione minima si annullava il rischio. Se volete avere un'idea di come fosse questo cannone di Urban, potete dare un'occhiata al cosiddetto cannone dei Dardanelli, che è di pochissimo posteriore all'assedio, è del 1464 ed è conservato alla Torre di Londra. E se volete avere un'idea della sua potenza di fuoco, vi ricordo che questo cannone l'ha dimostrata ancora nel 1807, perforando la fiancata protetta di un vascello inglese con un proiettile da 400 chili che ha prodotto uno squarcio di 70 centimetri. Insomma, i poveri difensori si erano trovati di fronte a un potenziale davvero devastante. L'uso delle armi da fuoco in misura e modi mai visti sicuramente fu tra le cause prime della sconfitta di Costantino XI. Come scrisse l'avveduto e bene informato, seppure un po' trasformista Critobulo, i cannoni decisero tutto. I cannoni decidono tutto, o quasi, ma ovviamente anche le manovre. Le manovre di marzo. L'esercito di terra si trasferisce davanti a Costantinopoli tra l'inizio e la metà di marzo. E comincia quindi il blocco turco della parte di terra. Il blocco che viene fatto da un effettivo gigantesco. Abbiamo visto le stime dell'esercito turco vanno, diciamo, dalle più caute, quelle veneziane di Nicolo Barbaro, 160.000 uomini, a quelle, diciamo, medie, generalmente accettate di 300-400.000 uomini della maggior parte delle fonti, fino addirittura a 700.000 uomini, secondo Abraham di Ankara, che era un armeno, probabilmente un monaco, testimone oculare della caduta, che è autore di un elemento inversi molto celebre, anche perché fra l'altro ci fornisce la notizia della deportazione da parte di Maometto II delle famiglie armene, oltre che greche, a Costantinopoli per ripopolarla dopo la sua capitolazione. Comunque, mentre la città cerca di organizzare la difesa e intanto questo enorme fiume, questa fiumana di uomini, si riversa davanti a Costantinopoli, si verifica un incidente assolutamente increscioso. Un certo Piero Davanzo, capitano di una nave veneziana, nonostante il giuramento che era stato prestato, ricordate, in dicembre davanti al Consiglio dei 12, cioè allo Stato Maggiore Veneziano, scappa con la sua nave, scappa dal Corno d'Oro, dando il cattivo esempio ad altre sei navi veneziane, che scappano anche loro con 700 profughi verso il porto di Candia, a Creta, mentre la nave di Davanzo torna direttamente a Venezia attraverso i Dardanelli. Questo ci deve anche far riflettere sulla, come dire, sulla grande diversità individuale dei comportamenti dei veneziani, alcuni eroici addirittura, come vedremo, come quello di Jacopo Cocco, per esempio, il capitano della Galea di Trebisonda, e altri invece francamente vigliacchi, come quello di Davanzo. Comunque, il vero punto, il vero timore per i bizantini è che l'attacco avvenga durante la settimana santa, che in quell'anno, 1453, cade tra il 25 e il 31 marzo, nel senso che la Pasqua, quell'anno, è il primo aprile. Anche per esorcizzare questo timore, i bizantini consacrano le due settimane prima di Pasqua, e soprattutto la megalivdomada, la liturgicamente strepitosa settimana santa ortodossa, ai lavori di rafforzamento delle mura di terra, in particolare della parte nord, tra la xiloporta, cioè la porta che segna l'intersezione tra il corno d'oro e le mura di terra a nord della città, e la torre di Anemas. Intanto gli equipaggi veneziani, perché appunto ci sono anche i veneziani alacri, non soltanto quelli che tagliano la corda, si dedicano in massa all'approfondimento del fossato, del grande fossato riempito d'acqua, soprattutto vicino al porto. E nel frattempo le navi che sono rimaste, che poi sono ovviamente la maggioranza, e che si trovano all'ancoraggio di fronte a pera, si trasferiscono sull'altra sponda, cioè sulla sponda costantinopolitana, alla porta che si chiama Tonchinegon. Tra fine marzo e inizio aprile, cioè subito passata la Pasqua e anche la paura, si ha probabilmente anche l'assegnazione, come abbiamo visto, dei tratti di mura e dei comandi da parte di Costantino. Sarebbe abbastanza noioso elencarli, lo vedremo poi man mano nello snodarsi dell'assedio e della battaglia finale. Però vorrei ricordare che Costantino è molto avveduto, nel senso che le mura di terra, che sono il settore più importante, sono strutturate a scacchiera, in parte veneziani, in parte bizantini, in parte genovesi, in parte bizantini, poi di nuovo veneziani, insomma in modo che non ci sia un fronte più debole di un altro e non ci siano delle defezioni di massa. E lo stesso in qualche modo avviene per le mura del corno d'oro. Ma questo lo vedremo più avanti, quando parleremo della battaglia. Adesso ancora stiamo parlando dei timori dei bizantini che il primo aprile celebrano una liberatoria solenne Pasqua ortodossa. Tirato il fiato con la celebrazione della Pasqua, subito il lunedì santo, cioè il 2 aprile, Costantino XI dà ordine di distruggere i ponti sui fossati e di chiudere le porte della città. Questo è un momento cruciale dell'assedio anche perché lo stesso giorno e sempre dietro ordine imperiale, gli occidentali fissano all'entrata del corno d'oro la celebre gigantesca catena. È una enorme catena di ferro che viene fra l'altro costruita e montata sotto la direzione di un bravissimo ingegnere genovese di nome Bartolomeo Soligo e viene fissata sulla sponda occidentale proprio sotto l'antica Acropoli dell'antica Bisanzio, non lontano dalla attuale punta del Serraglio e dall'altra parte in una delle torri delle mura marittime di pera. Era fatta in modo che vi si potesse ormeggiare a bloccare l'ingresso del porto un vero e proprio muro di navi bizantine e soprattutto occidentali. Questo muro comincia a ormeggiarsi alla catena il 9 aprile, viene schierata dietro la catena una barriera di 36 navi o addirittura 39 secondo un testimone fiorentino Tedaldo, alcune gigantesche e poi ce ne sono anche 17 di riserva all'ancoraggio nel porto. Ora quella barriera all'imboccatura della fessura della città vergine per dirla con Toursumbeg, per dirla con quelle immagini erotiche della conquista come seduzione sessuale quasi che abbiamo visto essere parte integrante della psicologia stessa della conquista, almeno nella testimonianza di Toursumbeg, ebbene questa barriera all'imboccatura del corno d'oro non fu mai in effetti violata. Nessun attacco della flotta turca ci riuscì. I posti definitivi di battaglia verranno occupati tra il 5 e il 6 aprile. Abbiamo detto che le mura di terra sono presidiate a scacchiera. Aggiungiamo che le mura del corno d'oro sono affidate di nuovo a scacchiera ma in modo più semplice a un'alternanza di veneziani che stanno così vicino alle aeronavi e di bizantini, tra cui il megaducas Luca Notaras, il turcofilo, che presidia la porta imperiale, la Vasilichi, con un contingente di cento cavalieri, tra l'altro misti, bizantini e latini. E poi una segnalazione sulle mura del mar di Marmara che avranno una curiosa sorte e che sono presidiate da un insieme davvero variegato di difensori. Si comincia andando da est a ovest e da nord a sud con Isidoro di Kiev e Leonardo di Chio, i due intellettuali che presidiano la punta dell'acropoli. Poi invece c'è un gruppo di ferocissimi, la compagnia catalana con Peire Julià che la comanda sotto l'ippodromo e sotto il vecchio palazzo. Ancora più a sud, a sud-ovest, all'altezza del porto di Eleuterion, abbiamo il principe Orcan, ve lo ricordate, il principe turco, ostaggio ormai bizantinizzato con i suoi uomini. E nella parte ancora più sud, in corrispondenza del quartiere di Samatia, abbiamo una compagine agguerritissima di monaci, monaci parbuti, nerovestiti, vecchi, giovani, ma tutti agguerritissimi, che affluiscono dai vicini e antichissimi monasteri della zona, presumibilmente dal triangolo San Giovanni di Studion, Sant'Andrea in Crisei e Vergine Peribleptos. Infine, nel cruciale punto di intersezione con le mura di terra, nel quartiere di Studion, abbiamo uno dei contarini, degli eroici contarini veneziani, Jacopo, mentre Filippo presidia una parte più su lungo le mura di terra. Insomma, una difesa niente male. Aprile è il mese più crudele, come diceva il vecchio Thomas Elliot. Il vero e proprio assedio ha inizio il 4 aprile. Nemez si era mosso il 26 marzo, si era accampato prima a due migli e mezzo, poi a un miglio, infine a un quarto di miglio in spostamenti progressivi che vanno appunto tra il 5 e il 7 aprile. Con il suo linguaggio aulico, Tursunbeg scrive che davanti alle mura di Costantinopoli a questo punto si fronteggiano due fiumi, l'uno il fiume di ferro, i soldati, l'altro il fiume immutevole del Bosforo. Il sultano si è riservato il comando personale del più cruciale settore d'attacco delle mura di terra, cioè quello della valle del fiume Likos, proprio di fronte al mesoteichion, cioè a un punto di riferimento che viene considerato la metà, il punto mediano delle mura, e pianta la sua grande tenda rossa e oro a 500 metri. La struttura dell'accampamento turco è molto interessante perché rispecchia un ordine preciso che non è soltanto gerarchico e cerimoniale, ma per così dire è esoterico. Abbiamo già visto l'importanza dell'astrologia intanto nei resoconti delle fonti turche. Terra e cielo si rispecchiano, l'ordine terrestre si rapporta continuamente a quello zodiacale, allora se è così l'accampamento turco non può che essere costruito come un cosmo. E infatti scrive Tursunbeg, al centro fu posta la sala del trono, simile al mondo, è ornata come il palazzo di Erem. Le tende dei giannizzeri formavano un cerchio tutto attorno e la circondavano così come l'alone circonda la luna. Ricordatevi questa immagine della luna perché tornerà, e pensate anche semplicemente alla bandiera turca. Comunque il simbolismo zodiacale è presente ossessivamente lungo tutta la narrazione delle fonti turche e particolarmente di Tursunbeg e questo dato, unito a vari altri indizi, lascia intravedere l'esistenza di una vera e propria dimensione astronomica, di una vera e propria lettura astrologica della conquista, di un'attenzione al cielo, alle sue posizioni, ai congiungimenti astrali, ai segni che è presente costantemente non solo negli stati d'animo ma anche effettivamente nella tattica e nell'azione dello stato maggiore turco. Tra l'altro in Tursunbeg abbiamo, oltre alla descrizione del tagliagole, la cui fondazione è stata decisa proprio dagli astrologi che hanno fissato il luogo e l'ora, se ricordate, e oltre alla descrizione dell'accampamento, la sorte delle mura di Costantinopoli è assimilata alla situazione della costellazione del Capricorno. Scrive Tursunbeg, nello spazio di alcuni giorni un certo numero di torri che costituivano una linea parallela allo zodiaco del Capricorno furono ridotte a rovine di terra. Bisognerebbe studiare molto bene il cielo del maggio 1453 per capire ancora meglio come andarono le cose in campo, per capire ancora meglio davvero quali furono gli atti bellici e quali furono i loro orari precisi, perché noi per la cronologia e per gli orari ci fidiamo sostanzialmente del giornale, del diario di Nicolo Barbaro, il medico veneziano, mentre le fonti turche stranamente si dice non danno né date né ore, ma non è strano, le danno con i riferimenti alle posizioni degli astri nel cielo, quindi questi riferimenti sono qualcosa di pervasivo e di molto più importante di quanto si possa pensare. Fra l'altro possiamo anche dire che lo stesso doveva avvenire in campo bizantino, nel senso che gli astrologi erano certamente al lavoro anche lì, anche se non ne abbiamo una notizia esplicita, se non per alcuni accenni riguardanti fenomeni celesti particolarmente sconcertanti come l'eclissi di luna del 22 maggio, ma di questo parleremo dopo. Parlavamo dell'eclissi di luna che si verificò, pare, il 22 maggio del 1453, ne parleremo anche in seguito perché spaventò a morte i bizantini e in parte anche i turchi, però occorre parlare ancora di luna e di sole, abbiamo visto che ne parla Tursunbeg a proposito dell'accampamento del sultano, abbiamo visto che la luna, una falce di luna calante, non crescente, ed è strano perché questo impero ottomano è un impero che cresce, perché una falce di luna calante nella bandiera del nascente e trionfante impero ottomano? Beh, prima di rispondere però vorrei sottolineare il fatto che luna e sole ricorrono anche nelle fonti bizantine e per esempio nel finale di un bellissimo compianto anonimo su Costantinopoli, si chiama Anaclimatis Costantinopolis, composto in lingua greca demotica, cioè popolare, ma di di alto tono letterario, che secondo alcuni proviene da Cipro, secondo altri e forse più probabilmente proviene da Creta, ed è forse il più bello, ma è difficile decidere qual è il più bello in questi molti e tutti bellissimi lamenti per la caluta di Costantinopoli che formano un vero e proprio genere letterario, accanto a quello dei veri e propri e altrettanto anonimi e splendidi canti popolari sulla caluta di Costantinopoli che rimarranno impressi anche nella tradizione orale, popolare, greca, per tutto il periodo della turcocrazia e oltre. Di alcuni si poteva ancora trovare memoria nei villaggi tra la fine degli anni 60 e gli anni 70, c'era ancora, parlo del Novecento, c'era ancora qualcuno che magari andando in giro per le isole dell'Egeo col sacco a pelo, si imbatteva in un vecchietto che gli cantava il canto sulla caluta di Costantinopoli. Ma questo lamento è qualcosa di un po' più letterario e ve lo cito perché è interessante. Alla fine, dopo avere un po' narrato quanto è accaduto il 29 maggio 1453, dice Cielo, non torlerarlo. Terra, non sopportarlo. Sole, spegni il tuo lume. Luna, non consentirlo. Farò un piccolo discorso allegorico. Immagina che il sole sia Costantino il Grande e chiama quindi Luna la sua nuova città. Non ti sembri bizzarro quanto sto dicendo? Un grande cosmo, infatti, Dio chiama l'uomo e lo ha posto nel piccolo cosmo che è il creato. Erano gli imperatori il sole e la città era luna e neanche la luna splende se viene meno il sole. Curioso questo capovolgimento, l'uomo come macrocosmo e il creato come piccolo cosmo, microcosmo. Ci sono molte implicazioni ma questa del sole e della luna, ossia dell'imperatore come re sole che fa parte di tutta la teologia, della dottrina, della regalità e dell'autocrazia bizantina e che poi tornerà proprio attraverso la riscoperta degli studi bizantini all'assolutismo europeo, alla monarchia di Luigi XIV che si chiamerà re sole proprio sulla scorta di uno studio delle fonti bizantine in proposito. Anzi, è proprio con il corpus del Louvre sotto il re sole e Colbert, il suo ministro, che nasceranno gli studi di storia bizantina in Europa. Ebbene, l'imperatore come sole e la città come luna, Costantinopoli come luna. Questa caratteristica lunare di Costantinopoli che l'avvicina anche alla Theotokos, alla madre di Dio ma anche alla madre chiesa, a quella grande divinità femminile, lunare, materna, che come vedremo verrà invocata, implorata in ogni modo in quel mese di maggio che è il mese di Maria e in cui a Costantinopoli fiorivano le rose. Se il simbolo della città era quello materno della luna, della divinità lunare, della divinità femminile, della madre di Dio, della madre chiesa, il simbolo del turco è il drago. È un'immagine questa che ricorre quasi ossessivamente nell'iconografia occidentale, ovviamente soprattutto in quella del tempo. Basta pensare a tutte le allegorie della progettata crociata occidentale antiturco come lotta di San Giorgio contro il drago. Esempio, eccelso fra tutti, l'allegoria antiturca delle storie di San Giorgio meravigliose, affrescate da Pisanello nella chiesa di Sant'Anastasia a Verona, non a caso, su committenza della corte più filo-bizzantina del tempo, cioè quella estense, la stessa che aveva organizzato il concilio di Ferrara nel 1438. Anzi, forse le scene, le storie di San Giorgio furono dipinte proprio in questa occasione. Ma si può pensare per esempio anche agli affreschi di Piero della Francesca. Di nuovo parliamo di questo pittore così legato a quanto accadeva nel mondo bizantino e di conseguenza nella cultura filo-bizzantina occidentale e, appunto, se guardiamo gli affreschi di Piero della Francesca nel ciclo di San Francesco a Rezzo, la battaglia tra Costantino e Massenzio di nuovo è un'allegoria chiarissima della lotta di una compagine bizantino crociata contro i turchi. I due schieramenti, se guardate questo affresco, sono contrassegnati. L'uno, quello di Costantino, che fra l'altro è rappresentato chiarissimamente come un imperatore bizantino del XV secolo, anzi proprio come Giovanni VIII Paleologo, l'imperatore che andò al concilio di Ferrara a Firenze. E questo schieramento è contrassegnato dalla bandiera bizantina, aquila nera su fondo giallo, e da quella crociata, cioè quella degli alleati occidentali che dovranno riconquistare la morea. Mentre dall'altro, quello nominalmente di Bassenzio, proprio le bandiere raffigurano un drago. E nell'immaginario occidentale questi esempi potrebbero moltiplicarsi, dai grandi capolavori fino alle arti, per così dire, minori, cioè fino alla ceramica, ma anche alla miniatura, all'incisione. E questo simbolo rappresenta il turco, ma forse si può leggere qualcosa di più, oltre alla rappresentazione di una potenza demoniaca, immensa, mostruosa, infernale. Perché sono le stesse fonti turche, il solito Tursunbeg, che diciamoci la verità è un po' delirante, è visionario, ma è una lettura fantastica, sono le stesse fonti turche che denominano proprio il grande cannone di Urban, anzi i due grandi cannoni di Urban draghi dalla gola infuocata. E non sono soltanto draghi dalla gola infuocata o infiammata, sono nello stesso tempo messaggeri di morte, e questo lo sappiamo, e invenzioni demoniache, e questo lo sappiamo, se non altro per l'atto di Hubris, se così vogliamo dire, di Mehmet II, non soltanto nel dispendio di mezzi per la loro progettazione, per la loro costruzione, ma anche per la enorme difficoltà del loro trasporto. Sono demoni in se stessi, e quindi forse è proprio l'immagine del cannone che genera l'immagine del drago. E comunque questa identificazione, drago-cannone, è certamente attestata, e ci lascia riflettere, perché è così arcaica l'immagine del drago, ed è così moderna la potenza dei cannoni. Sì, perché tra il gennaio e il febbraio del 1453, quando si trattò di trasportare il cannone di Urban da Adrianopoli fino alla distanza iniziale di 5 miglia da Costantinopoli, che poi come vedremo ad aprile sarà accorciata, ci vollero due mesi, e un impiego di mezzi inaudito. Secondo un altro storico bizantino, di nome Calcondila, furono necessarie 70 coppie di buoi e 2000 uomini. Secondo il nostro Leonardo Di Chio, che insomma non era neanche un credulone, ci volevano addirittura 150 coppie di buoi per spostare il cannone più grande. Altri testimoni forniscono cifre più basse, ma sono sempre e comunque sorprendenti. Del resto la difficoltà di trasporto non ci deve sorprendere considerando le dimensioni, il peso, il calibro della grande bombarda di cui abbiamo già parlato. E poi anche le condizioni meteorologiche, le piogge, fu fra l'altro un aprile piovoso, un marzo e un aprile piovoso, il che forse spiega quella grande fioritura di rose poi a maggio. Crudele fioritura di rose, come vedremo. Comunque questa enorme difficoltà, questa grandiosità, questa mengalomania di Mermet sono dei tratti ricorrenti del suo carattere. Sono forse anche il suo genio. Potrebbe essere visto questo anche come il suo delito di onnipotenza. Però, se Mermet non avesse vinto. Ma non era così scontato che Mermet vincesse. Era già vista così, come megalomania visionaria, come hybris, per dirla alla greca, la sua, da parte dell'ala moderata del consiglio dei vizir, quella capeggiata dal vecchio Khalil Pasha, diciamo l'erede in qualche modo del modo di pensare, di fare politica, di governare del padre di Mermet II, Murad II, che non dobbiamo dimenticare, dopo un primo esperimento fallito di mettere sul trono il figlio, peraltro illegittimo, l'aveva mandato in esilio. Mermet, come abbiamo visto, salì al trono strangolando l'altro bambino che nel frattempo Murad II aveva prodotto e che avrebbe dovuto essere l'erede. Insomma, era un personaggio discusso, Mermet. Alla corte veniva biasimato proprio per il dispendio immenso, per alcuni sconsiderato di mezzi, ma anche di uomini. Aveva sguarnito praticamente tutte le frontiere. E diciamo che il fatto è che la storia, si sa, è fatta dai vincitori e noi non abbiamo altro che storie di Mermet Fatih, di Mermet il conquistatore. Ma se Mermet invece non avesse vinto, e guardate che questo era più che possibile fino alla fine, e guardate che la vittoria di Mermet II fu casuale, perché nella storia in realtà quasi tutto è casuale. È solo che a posteriori poi si fanno dei ragionamenti. Da un lato appunto la storia è fatta dai vincitori, dall'altro la fede, la fede in una provvidenza, la fede in un destino, o anche semplicemente una fede storicista nella necessità di una direzione della storia. Ma se invece noi guardiamo la storia dei vinti, e se guardiamo le direzioni, le diverse direzioni che la storia avrebbe potuto prendere, e avrebbe potuto, beh queste certezze cominciano a decrescere. E forse noi dobbiamo vedere veramente Mermet come un giovane, sì forse geniale, pieno di fantasia, ma sostanzialmente come lo descrive Isidoro di Kiev, come un pazzo. Il cannone di Urban è un esempio di questa follia, di questo amore di Mermet II per l'innovazione vertiginosa, per la scienza sì, ma fino alla fantascienza. In effetti pensate che il cannone di Urban accenderà la fantasia degli occidentali per secoli, fino, per esempio, a Jules Verne, che lo cita in Dalla Terra alla Luna. Non so se ricordate, quando Barbie Kane, il presidente del Gun Club, il circolo degli artiglieri di Baltimore, insieme con i suoi soci, progettano di arrivare sulla Luna su un enorme proiettile di alluminio, che deve essere sparato appunto da un gigantesco cannone, ebbene evocano proprio il precedente di quello di Urban a Costantinopoli. Dice testualmente Barbie Kane, all'assedio di Costantinopoli da parte di Maometto II nel 1453 lanciarono delle palle di pietra che pesavano 1900 libre e che dovevano essere di una dimensione mostruosa. Quindi è proprio un'immagine fantascientifica questa del cannone di Urban, che fra l'altro ricorrerà ad esempio in una delle prime pellicole della storia del cinema, il famoso Voyage dans la Lune di Georges Méliès. I cannoni decisero tutto, scrisse Critobulo, e certamente il ruolo del cannone di Urban fu devastante, ma fu devastante per motivi diversi da quelli che si possono pensare. E fra l'altro c'è da correggere qualcosa che la vulgata storiografica moderna troppo spesso ripete, e cioè che fu per mancanza di mezzi che i bizantini non accettarono i servigi di Urban e che questi si rivolse allora al sultano. Certamente era vero, avevano pochi soldi i bizantini, ma il loro problema era un altro ed è un problema di grande bellezza. Loro avevano artiglieria, avevano numerosi cannoni, fra l'altro del più grande Calcondila ci dà anche dei dati, dice che lanciava proiettili da circa 50 kg e quello era il massimo. Perché? Perché bisognava usare piccoli calibri? Perché le armi da fuoco prevalenti erano poi alla fine le colubrine? Non è dovuto allo stato pietoso delle casse dell'impero, almeno non solo. È dovuto a un fatto altamente simbolico, l'incompatibilità della gigantesca, leggendaria struttura difensiva delle mura teodosiane con l'uso dell'artiglieria. Le mura teodosiane erano del V secolo. La loro statica, che pure aveva resistito tantissimo, era però quella di un'altra era, di quell'era che Bisanzio rappresenta. Bisanzio rappresenta l'antichità stessa, la cultura che esprime è quella dell'antichità. Bisanzio è la permanenza, il permanere della tradizione ed è una vera e propria metafora della condizione di Bisanzio, della sua inconciliabilità con il mondo moderno, il fatto che l'uso dell'artiglieria e la statica delle mura fossero inconciliabili tra loro. Ossia era la vibrazione, non tanto all'effetto dei proiettili a danneggiare le mure, questo impediva anzitutto di difendersi ai bizantini, impediva ai bizantini di usare cannoni grossi. È una metafora molto bella, la nuova tecnologia non poteva difendere una formidabile, maestosa, invincibile tradizione proprio per la continuità con la quale questa tradizione si era perpetuata. Proprio perché le mure di Teodosio, Teodosio, l'autore dell'editto di Teodosio, uno dei primi imperatori cristiani, proprio la loro straordinaria per l'epoca avanzatezza e il fatto stesso che per undici secoli fossero state rinforzate e migliorate, beh, proprio questa cura nella conservazione della tradizione fa sì che Bisanzio non possa difendersi, che le sue mura si sgretolino soltanto alla vibrazione dei cannoni. La stagione avanza. I soffi tiepidi dell'aprile, gli zefiri primaverili, scrive Tursunbeg, hanno ormai calpestato i soldati dell'inverno, i cavalieri del freddo. La primavera ha ormai indossato il suo manto multicolore. Aprile è il mese più crudele, dicevamo. Lo è per i bizantini, perché i turchi avanzano. I loro cannoneggiamenti scavano delle brecce nelle grandi mura. Le scavano, come abbiamo visto, non tanto con i proiettili, ma con la vibrazione dovuta all'urto dei proiettili, che magari non colpisce le mura direttamente, ma colpendo il suolo produce una vibrazione che fa sì che questa antichissima, straordinaria meraviglia del mondo, che sono le mura teodosiane, in qualche modo si sgretoli dall'interno. Le bombarde turche sono arrivate l'11 aprile, sono state messe da Mehmet II, tre davanti al Palazzo Imperiale, cioè nella parte nord delle mura di terra, due davanti alla porta Aurea, cioè nella parte sud, e quattro davanti alla porta di San Romano, che è, come vedremo, sarà al centro degli scontri, diciamo a metà delle mura, mentre altre tre sono davanti alla porta di Pigli, naturalmente stiamo parlando di tutte le bombarde. Quella grande di Urban, il cannone di Urban, è davanti alla porta di San Romano. Nel frattempo, già il 4 aprile, Mehmet ha assegnato i comandi e i tratti di pertinenza. A nord, dalle colline dietro Galata fino all'intersezione nord del Corno d'Oro, cioè all'altezza della Xiloporta, che abbiamo già menzionato, Saganos Pasha, il falco, il più bellicista e più legato anche a Mehmet del suo stato maggiore. A ovest, mura di terra, abbiamo Karajabeg, altro grande generale, con le truppe di Rumelia, cioè con gli occidentali, che tiene, presidia il tratto dalla Xiloporta alla porta Carisi. Mentre Khalil Pasha e Mehmet stesso, con i Giannizzeri e la Cavalleria del Seguito, vanno dalla porta Carisi alla porta di Poliandriou. I Shaq Pasha, con i suoi regolari anatolici, dalla porta di Poliandriou alla porta Aurea. A questo punto la radio è un mezzo meraviglioso, mi piacerebbe tanto che voi aveste sotto gli occhi una bella mappa, una bella piantina, però vi consolo perché per quanto siano stati fatti tanti studi, sia proprio sulla battaglia di Costantinopoli, sia sulle sue fortificazioni, non c'è una mappa che vada d'accordo con l'altra. Ancora oggi abbiamo dubbi sui nomi delle porte e diciamo su dove fossero effettivamente collocati. Perché questo? Perché intanto i bizantini stessi avevano diversi nomi per le porte, nomi che risalivano l'antichità, quella tradizione che mantenevano, e nomi invece moderni, popolari, demotici, modi di dire. Poi ci sono gli occidentali, che a loro volta hanno altri nomi, che chiamano in modi diversi gli stessi punti di riferimento, le stesse porte. E poi anche all'interno della comunità occidentale i veneziani richiamano in un modo, i genovesi in un altro, i mercanti hanno il loro gergo. Insomma, poiché il mosaico delle fonti, che per fortuna è vastissimo, perché molti si salvarono e vedremo perché e come, però il mosaico delle fonti è vasto, è variegato e multiforme, così gli studiuti sono finora impazziti per incrociare le informazioni. Abbiamo sicuramente delle carte più o meno ormai attendibili, ma non attendibilissime. Comunque voi immaginatevi un triangolo, come se lo immaginava la notte sognando Mermet II, un triangolo in cui la parte cruciale delle fortificazioni è il lato sinistro, il lato che dà verso l'Europa, il lato delle mura teodosiane, e in cui gli altri due lati sono lati di mare, con le mura marittime lungo il Corno d'Oro e lungo il Mar di Marmara. Aprile è il mese più crudele, ma non solo per i bizantini. È vero che il posizionamento delle bombarde crea delle grandi difficoltà ai difensori, ma intanto i difensori sono molto intelligenti. Per esempio il 18 aprile, che è il giorno dell'attacco più ingente alle mura da parte di Mermet II, Giustiniani Longo, il protostrator, il capitano di terra, il nobilissimo mercenario genovese di Chio, che con i suoi uomini ha assunto il ruolo di capo delle forze occidentali, imbottisce le mura con grandi balle di lana. Pensate, le balle, le gigantesche balle delle navi mercantili, che erano l'oggetto dei traffici, che erano poi la posta, la grande posta ai traffici di quell'istmo strategico che era appunto Costantinopoli. E questo da un lato potrebbe stupire cosa servono delle balle di lana per difendersi dalle cannonate, ma in realtà invece ci conferma proprio questo, che il problema non è tanto il punto che i cannoni colpiscono, ma è la vibrazione, quindi è proprio per attutire la vibrazione che queste mura vengono per così dire farcite di balle di lana per attutire le vibrazioni dei colpi. Comunque, dicevamo, è crudele il mese di aprile non solo perché il sultano si trova di fronte dei difensori piuttosto bravi, ma perché due giorni dopo l'attacco del 18, il 20 aprile, subisce una sconfitta navale veramente umiliante da parte di tre navi mercantili genovesi che sono comandate, diciamoli questi nomi, questi nomi di questi eroi minori, sono comandate da Maurizio Cattaneo, da Domenico di Novara e battesimo da Feliciano. E poi a questi si aggiunge una nave mercantile bizantina proveniente dalla Sicilia e comandata da Francesco Le Canella. Bene, queste tre navi mercantili forzano il blocco del tagliagole, riescono a ingaggiare e impegnare la sterminata, modernissima flotta turca di Valtahoglu fino al tramonto e fra l'altro sono costretti a farlo soltanto perché è calato il vento e quindi si sono trovati lì in mezzo al bosforo senza saper che fare. La flotta turca è ancorata in una località che si chiama Diplocionion, le due colonne che sta appunto un po' più a nord sulla sponda del Bosforo verso Adrianopoli. Poi al tramonto, però loro resistono, addirittura sconfiggono e qui si tratta di quattro navi, sconfiggono i turchi, si alza il vento al tramonto e Gabriele Trevisan, capitano di mare veneziano, arriva, ve le spiegate, le trascina in salvo all'interno del corno d'oro. Le perdite turche sono ingenti. Secondo le fonti cristiane più entusiaste 10 o 12 mila marinai turchi vengono uccisi contro zero perdite cristiane, si parla di solo due o tre marinai feriti che muoiono nei giorni successivi. Secondo una valutazione più moderata, qui appunto abbiamo un po' tutte le fonti che si fanno eco l'un l'altra in questo momento così di esaltazione. Abbiamo Sfranze, il segretario imperiale, il gran logoteta, autore della cronaca forse più importante, anche perché appunto è un testimone oculare come Critobulo, come Ducas, come Calcondila, i bizantini, ma anche come gli occidentali Barbaro, Nicolo Barbaro, il medico di bordo veneziano, Leonardo Di Chio, Dolphin, Pusculo. Secondo la valutazione più moderata dei più tecnici, le perdite turche ammontano a 100 morti e 300 feriti, mentre i cristiani ne hanno 23 morti e metà degli equipaggi feriti. Ciò non toglie che questa vittoria sia un colpo durissimo per Mermet, che spinge in mare il suo cavallo, che si bagna il mantello, che si arrabbia e però non c'è niente da fare. La sua flotta, la sua grande flotta, viene respinta. Avete sentito parlare di una città di cui un lato è terra e gli altri due mare? L'ora del giudizio non suonerà finché 70.000 figli di Isacco non l'avranno conquistata. Così recitava un'antica profezia islamica. Un'altra diceva, essi conquisteranno Costantinia, sia gloria al principe e all'esercito che compiranno questo. C'era una necessità provvidenziale che si congiungeva con quella geometria astrale di cui abbiamo parlato nella percezione della spiritualità islamica turca. E c'era anche una psicologia curiosa di Mermet II, che per qualche suo personale motivo era convinto di essere non solo, come abbiamo visto, il secondo Alessandro Magno dal punto di vista della storia del mondo, ma anche su un piano strettamente mistico, esoterico, il predestinato, colui che la provvidenza aveva prescelto per il supremo trionfo del profeta suo omonimo. Immaginatevi la sua rabbia quando dopo la sconfitta navale turca del 20 aprile teme che la profezia sia contraddetta. Però cosa succede? Che una delle massime autorità religiose dell'accampamento, e dovete pensare che ce n'erano tante, almeno tanti preti quanti astrologi, che si chiamava Akshens Eldin, uno sceicco, inviò una lettera di rassicurazione teologica e insieme di esortazione molto pratica a punire i responsabili. E fu così che il 21 aprile, aprile è il mese più crudele anche per gli ammiragli, il grande glorioso ammiraglio Balta Hoglu, venne sospeso dal suo incarico e fu sostituito con Hamza Beg. Hamza Beg, un gran soldato, un grande marinaio, anche un buon intellettuale, comunque il grande amico e informatore di Critobulo, come abbiamo visto. Fra l'altro gli sta bene a Balta Hoglu perché ha manifestato durante il periodo del suo comando una grande crudeltà. Per esempio nelle incursioni che ha fatto sempre in aprile, prima, il 12, diciamo tra il 12 e il 18, nel mar di Marmara, alle isole dei Principi. Tra l'altro qui abbiamo un'altra manifestazione di eroismo, di eroi sconosciuti. Nell'isola di Princhipos, che è la più grande delle isole dei Principi che si trovano appunto nel mar di Marmara, c'era una piccolissima fortificazione, tra l'altro in origine monastica e quando Balta Hoglu, che è la sua sterminata quantità di uomini, sbarca, questi pochi asserragliati nella fortezza non si vogliono arrendere, fin tanto che non vengono ammazzati selvaggiamente uno per uno e non solo, ma l'intera popolazione dell'isola viene per rappresaglia sterminata. I martiri dell'isola di Princhipos, altri eroi sconosciuti della caduta o della conquista, a seconda di come vogliamo chiamarla, secondo quella definizione che ha introdotto Stefan Zweig nel suo saggio racconto, come vogliamo chiamarlo, sulla caduta di Costantinopoli. Stefan Zweig è lo scrittore della Finis Austrie che appunto con questa sua poetica della nobiltà, della sconfitta e dell'inevitabilità della fine degli imperi esalta in questo suo scritto proprio appunto questi eroi sconosciuti, questi eroi minori, questi eroi senza nome che hanno per qualche motivo imperscrutabile, legato però a un senso dell'onore antico, hanno preferito la morte alla resa di fronte ai turchi. Non solo esonera dal comando, Valtahoglue lo sostituisce con Hamza Beg, ma nella sua rabbia immensa, nella sua frustrazione, Mehmet II comincia a escogitare un'altra delle sue follie, direbbe Isidoro di Kiev, o forse fantasmagoriche trovate. Abbiamo già parlato del suo strano carattere, di questo giovane padiscià ventenne che forse era un genio, forse era un megalomane, che comunque era sicuramente affetto da delirio di onnipotenza. Ora, fino a quel momento, e nonostante la gigantesca, diciamo anzi maniacale profusione di uomini, mezzi, innovazioni tecniche, alcune fantascientifiche, i suoi programmi e la sua stessa strategia erano stati tutti contraddetti dai fatti. Questo non lo dobbiamo dimenticare, perché ripeto, noi la storia la guardiamo sempre dal punto di vista del vincitore, anche perché è dalla corte del vincitore che in genere vengono espresse le memorie storiche che poi ci rimangono, è per magnificarlo che vengono scritte. E quindi poi la storia viene in qualche modo reinterpretata post eventum. Però in realtà al 20 aprile le cose vanno malissimo, diciamoci la verità. Mermet ha mobilitato un effettivo assolutamente mai visto, ha speso una quantità di soldi pazzesca, ha convinto il suo stato maggiore di innovazioni tecniche o trovate fantasmagoriche, quasi fantascientifiche, che li lasciavano tutto sommato abbastanza scettici e per ora non ha concluso niente. Nel senso che la sua intuizione tattica originaria, che se ricordate era quella secondo cui Costantinopoli poteva essere conquistata solo dal mare, l'idea che si era formato subito al suo primo sopralluogo, ricordate, intorno alle mura, e in funzione della quale aveva fatto costruire una flotta immensa, modernissima, l'aveva fatta fluire nel Bosforo, l'aveva messa in mano al migliore degli ammiragli turchi, ebbene questa sua intuizione tattica era stata smentita dai fatti. Per mare i turchi fino a quel momento erano subito solo sconfitte oppure hanno fatto incursioni selvagge come quella dell'isola di Princhipos, che però insomma erano quasi atti di pirateria. Ma appunto Mehmet, come lo definisce l'esitore di Kiev, era un folle, era un visionario, era un ideatore di prodigi, era un suscitatore di fantasmagorie, era un animo rigurgitante di scienza e fantascienza, oltre che di invasamento esoterico e mistico, come abbiamo visto. Tra l'altro l'interesse per la scienza gli era stato suscitato fin da ragazzo dal suo medico, che era un ebreo italiano, che si chiamava Jacopo da Gaeta, e lo aveva indotto a onnivore letture adolescenziali. Insomma, fatto sta che se il mare non accoglieva le sue navi, Mehmet decide che avrebbe compiuto anche qui il mai tentato, avrebbe trasformato il mare in terra e la terra in mare, avrebbe fatto volare le navi sulle colline genovesi di Galate, avrebbe fatto raggiungere alla sua modernissima e ingentissima flotta il corno d'oro per via di terra. Questo che cosa comportava? Comportava intanto per due giorni lo spianamento della zona di passaggio, che fra l'altro era di 4 km, non da poco, cosa che venne data da fare agli equipaggi che lavorarono due giorni. Queste 70-80 navi, secondo le stime, vengono trascinate da migliaia di uomini su rulli di legno ingrassati, però poi vengono anche spiegate le vele per sfruttare il vento che c'è in questo momento. Ora, la distanza tra il punto di partenza, che appunto sono le due colonne di Plochionion e il punto d'arrivo di 4,5 km, non è una cosa da poco e il punto di ammaraggio previsto, secondo Critobulo, che, accidenti, amico di Amtza Beg, doveva saperlo bene, si chiama Psicra Cidata, Acque Fredde. Non è proprio un gran buon augurio, ma insomma. Abbiamo visto che dopo la sconfitta, la terribile, umiliante sconfitta di Baltaoglu il 18 aprile, Mehmet II decide di far volare le navi. Letteralmente così si esprime Tursunbeg. Pur di violare in qualche modo quella famosa fessura profonda della città vergine di cui parla Tursunbeg, la cui immagine quasi erotica lo tormentava, escogita uno stratagemma, forza la natura stessa e fa passare le navi via terra. Avete presente Fitzcarraldo? Ecco, però non una, 70-80 navi. Naturalmente Tursunbeg è poeticissimo nel raccontare la scena, la scena che si svolge il 22 aprile. Le navi dell'Islam, adorne di bandiere dalle forme e dai colori svariati, spiegarono le loro vele. Le fecero avanzare nell'aria, al di sopra della fortezza di Galata, meglio le fecero volare. Da ogni nave si levavano i suoni dei tamburi e dei timpani, e le voci delle ciurme si mescolavano al frastuono delle onde del mare che si infrangevano l'una contro l'altra. Immagine assolutamente allucinata, tra l'altro ci sarebbe da parlare quando si parla delle battaglie dell'uso delle droghe. Sicuramente in campo turco si assumevano sostanze psicotrope e qualcosa ci fa pensare che nella poeticità, o anzi proprio nella poetica stessa, nel modo di raccontare le cose di Thursunberg, si è riflesso un modo di vedere quello che accade realmente allucinato, con questa ossessività astrologica, questo rispecchiamento continuo fra cielo e terra, e queste immagini, queste immagini sempre così deliranti. Però in effetti ci dicono anche la verità, perché è vero che spiegano le vele, lo fanno, come abbiamo detto, per utilizzare oltre ai rulli di legno ingrassati anche la forza del vento, e quindi da un certo punto di vista è vero che volano, anche perché volano effettivamente al di sopra della fortezza di Galata. Quando arrivano al punto di ammaraggio, alle acque fredde, alle psichra chüdata, oggi Hasim Pasha a nord di Galata, secondo un'antica manovra vengono unite l'una all'altra, le navi turche, per formare un ponte che quindi fronteggiava la città lungo una seconda linea di fuoco. E scrive Tursunberg ancora, quanto ci piace. Avresti creduto che il ponte rappresentasse la linea di uno scritto pieno di incantesimi destinati a permettere la conquista della fortezza. Sì, perché dovete sapere che Costantinopoli, che è chiamata la polis, la città per eccellenza, sempre e comunque da tutte le fonti, anche dalle fonti turche, nel momento in cui comincia l'assedio non viene più chiamata la città. Viene chiamata la fortezza. E beh, c'è un motivo per questo. Certamente c'è un motivo pratico, c'è un assedio, ci sono delle mura, dunque viene percepita come una fortificazione. Ma dobbiamo dire che quello della fortezza è un simbolo potente. Se qualcuno di voi ha presente la grande letteratura che esiste sugli assedi, la grande quantità di racconti di difesa delle mura, ebbene, hanno sempre qualche cosa di profondamente conturbante, perché sono una grande metafora. Lo sgretolamento delle mura è il cedimento dell'io. L'assedio, ogni racconto di difesa delle mura è la metafora di questa resistenza dell'io e l'espressione della grande paura che essa sia forzata. Se la fortezza è un simbolo potente, è una grande metafora, se anche l'assedio lo è, se lo è lo sgretolamento delle mura, se le mura rappresentano l'io e la difesa dell'io dall'altro, dall'ignoto, la resistenza alla permeabilità dell'io, al dilagare della fiumana dell'altro, dell'ignoto e straniero, dell'irrazionale selvaggio, che in questo caso è molto efficacemente simboleggiato dal turco, ebbene, pensate che simbolo ancora più potente è quello dell'esistenza di una porticina piccolissima, segreta, sotterranea, che nessuno conosce e che però non è stata sprangata e mette in comunicazione, senza che lo si sappia, l'io con l'altro. La fortezza, o meglio ciò che la fortezza protegge, con quest'ignoto straniero, irrazionale, selvaggio, con questa fiumana, altra simboleggiata dai turchi. Ebbene, abbiamo anche questo nella storia dell'assedio di Costantinopoli. Abbiamo quella che è stata misteriosamente, miticamente, fantasticamente descritta, cantata e diciamo analizzata proprio nella sua simbolicità più volte come Kerko Porta. Ebbene, abbiamo anche questo nel racconto dell'assedio e della conquista di Costantinopoli. Abbiamo un'altra porta, oltre a tutte le tantissime e molteplicemente chiamate porte delle mura di terra, abbiamo nemmeno una porta, una porticina, una postierla, un'apertura minuscola e sotterranea che forse addirittura non esistete mai realmente, ma che esiste realmente, anzi troneggia nell'immaginario dei testimoni della caduta e poi più ancora di quanti in seguito la interpretarono, l'analizzarono, la descrissero sia nelle opere storiche sia in quelle letterarie, che di volta in volta attualizzano poi nei loro resoconti il sentire politico e psicologico della propria epoca. e la Kerko Porta, appunto, campeggia sempre in questi resoconti, che siano storici o siano letterari, anche in quelli di coloro secondo i quali non esistete mai, il che forse è ancora più straordinario. Racconta un solo e unico cronista bizantino, Ducas, che esisteva in effetti una piccola porta sotterranea e segreta in prossimità della parte inferiore del palazzo imperiale, chiusa da molti anni scrive in modo sicuro. Alcuni storici congetturano che sia stata murata durante il regno di Isacco Angelo, cioè al momento dell'assedio crociato del 1204. Fatto sta che, come scrive di nuovo Ducas, era stata completamente dimenticata, finché all'inizio dell'assedio turco del 1453, cercando almeno un unico passaggio diretto, visto che le porte vere sarebbero state tutte blindate, alcuni vegliardi, scrive Ducas, si ricordarono nella sua esistenza e riferirono la cosa all'imperatore, così che per suo ordine fu smurata. Il nome di quella porta segreta, conclude Ducas, era un tempo quella di Kercoporta. Il nome della Kercoporta sarebbe rimasto famoso, tutti, da Edwin Pierce a Gustave Schlumberger, i primi autori di opere sistematiche sulla caduta di Costantinopoli, da Steven Ransiman, l'autore dell'ultimo testo base sulla caduta di Costantinopoli, fino a Agostino Pertusi, l'autore di quella meravigliosa antologia delle fonti sulla caduta di Costantinopoli, in due volumi pubblicata dalla Fondazione Lorenzo Valla. Passando per i molti che hanno elaborato letterariamente la caduta di Costantinopoli, come per esempio Stefan Zweig, con la sua poetica Finis Austrie, della nobiltà della sconfitta e della inevitabilità della caduta degli imperi, come abbiamo detto, hanno dato credito all'esistenza della Kercoporta, anzi l'hanno associata all'altro evento irrazionale, ma questo sì reale, che consentirà la violazione del grande simbolo della fortezza, un evento inesplicabile. The Kercoporta Incident è già al centro dell'analisi della battaglia del 29 maggio 1453, condotta da Edwin Pierce, come abbiamo detto l'autore del primo fra i grandi classici della storiografia dedicati alla caduta di Costantinopoli, The Destruction of the Greek Empire and the Story of the Capture of Constantinopoli by the Turks in 1453. Un libro che prendeva le mosse, non senza contestazioni e precisazioni, dallo studio delle mura teodosiane di uno studioso ottocentesco di nome Van Millingen. Sir Edwin Pierce era un tipo strano, era nato nel 1835 e aveva vissuto per 40 anni a Istanbul, faceva l'avvocato e il giornalista, inglese naturalmente, nonché molto probabilmente la spia, come conferma anche la storia piuttosto rocambolesca della sua incarcerazione durante la Prima Guerra Mondiale, del successivo rilascio per interessamento però non inglese ma americano e forse a sentire Pierce anche tedesco. Pierce è un personaggio molto interessante, aveva 80 anni quando fu incarcerato e la sua storia è raccontata tra l'altro nel suo diario 40 Years in Constantinopoli che è stato pubblicato a Londra nel 1916, tre anni prima della sua morte. Comunque sia, e qualunque fossero le motivazioni reali per cui Pierce era così interessato a queste cose, aveva una lunga consuetudine con le fortificazioni della città e in particolare con le mura teodosiane. Le aveva ispezionate personalmente più e più volte ed era anche convinto di aver visto con i suoi occhi la Kercoporta. Sostiene di averla vista nel 1875, prima della distruzione del tratto di mura in cui si trovava, da parte dei russi nella guerra russo-turca di liberazione della Bulgaria del 1877-78. Una guerra di liberazione di cui oggi si parla poco ma che fu appoggiata da grandissimi, eminentissimi intellettuali, scienziati, scrittori, da Vittorio Hugo, a Tolstoi, a Dostoievski, a Darwin, a Garibaldi e anche dal povero Edwin Pierce che ebbe non poche grane per il libro che scrisse a questo proposito. Comunque a partire da Millingen e Pierce la Kercoporta diventerà un simbolo sempre più presente e potente perché, come scriverà poco dopo Gustave Schlumberger, di cui sarebbe passato il destino di Costantinopoli. Gustave Schlumberger scriverà questo e racconterà la storia della Kercoporta nel suo siège, la prise e le sac de Constantinople par les turcs en 1453 pubblicato non a caso nel 1914 allo scoppio della Grande Guerra, mentre il libro di Pierce era stato pubblicato nel 1908. Abbiamo detto che il credito dato all'esistenza della Kercoporta si unisce all'associazione di questa, che viene citata da Ducas in tutt'altro contesto, all'altro evento irrazionale che consente la violazione del grande simbolo della fortezza. Si tratta dell'inspiegabile defezione del protostrator, del capitano delle forze di terra, cioè di Giovanni Giustiniano Longo, che proprio nel mezzo dell'attacco dei gennizzeri all'alba del 29 maggio 1453, a un certo punto si ritirerà nel mezzo dell'attacco. Noi non sappiamo da quale porta riuscirà a ritirarsi Giustiniano Longo. I due eventi irrazionali della storia dell'assedio e della caduta di Costantinopoli però, come vedremo, saranno sovrapposti in tutte le più oggettive anche e accurate delle narrazioni storiche. Ma torniamo a quest'immagine delle navi che a vele spiegate e con tutte le bandiere colorate ottomane al vento volano sopra le colline di Galata. Immagine allucinogena per i turchi, ma immaginate quanto terrificante per i difensori che assistono impotenti a questa ulteriore, mirabolante trovata del ventenne Padiscià. Ora è chiaro che le navi non avrebbero mai potuto passare da Galata senza il consenso dei genovesi. Galata era genovese, era una città genovese. Dobbiamo considerare che la terza parte delle forze difensive di Costantinopoli e di certo la parte meglio equipaggiata, meglio equipaggiata anche dei turchi fra l'altro, perché le corazze e comunque l'equipaggiamento di veneziani e genovesi era sicuramente il migliore, fra tutti, migliore anche di quello dei gennizzeri, era costituita dai veneziani e alla fine da quegli stessi genovesi che avevano garantito il passaggio delle navi ottomane da Galata. La storia della caduta di Costantinopoli è dunque una storia strana, perché è una storia da un lato di eroismi occidentali, ma dall'altra di tradimenti occidentali, almeno reciproci se non contro i bizantini. Nel senso che sulla condotta dei genovesi e anche su quella dei veneziani incombe un sospetto generale, forse anche la certezza possiamo dire, non solo e non tanto di un'ambiguità e duplicità diplomatica come minimo spregiudicata, ma di un vero e proprio doppio gioco. Ora però, dal punto di vista dei genovesi, il doppio gioco era qualcosa di diverso di quello che constateremo e abbiamo anche constatato da parte dei veneziani. I veneziani, come abbiamo visto, tendevano a dare un colpo al cerchio e non alla botte, a tenersi comunque prudenti, attendisti e a garantirsi comunque sempre attraverso la diplomazia e attraverso una certa neutralità o comunque inefficacia delle azioni propriamente governative, cioè deciso dal Senato della Serenissima, a tenersi comunque la possibilità di un'intesa con i turchi, se i turchi fossero stati vincitori. Ma la situazione dei genovesi è diversa, perché Galata si trova proprio schiacciata fisicamente tra l'esercito ottomano, anzi il territorio ottomano, è la città da conquistare, Costantinopoli, di cui anzi precedentemente era un quartiere. Quindi la neutralità nominale di Galata era scontata, era inevitabile. Ma proprio nella lettera di Isidoro di Kiev, di cui parlavamo, l'ultima lettera spedita da Candia, indirizzata a Filippo di Borgogna, che tra l'altro è stata edita soltanto abbastanza di recente da Pertusi, proprio Isidoro di Kiev fa una difesa aperta dell'operato dei genovesi durante l'assedio e ci dà una chiave di lettura molto precisa del comportamento genovese. Contro la diceria diffusa molto presto di un loro comportamento ambiguo, addirittura di un loro tradimento generale nei confronti dei bizantini e dei latini, la posizione di Isidoro è chiarissima. Scrive che benché i genovesi simulatu cum teucro viverent, cioè convivessero simulatamente con il teucro, con il troiano, cioè con i turchi, questo loro atteggiamento era stato concordato. Oque firet statuto consiglio. E loro non solo inviavano, quando era loro possibile, durante la notte, pare, uomini e mezzi e vettovaglie in aiuto degli assediati, ma partecipavano persino alle riunioni del Consiglio Imperiale. Questo ce lo dice un testimone attendibile come Isidoro di Kiev. E fra l'altro viene confermato da quanto già scriveva il podestà di Pera Lomellino a suo fratello in una lettera del 23 giugno 1453. «Se un solo pelo della mia barba conoscesse i miei pensieri, me la strapperei», pare abbia detto una volta di sé Mehmet II. Vi ricordate Stefan Zweig? Nel suo scritto sulla caduta di Costantinopoli è assolutamente esaltato, oltre che inorridito, dalla idea di far valicare a centinaia di navi un promontorio scosceso, talmente ardita che i bizantini e i genovesi di Galata la escludevano dal novero dei loro calcoli strategici, allo stesso modo in cui i romani prima e gli austriaci poi non avevano previsto l'eventualità di una rapida traversata delle Alpi da parte di Annibale e di Napoleone. Vedete come si identifica Stefan Zweig. Lo stratagemma delle navi evidentemente getta nello sconforto inizialmente i bizantini, ma subito, prima ancora che l'ultima nave ottomana sia fatta scivolare nel corno d'oro, il 23 aprile si ha un consiglio di guerra, in cui ovviamente sono presenti anche i veneziani e giustiniani e si propongono vari piani, fra cui quello di un personaggio tutto sommato piuttosto minore, uno di quegli eroi minori di cui appunto Zweig tanto tiene conto, è il capitano di una galera venuta da Trebisonde, il nome è Jacopo Coco e propone di tentare un attacco immediato di notte, di bruciare le navi turche naturalmente, si offre lui stesso di guidare la spedizione. Il consiglio accetta la sua offerta, si decide di agire senza informare i genovesi della città, perché la segretezza è indispensabile e fra l'altro i veneziani a questa condizione di fare la spedizione subito sono pronti a mettere a disposizione le imbarcazioni necessarie, non c'è necessità delle imbarcazioni veneziane. Il pieno di Coco è di mandare avanti due grandi navi da trasporto con i fianchi protetti da balle di cotone contro i colpi di cannone che devono essere seguite da due grandi galere per respingere qualsiasi ostacolo e nascoste tra queste grandi navi si sarebbero insinuate nel folto delle navi turche due piccole fuste spinte da rematori che avrebbero tagliato gli ormeggi delle navi e gettato materiali infiammabili così da incendiare la flotta turca. Il piano è buono, il problema è che le interminabili diatribe tra veneziani e genovesi fanno sì che venga rimandato. Viene rimandata l'impresa alla notte successiva, poi addirittura il segreto trapela, i genovesi della città ne vengono a conoscenza, si ingelosiscono e insomma per calmarli viene concesso che siano loro a fornire una delle imbarcazioni, non ne hanno di pronte, insistono per un altro rinvio, si rinvia fino al 28. La decisione è disastrosa perché a quel punto in realtà la notizia attraverso un genovese arriva a Pera e di lì al sultano. Cosicché quello di Coco è un sacrificio eroico e inutile. Avviene il 28 aprile e Coco stesso muore insieme a tutti i suoi marinai. Gabriele Trevisan la scampa per un pelo. Verrà sostituito come capitano delle galerie di Trevisonda il povero Jacopo Coco con Dolphin. Dolphin sarà appunto uno degli eroi alla Stefan Zweig della battaglia di Costantinopoli, ma fra l'altro dobbiamo approfittare di questo per fare una distinzione fra attitudine etica, individuale, ragione politica collettiva a proposito di Venezia. Perché effettivamente le singole azioni dei singoli individui, che siano veneziani, che siano genovesi, danno l'idea di una vera affezione, quasi di un patriottismo veneziano nei confronti di Costantinopoli. Questo è ben diverso dall'atteggiamento politico, diciamo, dall'atteggiamento della ragione politica del Senato veneziano. Se vogliamo Venezia incarna la modernità, incarna il pluralismo e se vogliamo è una sorta di impallo, di ingrippamento del meccanismo pluralista all'interno del Senato veneziano che fa cadere Costantinopoli. Costantinopoli cade forse per un piccolo disequilibrio di voti all'interno del Senato di Venezia. La Repubblica di Venezia aveva a questo punto pronte due flotte, non una, due. Quella in parte pagata, sovvenzionata dal Papa, il cui comandante era Alviselongo, nominato il 13 aprile, che aveva l'ordine di rimanere all'ancora a Tenedo fino al 20 maggio. Tenedo è un'isola poco a lago di Troia, cioè poco più in là dello sbocco dei Dardanelli. Deve rimanere lì per essere raggiunto dalla seconda flotta, quella solamente veneziana, che è comandata dal Capitano Generale del Mare, Jacopo Loredan. Ora, mentre Alviselongo parte il 19 aprile, cioè il giorno dopo del primo grande attacco alle mura da parte di Mehmet II, anche se poi fallito, e fra l'altro per decisione del Senato con due trasporti armati e 15 galere, Jacopo Loredan lascia Venezia soltanto il 7 maggio, di lì salpa per Corfu, dove la galera del governatore gli viene incontro per scortarlo a Negroponte, nell'Eubea. Qui avrebbe dovuto, insieme a due galere cretesi, salpare per Tenedo, congiungersi alla flotta di Alviselongo e il 20 maggio varcare i Dardanelli e arrivare a Costantinopoli per porgere aiuto agli assediati. Ebbene, questo non avviene mai. Per una sedicente mancanza di vento, Jacopo Loredan terrà le sue, peraltro solo cinque navi, più le due cretesi, ferme a Negroponte. E per capire come mai non arriverà neanche la flotta, tra virgolette, veneziano-pontificia, bisogna tenere conto di un sottile problema gerarchico, nel senso che Alviselongo, il comandante di questa flotta, che fra l'altro era molto più consistente, era gerarchicamente sottoposto a Loredan, dunque era ai suoi ordini. Quindi non solo il Senato evidentemente dà disposizione a Loredan di temporeggiare, di non muoversi, ma questo per automatismo porta a non muoversi anche la flotta veneziano-pontificia. Questo è grave, perché intanto, anche se la spedizione di Cocco è così tragicamente fallita, nel quartier generale turco sta serpeggiando una certa insicurezza, perché la voce della partenza della flotta veneziana che si sta dirigendo a Costantinopoli è arrivata. E fra l'altro c'è anche la notizia che Giovanni Cugnadi, il condottiero ungherese, sta preparando a sua volta una spedizione via terra. Per cui abbiamo una discussione molto accesa tra i vizir di Mehmet, in cui Khalil Pasha, il solito, vecchio, saggio, tra virgolette, pacifista, comunque moderato, forse al soldo dei bizantini, ma comunque a noi simpatico, Khalil Pasha vuole sospendere l'assedio. Il partito dei falchi è capitanato come sempre da Saganos Pasha. Mehmet decide di continuare offrendo una sorta di possibilità di trattato di pace a fine aprile, secondo alcune fonti, che però comunque non può essere accettato dai bizantini se non altro per la sua onerosità. Si dice che Khalil Pasha comunichi ai bizantini con la decisione di Mehmet e, fra l'altro, per questo verrà giustiziato dal sultano, oltre che per il presunto disfattismo. Quel che conta però è che questo è un momento cruciale. Cioè, secondo Ransiman, questo è il momento in cui, se fosse arrivata anche una sola vela veneziana, o papale o tutte e due, i turchi si sarebbero ritirati. In questi primissimi giorni di maggio, mentre al Senato della Repubblica di Venezia si scatenavano le liti e si scatenava probabilmente anche una certa aggressività fra le due fazioni in cui il Senato era diviso, Costantino XI invia un brigantino a largo con dodici volontari veneziani travestiti da turchi per vedere se le navi di Loredan sono in arrivo. È camuffato alla turchesca anche il brigantino, anzi un gripo per l'esattezza. Sappiamo che quella flotta non arriverà mai, ma questa è una cosa che Costantino XI non sapeva e che francamente non era neanche certa. Perché se le sorti si fossero ribaltate, se i bizantini avessero prevalso, cosa che non è affatto da escludere se si analizzano oggettivamente le testimonianze delle fonti, se si sfugge alla logica provvidenzialista degli islamici, simmetrica e inversa a quella dei bizantini con la loro dottrina dell'economia divina e della dolce punizione del cielo per il peccato della resa unionista di cui abbiamo già parlato, e se si sfugge anche a quella forse più insidiosa della storiografia romantico decadente, dei suoi epiconi, cioè alla visione storicista di un abisanzio che deve necessariamente cadere, che anzi vuole cadere, come ha avuto a scrivere anche il grande Brodel, che lo desidera fatalisticamente, pigramente assorta nel suo declino. Ebbene, se si considerano invece le cose alla luce dei fatti, dei dati forniti dalle fonti, noi sappiamo che Costantino avrebbe potuto vincere. E se Costantino avesse vinto, se i turchi avessero ripiegato cosa oggettivamente possibile fino all'ultimo momento, come vedremo, ebbene, si può scommettere che quelle navi bloccate da una presunta bonaccia sarebbero accorse a vele spiegate. La causa di Bisanzio allora sì si sarebbe identificata con quella dell'Europa. Allora sì, dietro alla possibilità che Costantinopoli venisse mantenuta come un enclave nel dominio ottomano, come una sorta di Berlino Ovest, come una sorta di Hong Kong, sarebbe stata sorretta dalla presenza di una vera potenza, di una vera volontà politica, di una vera coalizione di potenze, cioè le potenze europee. È tutto legato a questa peculiare attitudine attendista veneziana. Se la flotta si fosse mossa prima, Khalil Pasha avrebbe prevalso, Mehmet II avrebbe levato il campo. Era già successo infinite volte, c'erano stati tanti assedi, turchi e non solo. Ma quando un assedio dura un po' troppo e quando si hanno notizie di questo genere, di mobilitazione di grandi altri stati europei, capita che se illuminati i capi siano prudenti. Mehmet tutto era tranne che un illuminato, in questo caso è stato un fortunato. Fatto sta che nessuna vela si vide e che Mehmet non si ritirò. Annota tristemente un cronista veneziano che l'ultimo imperatore di Bisanzio, quando morì nella mischia con i turchi, doveva alla serenissima 17.000 iperpira. Testuale. Inizio di una cronaca veneziana. Alla fine del 300 i gioielli della corona di Bisanzio non appartenevano più all'impero ma a Venezia. L'ava di Manuele II Paleologo, l'imperatrice Anna, le aveva dati impegno alle banche della Repubblica nella guerra civile degli anni 40, a garanzia di un finanziamento di 30.000 ducati per il governo legittimo contro la grande sedizione nobiliare capeggiata da Giovanni Cantacuzeno. Bene, i paleologhi si portano dietro quel debito fino alla caduta di Costantinopoli. Verrà menzionato a ogni rinnovo dei trattati commerciali coi veneziani. Non si riuscirà mai a distinguerlo, anzi crescerà sempre nelle formidabili contrattazioni dei legali della Serenissima. Ancora oggi i gioielli della corona di Bisanzio sono conservati e ammirati a Venezia, a San Marco, così come le ricchezze trafugate durante la Quarta Crociata, gli ori, le reliquie che già nel Medioevo erano meta di redditizi, pellevinaggi. Quella di Venezia e Bisanzio, della Repubblica oligarchico-borghese del grande impero teocratico, è la storia di un'antitesi rovinosa, è una sorta di duello allegorico che alla fine del Medioevo stringe gli elementi di un conflitto etico quasi, oltre che storico. Il potere del mercato contro quello dell'ideologia. È vero che nel conflitto profondo tra la mentalità bizantina e quella Veneziana Venezia incarna per molti versi la modernità. L'attivismo dei doggi si attiene a una visione economica, pragmatica dei fatti politici, liberale nelle istituzioni, almeno rispetto alle monarchie medievali. La Repubblica Veneziana combina impresa di Stato, iniziativa privata, guadagnando nel Levante una ricchezza senza rapporto con il numero dei propri abitanti, così che, come già nell'antica democrazia mercantile di Atene, questo porta a un'alta valutazione dell'individuo. In tempi e in luoghi in cui le vite umane si sterminavano in massa, ogni cittadino di Venezia valeva migliaia di ducati, come dimostrano i riscatti pagati dalla Serenissima, non solo a Mehmet II, dopo la presa di Costantinopoli, ma già prima ai precedenti sultani turchi. In antitesi alla modernità di Venezia, Bisanzio è il simbolo stesso dell'antico, nel senso che sono antiche o tardo antiche le strutture giuridiche, economiche dell'impero, le forme di produzione condizionate da uno Stato centrale, da una burocrazia capillare che derivava, come abbiamo detto, dall'impero romano e dalle sue leggi. In termini filosofici e giuridici la proprietà statale della terra veniva prima di quella privata. La terra è di Dio, non può essere privatamente posseduta, ma solo collettivamente condivisa e questo impedisce non solo la formazione di una nobiltà stabilizzata, in grado di governare permanentemente l'impero, ma soprattutto quell'accumulazione primitiva di capitale che fu invece all'origine dell'impresa nell'Ovest europeo. Dunque c'è una sorta di inconciliabilità, di irreconciliabilità, fra due mentalità che non hanno in comune nulla. L'impero bizantino che da sempre era riuscito a amalgamare in sé infinite culture diverse aveva tentato di assorbire anche le repubbliche mercantili, la mentalità veneziana, la mentalità del commercio, ma il commercio mobilissimo sfuggirà come il mercurio alla presa così lenta del calderone, del melting pot bizantino. Sarà una sorta di incidente alchemico. La logica del commercio era e sarebbe sempre rimasta profondamente strana alla mentalità bizantina. Per la mentalità bizantina, per dirla con Baudelaire, si trattava solo e sempre dell'infame spirito del commercio. Lo stesso 3 maggio, in cui il grippo camuffato alla turchesca, con i marinai veneziani, anche loro travestiti da turchi, che si fanno largo arditamente, sgusciano fra le enormi chiglie delle navi ottomane e riescono a prendere il largo per cercare la flotta veneziana di Loredan, quello stesso giorno i cannoni ottomani vengono trasportati sulle colline dietro Galata. Fra il 3 e il 5 maggio, tra le due sponde del corno d'oro, i cannoneggiamenti si fanno sempre più forti. Tanto che viene offerta da parte della corte e di Giovanni Giustiniani Longo, come ci dicono alcune fonti, tra cui la fondamentale cronaca russa di Nestor Eyskinder, viene offerta a Costantino XI la fuga verso la Morea e Costantino rifiuta. Tra la fine di aprile e la metà di maggio, Mehmet tenta ben tre volte l'attacco contro le mura. Il secondo, quello del 7 maggio, con 30 mila uomini, è creduto dai bizantini quello finale. Poi però si ricredono perché vedono che la flotta turca non lascia l'ancoraggio di Diplocionion. Comunque però viene incendiata la porta del palazzo, anche se riparata con mezzi di fortuna. E tra l'8 e il 12 maggio si scatena l'inferno. Per quattro giorni, ininterrottamente, soprattutto dalla parte della porta di San Romano, vengono bombardate le mura, specialmente da parte del grande cannone di Urban, che non dimentichiamolo, può parare in un giorno solo sette colpi. Però quei sette sono colpi non da poco, anche perché i proiettili si frantumano atterrando e a loro volta ne producono di infiniti, considerando anche la grandezza dei proiettili del cannone di Urban. Quindi una parte delle fortificazioni esterne, abbiamo visto che le mura teodosiane sono triplici, quindi insomma non è gravissimo, però è grave perché, come abbiamo detto, non è tanto che le palle centrino le mura, ma è l'intrinseca vulnerabilità alle vibrazioni delle mura teodosiane che fa sì che l'impatto dei grandi proiettili sul suolo vicino le faccia sgretolare. Il 12 maggio abbiamo il terzo attacco di Mermet a mezzanotte con ben 50.000 uomini, 50.000 ed erano meno di 5.000 come abbiamo visto invece i difensori di Costantinopoli. Grande battaglia intorno alle mura vicino al palazzo imperiale, atti di eroismo. Per esempio c'è un soldato greco di nome Rangabe che si dice abbia tagliato in due il portabandiera del sultano Amir Beg, ma che poi viene circondato e trucidato, ma questo è sempre per la solita storia che piace tanto a Zfai, che è anche a noi degli eroi minori. Ma comunque l'attacco viene respinto. Chiariamo subito che al sultano non importava praticamente nulla delle vite dei suoi soldati. Ne aveva moltissimi. In generale si può dire che non gli importasse nulla della vita umana, almeno di quella individuale. Ce lo dice proprio nero su bianco il solito Tursunbeg a proposito di un altro episodio, cioè la cattura dei turchi residenti a Costantinopoli da parte di Costantino XI come rappresaglia dopo la costruzione del tagliagole. Ci lascia scritto Tursunbeg, il padiscià vittorioso li considerava come una goccia rispetto al mare e non se ne curava affatto. Questo va capito per rendersi conto che comunque lui continua. Gli muoiono moltissimi uomini, ma lui ne ha sempre di nuovi. Di nuovo alcuni unitari consigliano a Costantino di lasciare la città, ma lui di nuovo rifiuta. Il 14 maggio da dietro Galata le bombarde turche vengono spostate davanti alla porta Ton Kinegon e vengono bombardate le mura marittime con bombardamenti continuati giorno e notte. In quel mese di maggio c'era una straordinaria fioritura di rose a Costantinopoli, particolarmente numerose anche perché la città era in parte stata abbandonata, per cui fra l'uno e l'altro dei palazzi, fra l'uno e l'altro dei quartieri si estendevano zone di verde, siepi e ovunque le rose abbondavano. Mancavano invece i viveri, mancavano e come. Ma il morale non era tanto basso, perché dopo i tre attacchi da terra di Mehmet, che comunque erano stati respinti, il 16 e il 17 maggio vengono tentati due attacchi per mare. Il 16 alle 10 di sera, con 20 triremi e altri 150 navi contro la catena del corno d'oro e la barriera di navi, che si conclude con un ripiegamento della flotta. E il 17 maggio, un'ora dopo, alle 11 di sera, c'è un secondo attacco navale turco che viene di nuovo respinto, questa volta dall'artiglieria bizantina. È vero che i turchi continuano a bombardare le mura di terra, è vero che si considera l'attacco finale imminente, però intanto una vittoria che sia una non l'hanno ancora riportata, tranne forse a Principos, da parte di quel bastardo di Baltaoglu. Questo forse spiega come mai l'offerta di fuga, che ai primi di maggio era stata fatta, dopo l'inizio dei cannoneggiamenti alle mure marittime, a Costantino XI da parte della Corte e da Giovanni Giustiniani, era stata rifiutata. Lo stesso invito sarà reiterato dalla Corte due settimane dopo, il 26 maggio, cioè tre giorni prima, e questo tra l'altro è accertato con ancora maggiore certezza dalle fonti. E fra l'altro, di nuovo, Costantino non accettò. Pare che durante il colloquio sia addirittura svenuto dalla stanchezza, dalla tensione, però non accettò. Certamente il fatto che ci fosse una non prevalenza bizantina, perché chiaramente le forze turche erano infinitamente preponderanti. Ma ci fosse una sorta di impotenza di questo, invece, suo disant onnipotente personaggio che era il sultano. Forse aveva contribuito a indurre Costantino a non mollare, però dobbiamo considerare un fatto che, come abbiamo detto, esisteva un piano alternativo, un piano B, che Costantino XI era stato incolonato a Mistrà, in Morea. Che se Costantinopoli fosse stata in pericolo, già da molto, molto tempo, già nei piani di Manuele II Paleologo, di suo padre, l'imperatore in carica in quel momento avrebbe dovuto arroccarsi in Morea. Come era accaduto nel 1204, quando la quarta crociata era, diciamo, deviata su Costantinopoli, comunque, quando i crociati avevano conquistato Costantinopoli, il governo bizantino e l'imperatore si erano arroccati, questa volta a Est, a Nicea, e poi questo aveva concesso loro di riorganizzarsi e poi di riconquistare Costantinopoli. Qui la situazione era un tantino diversa, però sicuramente una resistenza antiturca dalla Morea era organizzabile, se non altro coordinando altre forze. Intanto le forze ungheresi di Giovanni Uniadi, poi le forze di Skanderberg in Albania, che non erano mai state sconfitte, che erano veramente una sorta di resistenza partigiana imbattibile, lo sarebbero state ancora per molto tempo. Allora, perché Costantino non usò l'opzione della Morea? Perché quell'impero di riserva, che fin dai tempi di Emanuele II era stato predisposto come via di salvezza occidentale, del titolo almeno di Bisanzio, perché non fu utilizzato da Costantino che avrebbe potuto, facendo convergere subito lì le forze d'appoggio occidentali, organizzare da subito una lotta di indipendenza antiturca? Perché Costantino non andò in Morea? Perché non salvò se stesso e non salvò in definitiva anche i suoi cittadini dalla strage? Noi non possiamo saperlo per certo. Abbiamo detto che forse in questo momento c'era una euforia per il fallimento reiterato dei tentativi turchi sia per parte di terra che per parte di mare. Certamente Costantino credeva che la flotta veneziana sarebbe arrivata, certamente si fidava di Loredan, questo è attestato. Certamente poi c'erano altri fattori, nel senso che esisteva un antilatinismo delle aristocrazie, un progetto dell'elite di palazzo bizantina di divenire elite di palazzo turca che fra l'altro era un progetto per nulla da escludere, come vedremo quando racconteremo la storia del megaducas Lucano Taras, il grande turcofilo e purtroppo anche quella dei suoi figli. Però c'era anche qualcos'altro di mezzo in questa che è un'irrazionalità, certamente, del comportamento di Costantino XI rispetto a tutto quello che abbiamo detto e a tutta l'analisi che si può fare della politica bizantina dal 1380 all'incirca in poi. Questo qualcos'altro ha a che fare con uno smarrimento profondo dei bizantini del XV secolo, uno smarrimento della stessa identità spirituale del Basileus e della sua aristocrazia che si può collegare forse proprio a quella famosa unione ineffigie delle chiese del concilio di Ferrara a Firenze. Perché, contrariamente a quanto spesso si crede negli stereotipi del bizantinismo, la civiltà di Bizanzio era pervasa di valori morali e spirituali e aveva un'etica religiosa sia nell'espressione elitaria e dotta sia in quella popolare e monastica molto più forte di quella del decadente cattolicesimo quattrocentesco insidiato dalla corruzione della curia romana, dalla contestazione non solo dei movimenti ereticali ma della grande eresia protestante prossima avventura che già era anticipata dai fermenti interni al partito conciliarista. Quando la certezza di quell'identità ortodossa che era durata tanto quanto la tradizione classica se vogliamo e che appunto fin da Costantino era proceduta di pari passo, quando la certezza di quell'identità fu messa in crisi dalla proclamazione dell'Unione a Firenze in qualche modo andò in crisi lo stesso modo di pensare bizantino, perché noi dobbiamo distinguere c'erano gli intellettuali, Vessarione, Isidero di Kiev, erano spregiudicati, erano fautori di una religione universale, filosofica, sincretistica che andava quindi d'accordo con quella dei loro vis-à-vis occidentali su un piano molto più alto della trattativa formale, dogmatico, teologica ed erano loro gli intellettuali che avevano sancito il compromesso con la Chiesa di Roma e che lo facevano con interlocutori altrettanto intellettuali, da Nicola Cusano a Pio II a tutti gli esponenti della Curia. Ma c'erano anche i non intellettuali, c'erano i più semplici, il che non vuol dire i più umili e i non potenti, che probabilmente entrarono in uno stato di incertezza profonda, in cui tra l'altro concorrevano anche l'odio ideologico antilatino che era stato acuito dalle conseguenze anche materiali e culturali del saccheggio della Quarta Crociata. E poi concorreva il patriottismo greco-slavo, concorreva il misticismo agrario, concorreva l'innata vocazione orientale dei bizantini che avevano comunque simpatia per il mondo d'Oriente. Costantino XI forse era fra questi semplici, era un guerriero, era un combattente. Forse questo spiega perché Costantino XI non fuggì in Morea, aveva forse semplicemente le idee confuse. Il proseguimento della battaglia un po' diede ragione a Costantino, un po' no, nella sua decisione di non lasciare Costantinopoli per la Morea. Dopo le sconfitte di mare e di terra, Mehmet tirò fuori un altro dei suoi visionari espedienti. Portò dalle sue private miniere d'argento di Serbia migliaia di minatori armati di speciali picconi che fra l'altro sembravano dei vecchi d'uccello. Così li descrive un cronista turco, i minatori delle miniere d'argento della Serbia con i loro martelli dalle punte taglienti simili al becco d'uccello. E questi minatori gremirono il campo turco e cominciarono a scavare delle gallerie. È la prima guerra di mine della storia. La prima galleria viene scavata dai turchi aiutati appunto dai maestri minatori il 16 maggio in corrispondenza della porta Caligaria. E però i bizantini hanno un aiuto, hanno Giovanni Grant, un alemanno, Giovanni alemanno viene chiamato, che è un maestro minatore tedesco portato a Costantinopoli da Giovanni Giustiniani. Quindi forse chissà, l'intelligence aveva funzionato, forse questo piano di Mehmet qualcuno lo aveva già rivelato a Giustiniani. Comunque fatto sta che questo Grant, o Grant, se era tedesco, rapidissimamente scava delle gallerie parallele e riescono a scovare fra l'altro i bizantini con metis odissiaca le ubicazioni di queste gallerie. La prima era per esempio in corrispondenza della porta Caligaria. La tecnica è quella dell'allagamento o dell'affumicamento o dell'incendio. Nel senso che scavando queste gallerie parallele, poi attraverso dei canali di passaggio tra la galleria bizantina e la galleria turca, viene in un primo caso allagata la galleria turca facendo affogare tra l'altro tutti i poveri soldati e minatori. In un altro caso il 21 maggio viene affumicata, il 22 maggio quando vengono scoperte e neutralizzate una terza e una quarta galleria, la prima sempre alla porta Caligaria, l'altra non si sa. La fanno crollare addosso agli scavatori perché le incendiano e quindi le sostruzioni vengono giù e i poveri minatori vengono seppelliti. Tra l'altro è la stessa notte, quella del 22 maggio, dell'eclissi parziale di luna di cui abbiamo parlato che genera una grande paura nei bizantini ma anche nei minatori serbi che si vedono così falcidiati. Il 23 maggio all'alba è scoperta e neutralizzata una quinta galleria sempre alla porta Caligaria e il 24 e 25 maggio la sesta e la settima e più pericolosa galleria vengono smascherate ed è la fine della guerra delle gallerie anche perché viene catturato un ufficiale che rivela l'ubicazione di tutte le altre. Quindi grande metis dei greci, grande prontezza di riflessi, grande strage dei turchi. Ma ricordiamo che come scrive Tulsumweg, a Mehmet II, al padiscià vittorioso, le perdite tra i suoi uomini non importavano, li considerava come una goccia rispetto al mare e non se ne curava affatto. In più il 23 maggio, cioè il giorno della neutralizzazione della terz'ultima galleria, c'era stato un fatto che impediva decisamente all'imperatore e al suo stato maggiore di festeggiare alcunché, come forse avrebbero dovuto. C'era stato il ritorno del brigantino inviato il 3 maggio alla ricerca della flotta veneziana, del gripo camuffato alla turchesca. Anche questi sono eroi senza nome alla Stefan Zweig, perché tornano, anche se non hanno avvistato nessuna flotta, tornano coraggiosamente, però tornano e dicano la verità. E racconta Nicolò Barbaro che quando questi volontari veneziani lealmente riferiscono che nessuna flotta veneziana è in vista, Costantino XI scoppiò in lacrime. Abbiamo superato la metà di maggio, abbiamo visto che l'astuzia quasi podissiaca dei greci, la Metis, comparata all'enorme disparità delle loro forze rispetto a quelle turche, fa proprio pensare a Ulisse e Polifemo. Dopo il fallimento della guerra delle gallerie, però Mehmet ne scogita un'altra delle sue. Il 18 maggio, durante la notte, fa costruire in campo turco un enorme bastione, una torre di legno, tutta coperta di cuoio, alta più delle mura. Pare che fosse in corrispondenza della porta di Xilokercos, che sarebbe l'odierna Belgrad Capi, nella parte sud delle mura di terra. C'era un camminamento coperto che permetteva agli assedianti di raggiungere il bastione senza esporsi ai colpi. Ma non solo, agendo dall'interno, i turchi potevano riempire di terra il fossato, che stava subito fuori dalle mura di terra, e avvicinarsi progressivamente perché il bastione era dotato di ruote. All'interno, nella parte più alta, c'erano poi molte scale con arpioni che fanno pensare che volessero, una volta completamente ricoperto di terra il fossato, avvicinarsi direttamente con questo bastione alle mura e di lì intraprendere la scalata, l'assalto. Però appunto la Metis greca è sempre lì pronta in agguato e anche questa specie di anticavallo di Troia, diciamo, è subito neutralizzato, nel senso che un pugno di volontari bizantini la notte stessa esce furtivamente dalle mura, introduce nelle feritoie della torre di legno e cuoio dei barilotti di polvere da sparo. Gli dà fuoco, enorme esplosione della torre con strage completa di tutti i poveri turchi che ci stavano e dentro e sopra. Di nuovo dobbiamo però ricordare che a Mehmet le vite dei suoi uomini non importavano granché, come scrive Tursunbeg, il padiscià vittorioso li considerava come una goccia rispetto al mare, non se ne curava affatto. Tant'è vero che il 19 maggio è già all'opera con un'altra diavoleria, il ponte di Barili, che fa costruire attraverso il corno d'oro, nella parte nord, cioè appena oltre le mura della città, l'intersezione tra le mura e il canale. Questo ponte è costruito unendo a due a due, con un piccolo spazio fra loro, circa 100 grandissime botti di vino vuote, il che dà forse anche l'idea del consumo alcolico nel campo ottomano, oltre a quello di altre sostanze che abbiamo già congetturato e che è quanto mai probabile. Comunque, sopra i barili vuoti ci sono delle travi, sopra queste ci sono delle tavole di legno su cui possono passare cinque uomini affiancati e anche carri pesanti, non solo. Piattaforme galleggianti vengono attaccate a questo ponte, abbastanza forti da sostenere il peso dei cannoni e quindi questi cannoni vengono puntati sulle mura delle blacherne, da un'altra posizione e sono molto insidiosi, perché fra l'altro copriranno le andirivieni veloci dei soldati dalla sponda di pera alle mura della polis, che appunto controllano anche da una nuova angolazione. Ci è raccontata da molte fonti questa costruzione, praticamente da tutti, anche da Critobulo che come sappiamo era molto amico di Hamza Beg, dell'ammiraglio turco e quindi insomma conosceva i fatti con precisione, anche da Barbaro che in quanto in contatto con tutto lo stato maggiore veneziano anche lui aveva notizie di prima mano e possiamo dire che il punto preciso dove il ponte raggiungeva la spiaggia di Istanbul non è quello contrassegnato dalla lapide commemorativa del 1953, ma quello che si vede nella mappa di un personaggio già citato, Bertrandon de la Brocchiere, una mappa tracciata nel 1455 per il suo voyage d'outremer, come avevamo detto era una spia Bertrandon, quindi le mappe delle spie sono affidabili come quella di Peirce e che ci indica, oggi questa mappa è alla Biblioteca Nazionale a Parigi, che il punto è oltre il raggio delle artiglierie e delle mura. Nella seconda metà di maggio a Costanzinopoli erano fiorite le rose, una fioritura straordinaria come abbiamo detto, probabilmente resa ancora più straordinaria dalle grandi piogge di aprile che avevano non poco ostacolato fra l'altro tutti i vari trasporti di cannoni, bombarde e altro da parte dei turchi che comunque erano talmente tanti che riuscivano sempre a fare tutto anche in mezzo al fango. Comunque sappiamo che i giardini che dividevano l'uno dall'altro i vari quartieri erano traboccanti di rose, che il profumo delle rose si spandeva in città anche dalle siepi che orlavano le vie e però gli abitanti sapevano che la luna stava calando e l'antica città che aveva come simbolo la luna, la divinità femminile, sentiva questo fatto come presagio di una fine imminente. Abbiamo già visto che c'era stata un'eclissi di luna il 22 maggio, questo lo dice Barbaro, però in realtà è arrivato il momento di segnalare che consultando gli annali astronomici o meglio ancora qualche meraviglioso sito web tipo quello della NASA, possiamo correggere Barbaro, l'eclissi fu il 24 maggio, cioè lo stesso giorno del plenilunio. Dal giorno dopo, dopo questo già funesto presagio, la luna avrebbe cominciato a calare. Ora, da qualche secolo, circolavano a Bisanzio tantissime profezie, una vera e propria letteratura di profezie apocalittiche sulla fine dell'impero. Tra l'altro sono elencate tutte da Leonardo di Chio, fa una specie di bignamino delle profezie. Ce n'era una che diceva che la città non sarebbe mai caduta durante la luna crescente, il che voleva dire che però durante la luna calante poteva cadere. E fra l'altro diceva anche che l'ultimo imperatore si sarebbe chiamato come il primo, cioè Costantino, e questo effettivamente era vero. Insomma, l'insieme delle cose, unito alla notizia che ormai si era sparsa in città del ritorno del brigantino veneziano camuffato alla turchesca e del mancato avvistamento della flotta, fa sì che per il 25 e 26 maggio, cioè subito dopo il plenilunio, all'inizio della luna calante, si organizzasse una gigantesca, veramente gigantesca processione propiziatoria dedicata alla Vergine, appunto, alla divinità femminile, a Maria. Maria nel suo mese, il mese di maggio, il mese delle rose. Viene portata in giro per tutta la città l'icona più sacra, il vero e proprio palladio della città, che è l'icona della Vergine delle Blacherne, quella che già aveva salvato, si diceva, la città dall'assedio degli avari, quella per ringraziare la quale era stato composto il più famoso inno bizantino, l'inno acatisto, in onore della Vergine, della Teotocos. Tutti quelli che possono lasciare le mura si uniscono alla processione, la folla avanza lentamente, a un certo punto l'icona, cosa mai successa, scivola dal supporto. Segno gravissimo, funesto, cercano di raddrizzarla, ma sembra diventata di piombo. Solo con uno sforzo enorme riescono a rimetterla a posto. Intanto cosa succede? Scoppiato un terribile temporale, con grandine, non si riusciva quasi a stare in piedi da quanto picchiava, le strade erano allagate dal diludio, i bambini addirittura venivano portati via da questi torrenti lungo le strade. La processione viene abbandonata. Però va detto che il pessimismo che questo crea tra i bizantini è condiviso per tutti altri motivi anche tra i capi ottomani nel campo turco, specialmente tra i più anziani che, come abbiamo detto, disapprovano molto la megalomania e il dispendio di mezzi di Mehmet, in particolare Khalil Pasha, il vecchio gran visir e il suo partito, che convince proprio lo stesso 25 maggio Mehmet a fare degli svogliati, peraltro negoziati, un'offerta di pace a Costantino, che poi tra l'altro è inagibile perché la richiesta di tributo è troppo alta, si sa benissimo che i bizantini non avrebbero neanche volendo i fondi nelle loro casse per pagarla. Però insomma questo ci dà testimonianza di un momento di debolezza di Mehmet, tant'è vero che c'è una discussione all'interno dello Stato maggiore turco in cui Khalil Pasha chiede che l'assedio sia tolto e gioca così tutte le sue ultime carte, quelle carte che poi gli faranno muovere l'accusa di essere una spia dei bizantini. Ma dopo l'equilibrato discorso di Khalil Pasha prende la parola quel falco di Saganos Pasha, quel parvenu, quell'uomo che nasce, diciamo la cui potenza nasce insieme a quella di Mehmet e nel suo discorso dice proprio quello che Mehmet si vuole sentir dire, parla delle profezie islamiche perché ci sono anche quelle secondo le quali appunto sarà un maometto a conquistare Costantinopoli, parlerà del secondo Alessandro Magno che effettivamente Mehmet crede di essere, dirà anche che gli uomini fremono dalla voglia di combattere, insomma Mehmet decide per l'attacco. Intanto i cristiani che fanno parte dell'esercito turco e questa è come dire un'altra delle prove di questa sorta di permeabilità fra i fronti, di questa trasversalità, inviano arrotolati nelle frecce dei messaggi che riferiscono per filo e per segno all'incontro del Consiglio. Questo ce lo racconta Jacopo Tedaldi, un veneziano che stava proprio sulle mura e quindi che le vede queste frecce. Come se non bastasse, il 26 maggio una nebbia fittissima avvolge la città e poi la notte c'è una luce stranissima che avvolge la cupola di Santa Sofia. Stavolta si spaventano tutti quanti, non solo i bizantini ma anche i turchi, tanto che il sultano si fa rassicurare dai suoi astrologi che dicono che il fenomeno in realtà è segno che la luce della vera fede presto avrebbe illuminato il sacro edificio. Insomma non si sa, tra l'altro è un fenomeno che non si riesce a spiegare. C'è quel razionalista di Barbaro che dice ma no ma era il riflesso dei falò nel campo turco, però insomma da tutte le altre fonti sembrerebbe un fenomeno ottico davvero molto strano. Ed è a questo punto fra l'altro che la corte cerca di nuovo di convincere Costantino a lasciare la città per andare a riorganizzare la resistenza da un luogo più sicuro, dalla Morea, il famoso piano B. Abbiamo già anticipato che il Pasileus non solo non accetta ma sviene mentre i dignitari parlano, il che la dice lunga sullo stato di tensione nervosa, di insonnia. Dovete pensare che anche queste funzioni religiose comportavano digiuni, comportavano dei veri e propri tour de force. Comunque Costantino dice che non avrebbe mai abbandonato il suo popolo, semmai sarebbe morto. Nel frattempo Mehmet ha già ripartito i comandi, in base fra l'altro alla sua sciocca strategia originaria dell'attacco per mare, per cui Hamza Beg, l'ammiraglio che ha sostituito Baltahoglu, circonderà con la flotta tutte le mura marittime verso il mar di Marmara. Il perfido Saganos Pasha attaccherà le mure marittime verso il corno d'oro, mentre delle mura terrestri si occuperanno Mehmet II in persona, affiancato da Karajah Pasha, nonché da Ishaq Pasha e da Saruja Pasha. Mehmet indice un digiuno solenne di tre giorni e falò votivi di tre notti, che potrebbero anche essere quelli di cui parla Barbaro, per invocare l'aiuto divino. È lo stesso Dio alla fine, è solo invocato in modo diverso. E qui comincia questa tortura, vera e propria tortura per le orecchie dei bizantini, che sono le preghiera, le grida, le musiche che si cominciano a sentire dal campo turco. Fra l'altro il 27 maggio c'è di nuovo un altro fenomeno ottico, forse non sappiamo che per ora non è stato mai spiegato e che terrorizza tutti di nuovo, sia i bizantini sia i turchi. Cioè si vedono in lontananza dalla parte della campagna, diciamo, delle altre luci molto più lontane, che non sono turchi. Nel senso che i bizantini temono che siano dei rinforzi turchi e quindi si spaventano a morte. I turchi temono che siano gli ungheresi di Giovanni Uniadi e si spaventano a loro volta. Un po' tutti temono che siano dei fantasmi, dei fuochi sfatui. Insomma, fatto sta che si uniscono questi fenomeni ai falò, alle preghiera, alle grida e poi nel campo turco ci sono queste luminarie e questi suoni. C'è una vera e propria guerra dei suoni che comincia in questo momento, perché non dobbiamo dimenticare i turchi vengono dalle steppe e hanno nelle loro mani un'arma psicologica potentissima, hanno il tamburo sciamanico. Parlare della musica ottomana Merter richiederebbe un ciclo di 20 puntate di alle 8 della sera già di per sé. Però è importante capire la portata di questa guerra dei suoni, di questo tipo di rumore, di frastuono che mai si era sentito in nessuna battaglia. Nel senso che non che l'uso dei tamburi di timpana fosse sconosciuto sul campo di battaglia dei romani o tanto più di quelli orientali, però noi sappiamo poco sui tamburi, nel senso che proprio ce ne parlano poco le fonti classiche, tanto che ci fanno pensare a un uso molto parco di questi tamburi, peraltro piccoli, a fronte dell'impiego invece molto importante degli strumenti a fiato, i quali aspettava dare i segnali durante il combattimento, durante la marcia, eccetera, eccetera. Sappiamo che nella musica medievale i tamburi ricompaiono solo dopo le crociate, quindi come reimportazione dal vicino oriente. Anche qui sono sempre tamburi molto piccoli e in ogni caso si cominceranno a usare sistematicamente in Occidente per uso militare soltanto dal Cinquecento in poi, quindi dal momento in cui il mondo marziale ottomano avrà preso contatto con l'Europa. Gli ottomani usavano i tamburi massicciamente da sempre, per esempio è documentato a Nicopoli e quindi è possibile che i soldati bizantini già li conoscessero, però questa introduzione massiccia e sistematica era sicuramente senza precedenti. È plausibile che questi poveri assediati non avessero mai sentito così tanti tamburi concentrati e soprattutto non fossero mai stati esposti a un loro uso così continuo e massiccio come quello che fecero soprattutto in questi tre giorni e poi durante la battaglia i turchi, sia per motivi tecnici, cioè adunate, marce, manovre, assalti, sia molto probabilmente per quegli stessi motivi psicologici che conosciamo come tipici della tradizione militare cinese coeva. C'erano almeno 20 tipi diversi di tamburi. Vi segnalo il kös, o tamburo del capo, il capo del merter, cioè della banda militare dei giannizzeri, che era gigantesco e che veniva sempre tenuto, quando non era in uso, appunto di fronte alla tenda del capo, del capo della banda dei giannizzeri, che quando si muovevano per qualsiasi cosa, tanto più per un attacco in battaglia, non lo facevano mai senza questa musica ritmata, rimbombante, così fortemente marziale. Fra l'altro, voglio dire, anche nel Settecento, nella nostra musica occidentale, se ci fate caso, una marcia con uso massiccio di percussioni, è sempre una marcia alla turca, da Mozart a Haydn, mentre le marce militari convenzionali sono rigorosamente perfiati e senza percussioni, quindi non sono alla turca. Questo per dire che è proprio una caratteristica e ne dobbiamo tenere conto, perché quando parleremo dell'attacco dei giannizzeri alle mura, dobbiamo pensare che questa loro musica con cui si muovevano era così forte che la si sentiva sopra il rombo dei cannoni, fino all'altra sponda del Bosporo, cioè cose da discoteca, non so come dire. Alle spalle c'erano le campane di Costantinopoli, di tutte le chiese di Costantinopoli che in un'interrotta veglia, in una panichis, come la chiamano i bizantini, hanno continuato a ufficiare, a ufficiare, a ufficiare durante la battaglia e che quindi continuavano a suonare a martello, c'erano i colpi dei simandra, cioè delle percussioni monastiche, c'erano i cori di preghiere che si alzavano altissimi, 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 ma mai quanto la musica ipnotica, sciamanica dei giannizzeri. La città delle città, il faro delle cumene, Costantinopoli cade il 29 maggio 1453, alle primissime luci dell'alba. Il 28 maggio Mermet II fa proclamare dagli araldi che il giorno dopo si attaccherà a battaglia. Le truppe turche raggiungono le loro posizioni, vengono promessi premi straordinari a chi per primo entrerà nelle mura e naturalmente punizioni gravissime a chi cercherà di sottrarsi alla mischia, ma tanto si sa che c'è la polizia militare turca che sorveglia. Monaci e sacerdoti musulmani percorrono gli accampamenti e le postazioni turche per infiammare gli animi dei soldati. Durante tutta la giornata del 28 maggio non cessano i bombardamenti. Verso sera Mermet con 10.000 cavalieri cavalca verso Diplokionion, le due colonne per dare disposizioni alla flotta. Nel frattempo a Costantinopoli un'altra immensa processione per tutto il giorno con preghiere, campane a martello, sima, dracori, eccetera. In campo bizantino si fanno gli ultimi preparativi di resistenza, sono tutti molto nervosi, c'è un incidente diplomatico tra il capo, il capitano di terra, Giovanni Giustiniani Longo, il protostrator che sta con l'imperatore alla porta di San Romano, la più debole, e chiede a Luca Notarass, vi ricordate, il megaduca, di fatto il primo ministro, che invece sta sul corno d'oro, delle bombarde per rafforzare la difesa. Ma Notarass si rifiuta di consegnarle, non sappiamo bene come siano andate le cose, forse Giustiniani era un po' troppo arrogante, o forse Notarass era un po' troppo turcofilo, e voleva conservare la sua potenza di fuoco. Fatto sta che in quello stesso 28 maggio abbiamo contemporaneamente riferiti dalle fonti, nei due campi, i due discorsi agli ufficiali. Quello di Mehmet è meraviglioso, naturalmente prima enumera le volutà del paradiso islamico ai credenti morti in combattimento, però poi le ricompense più terrene vengono elencate puntigliosamente, e si parla di tutto ciò di cui rigurgita la città, ricchezze infinite, palazzi, chiese straripanti di reliquiari d'oro, perle, vasi d'oro e d'argento, soprattutto persone, persone bellissime, donne meravigliose, dalle forme seducentissime, soprattutto degli adolescenti meravigliosi che oltretutto vengono anche dalle più nobili famiglie bizantine. Insomma pare che l'uditorio fosse entusiasmato, anche entusiasmato dalla bellezza dei palazzi e dei giardini che Mehmet descrive concludendo, oggi vi faccio dono di una città immensa e infinitamente popolata, la capitale degli antichi romani, che è diventata, possiamo dire, il centro di tutta la terra. Ora, quanto al fatto che Costantinopoli era la capitale degli antichi romani, come abbiamo visto, aveva perfettamente ragione anche proprio sul piano giuridico. Che in quel preciso momento fosse infinitamente popolata era più che un effeminismo, una vera propria bugia, perché come abbiamo visto dal censimento che il povero Sfranz viene incaricato di fare dal suo signore, appunto Costantino XI, all'interno della città i difensori erano davvero pochi. E infatti il discorso di Costantino è molto semplice, come doveva essere semplice lui, poi in definitiva, questo personaggio di cui non riusciamo a capire spesso le decisioni, ma che appunto forse è semplicemente poco politico e molto marziale. Il discorso è semplice, dice ci sono quattro ragioni per cui un greco deve essere sempre pronto a morire, o per la sua fede, o per la sua patria, o per la sua famiglia, o per il suo imperatore. Adesso che queste quattro ragioni ci sono tutte e quattro, quando se non ora occorrerà essere pronti a morire? Dopo il discorso semplice e diretto di Costantino vanno tutti a Santa Sofia per una grande e solenne liturgia. Ecco, in questo momento veramente si realizza l'unione delle chiese, guai a chi dice che l'unione di Ferrara-Firenze non si è mai realizzata. La sera del 28 maggio 1453 latini e greci, ortodossi e cattolici a Costantinopoli sono veramente uniti, non manca nessuno. I preti che considerano peccato mortale l'unione con Roma ufficiano insieme ai colleghi unionisti, insieme a cardinali della Curia Romana come Isidoro, a vescovi cattolici come Leonardo di Chia. C'è veramente l'unione delle chiese, questo servizio che continua per tutta la notte, questa vera panuchis vede una concordia totale. Più tardi arriva anche Costantino sulla sua cavalla araba dalle zampe bianche che in seguito tutti vedranno insieme al fantasma del suo cavaliere che invaderà le leggende, i canti popolari. Poi Costantino galoppa fino alle Blacherne per congedarsi con la famiglia, con i dignitari, a mezzanotte rimonta a cavallo e con il suo segretario e amico di sempre, il gran Logothet da Sfranz per lustra tutte le mura fino alla campagna, controlla che tutte le porte siano chiuse. Poi smonta da cavallo vicino alla porta Caligaria e sempre con Sfranz al suo fianco sale su una torre, quella che oggi è chiamata la torre di Sfranz, anche se poi non possiamo essere certi che sia veramente quella. Comunque una torre ci viene raccontato proprio appunto da Sfranz all'estremo angolo del muro delle Blacherne e di lì sentono i due questi rumori sordi che provengono dal campo turco e le sentinelle riferiscono che questi rumori durano dal tramonto, stanno insieme per circa un'ora, il segretario e l'imperatore, guardando dalla torre. Poi l'imperatore lo congeda e non lo vedrà mai più. E questo avviene a luna di notte e a luna e mezza Mehmet dispone il suo esercito su tre schiere di 50.000 uomini ciascuno. Davanti si tratta essenzialmente di cristiani, carne da macello, gli irregolari, i basci buzuc, cioè questi avventurieri, migliaia e migliaia di ogni paese, razza, molti cristiani, slavi, ungheresi, tedeschi, italiani, perfino greci che combattono per la paga e il bottino all'arma bianca senza corazza con un miscuglio disordinato di armamenti, scimitarre, frombole, archi, qualche archibugio, sono truppe poco affidabili, anche perché sono talmente numerose e scordinate che si intralciano a vicenda. Tant'è vero che hanno dietro la polizia militare armata di sferze e di mazze per fare a pezzi chiunque fosse, diciamo, tentato di tornare indietro. Questa prima ondata di Desperados, diciamo, tenta per due ore esatte, quindi dall'una e mezza alle tre e mezza, di raggiungere il mura con le scale, ma i bizantini tirano addosso delle pietre talmente enormi e talmente numerose che li massacrano, poi gli sparano misuratamente per risparmiare i proiettili con i fucili e con le colubrine. Insomma, i basci bazook vengono letteralmente fatti a pezzi, in gran parte da giustiniani con i suoi italiani, ma anche dai bizantini che sono incoraggiati personalmente dall'imperatore. Siccome poi i basci bazook non possono ripiegare per via della polizia militare che li controlla e sono anche completamente ubriachi, ci portano le fonti, è una vera carneficina. Ma Mehmet li ha usati solo per stancare il nemico, per lui sono moscerini, sappiamo la considerazione che ha della vita umana. E appena li fa ritirare, senza neanche lasciare il tempo ai difensori di rabberciare un po' le difese, ecco che manda la seconda ondata, i reggimenti d'Anatolia sotto il comando di Jacques Pachat. Questa è una minaccia più seria. Questo è l'esercito regolare d'Anatolia con le sue uniformi, i suoi pettorali ben riconoscibili, si riversano dalla collina fino alla porta civile di San Romano e arrivano alla palizzata nella valle dell'Icos. Quando Mehmet scatena la seconda ondata, quella dei reggimenti d'Anatolia, le campane della città danno l'allarme ai difensori, ma il grande cannone di Urban copre il suono delle campane. Sappiamo che le mura, proprio appunto nella valle dell'Icos, sono in parte sgretolate per i bombardamenti a tappeto della settimana precedente, non tanto come abbiamo detto per i proiettili veri e propri, ma proprio per l'effetto della vibrazione, dell'impatto dei proiettili al suolo. Inoltre questi regolari anatolici sono ben armati, ben disciplinati, motivatissimi, anche loro hanno le loro musiche marziali, trombe, pifferi, salgono uno sulle spalle dell'altro per superare la palizzata e fissare le scale. Ci sono delle nubi che a questo punto velano la luna e riferiscono i difensori, non si vede quasi niente, alla debole luce dei razzi che partono dal campo turco. Sono più tenaci degli irregolari gli anatolici di Shakh Pashah, però anche loro sono intralciati dall'essere in troppi e anche loro sono massacrati e respinti. Io vorrei che fosse chiaro un fatto, noi siamo ormai all'alba del 29 maggio, sono già passate ore di battaglia. I turchi sono stati respinti nelle loro prime due ondate. Se è vero che la prima ondata, quella dei basci bazooka, era effettivamente un diversivo per stancare i difensori, la seconda ondata, per quanto meno coordinata del previsto, era comunque una cosa seria, era l'esercito turco, eppure viene respinta. La terza ondata, quella dei giannizzeri, è l'ultima carta di Mehmet. C'è chi dice, forse con una certa dietrologia e comunque con il solito ragionamento ex post, che Mehmet aveva calcolato tutto perché voleva che fosse il suo corpo prediletto, appunto quello dei giannizzeri, a entrare in città, anche a incassare i grandi premi promessi al primo che vi avesse messo piede. Ma guardate, quando due assalti in massa di queste entità sono stati respinti, un generale non si sente per niente bene. L'alternativa, come abbiamo visto nel Consiglio Segreto Ottomano del 25 maggio, se la terza ondata non avesse avuto successo, sarebbe stata a levare le tende, come voleva Khalil Pasha. Mehmet in questo momento è sdegnato per l'insuccesso degli anatolici. I basci bazook erano carne da macello, i regolari dovevano penetrare in città. Per questo Mehmet accelera ancora di più i tempi di quanto non avesse fatto tra il primo e il secondo attacco, da ordini rapidissimi, per evitare che i difensori abbiano il tempo di riposarsi in qualsiasi modo, di organizzarsi anche solo per qualche minuto. Subito lancia da un lato una pioggia di proiettili, frecce, giavellotti, pietre e anche cannonate per coprire la carica. Come scrive Tursunberg, subito in quell'istante dai nugoli di archi cominciò a cadere una pioggia di ferro. Le frecce volavano più abbondanti delle gocce dei temporali d'aprile, quei famosi temporali che avevano fatto fiorire tutte quelle rose. Mehmet si spinge personalmente a cavallo fino al fossato per accompagnare e spronare con alte grida i suoi giannizzeri che a loro volta, come abbiamo visto, sono spronati dalla loro musica marziale. Se anche loro verranno respinti è la fine, non solo per il suo grande progetto, ma anche per il suo trono probabilmente e forse anche per l'espansione del suo impero. Se i giannizzeri non sfondano, i veneziani arriveranno a vele spiegate. La notizia di questa grande, assurda, a questo punto quasi comica, grottesca, sconfitta farà il giro del mondo, l'Europa vedrà che i turchi possono essere fermati, l'Europa si coalizzerà. Insomma, magnificamente equipaggiati. In file serrate, a due a due, al suono della loro musica marziale, merter, che si sente fortissima al di sopra del rombo dei cannoni fino all'altra sponda del Bosforo, i giannizzeri caricano. Combattono duramente, combattono fino all'alba, eppure i bizantini resistono ancora. A un'analisi oggettiva della battaglia, fino a un'ora prima del giorno i bizantini stanno vincendo. Non c'è dubbio, è chiaro che poi la storia la fanno i vincitori, la riraccontano a modo loro, ma se analizziamo i dati, la verità è questa. Certo, il cannone di Urban, che ha sparato contro il settore della porta di San Romano, ha fatto sì che la palizzata cedesse, perché il fumo nero ha accecato i difensori, e dietro la nube di terra provocata dai crolli, i giannizzeri sono riusciti a oltrepassare i barbacani, cioè i rinforzi, però vengono massacrati. Ogni ondata nuova, in genere sono 300 uomini per volta, che riesce a oltrepassare i barbacani, incontra una violenta reazione bizantina guidata da Costantino in persona. I turchi tornano alle loro linee, mentre i difensori con grida trionfanti ricostruiscono la palizzata. Passa un'ora intera, non c'è niente da fare, è come se non bastasse, anche in tutti gli altri settori i difensori si battono come leoni e l'attacco è respinto. Anche perché quelli che stanno alle mura di terra si sono chiusi a chiave le porte dietro, cioè nessuna ritirata è contemplata, e lo sanno. Mentre lungo la parte sud delle mura, Ishaq Pasha è totalmente e completamente respinto. E peggio ancora va la flotta di Amzabeg, che sul mar di Marmara o non riesce proprio ad avvicinarsi, oppure viene, per quei pochi plotoni che riesce a far sbarcare, respinta violentemente dai monaci scatenati, che sono fra l'altro aiutati dalle donne, monache comprese, e dai bambini che raccolgono e passano le pietre, in questo punto dove le mura sono ancora quelle di Costantino, sono più sottili, quindi non c'è più una questione di porte, eccetera. E poi non parliamo di Orkan con i suoi turchi, che si battono selvaggiamente, e non parliamo della linea del Corno d'Oro. A nord, vicino alle Blacherne, sia le truppe del perfido Saganos Pasha, che hanno attraversato il Ponte di Barili, sia gli uomini di Caraggia Pasha più in alto, vengono respinte completamente, rispettivamente dal bailo veneziano Minotto con i suoi, per quanto riguarda Saganos Pasha, e dagli eroici fratelli Bocchiardo, genovesi, con i loro pochi uomini. Dobbiamo dire che i settori più delicati e sguarniti delle mura di terra erano presidiati secondo uno schema fantastico. Nel senso che la zona, diciamo, quella dalla porta di Poliandriu, a sud della porta civile di San Romano, viene assegnata prima a Giustiniani, quando appare chiaro che deve concentrarsi poi sul Mesotechion, viene invece trasferita ai fratelli Bocchiardo, e dai bizantini al comando di un Giovanni Cantacuzeno, lontano parente di Costantino XI, che era stato a suo tempo governatore di Patrasso e che, tra l'altro, è uno dei pochissimi aristocratici bizantini che difesero le mura e che si salveranno. Compare nella lista dei passeggeri che il 29 maggio riuscirono a fuggire su una nave genovese di Zorzi-Doria. Ma il punto più debole di tutti è quello della zona del fiume Licos, come abbiamo visto, cioè il punto in corrispondenza della porta militare di San Romano, detta anche il Pempton, e fino a una porta che si chiama Porta Carisi, che abbiamo già menzionato. Abbiamo anche detto che non importa se non avete una piantina, perché tanto queste denominazioni sono talmente confuse che noi stessi, storici, facciamo difficoltà a decidere in quale porta si trovi quale comandante in quale momento, però qualche idea ce l'abbiamo. Giovanni Giustiniani Longo difenderà sia il Mesotechion, cioè il tratto mediano delle mura, sia il tratto più a nord, cioè dalla porta Carisi o porta di Adrianopoli fino al palazzo di Costantino Porfiro Genito, l'odierno Tecfur Sarai, e fino al punto di raccordo tra le mura teodosiane e quelle edificate intorno al quartiere delle Blacherne, cioè del Palazzo Imperiale, da un certo momento in poi. Mentre invece proprio la parte del Palazzo Imperiale, come abbiamo visto, è difesa dal bailo veneziano Minotto con i suoi veneziani e prima dai fratelli Bocchiardo genovesi, poi quando i Bocchiardo vengono mandati giù da altri veneziani, tra cui Dolphin. Infine, la parte proprio più importante, cioè l'estrema punta nord, che coincide con l'accesso al corno d'oro attraverso la xiloporta, è presidiata dalla famiglia imperiale con i suoi cavalieri e intrinseci. Teofilo Paleologo, valoroso cugino dell'imperatore, e Manuele Paleologo, detto Iagro, altro parente di Costantino XI, fra l'altro molto bravo in ingegneria bellica. Abbiamo già parlato di Giovanni Giustiniani Longo. È un eroe, è un grande comandante, è un genio della strategia, è fra l'altro un grande esperto, è quello che ha anticipato, mossa dopo mossa, tutte le sorprese del sultano, che non ha mai abbandonato il suo posto sul campo di battaglia, che è stato ferito più volte, che ha spronato i suoi uomini giorno e notte e anche tutti gli altri, con i suoi con la sua autorità. È l'eroico capitano di terra che Tursunbeg definisce il capo dei demoni. Secondo Tursunbeg, Giustiniani viene trafitto a morte da un gazzi, cioè da un giannizero, mentre combatte sui bastioni esterni fianco a fianco con l'imperatore. Dice, si erano fermati combattenti, stupefatti dall'aspetto del gazzi, del forcone e dell'infedele, uno scontro fra elefanti, tra rinoceronti dai corni superbi. Questo però non pare sia vero, sono molto diverse le informazioni che ci dà Nicolo Barbaro, il veneziano, che vabbè, in quanto veneziano magari era un po' prevenuto contro Giustiniani. Comunque ci dice che Giovanni Giustiniani, genovese di Genova, delibera di abbandonare il suo posto, corre alla nave che era stata messa alla catena e questo qui era stato fatto capitano di terra, non si sa perché, ma intanto questo capitano è scappato e a quel punto tutti quanti della parte delle mula di terra cominciano a gridare, i turchi sono entrati dentro dalla terra, come dice in veneziano, e menteva per la gola che ancora in noi era entrati dentro. Questo è il modo un po' anche sbrigativo e spiccio di Barbaro di parlare del falso allarme, dovuto a quello che in realtà è un vero e proprio attacco di panico di Giustiniani. Perché Giustiniani effettivamente, proprio in questo momento, in cui si sta decidendo tutto, in cui i bizantini stanno indubbiamente prevalendo, in cui se fallisce come sta per fallire la terza ondata, cioè l'attacco Giannizzero, devono levare le tende i turchi e poi chissà appunto quando si potrà ripresentare un'occasione simile, forse mai, ebbene proprio in questo momento non si sa perché Giustiniani scappa. Non si sa perché. Secondo la maggior parte delle fonti, a parte Barbaro che è particolarmente appunto impietoso, è stato ferito. Peraltro le fonti non sono d'accordo sul tipo di ferita, secondo Sfranz era stato ferito al piede, secondo Calcondi l'allamano, secondo Leonardo di Chio da una freccia all'ascella, secondo Critobulo invece più gravemente al petto. Insomma, sì, va bene, sarà anche stato ferito, ma non si è mai visto di un comandante che abbandona proprio nel momento cruciale della battaglia il proprio posto. Fra l'altro avrebbe dovuto quantomeno lasciare un secondo, avrebbe dovuto esserci un piano comunque in caso di ferimento, addirittura di morte del protostrator. Era stato già ferito almeno altre due volte. Un comandante queste cose le prevede, le pianifica, soprattutto uno che aveva dato ogni tipo di prova di lealtà. Quando anche fosse stato veramente ferito in modo grave, cosa che sembra supporre comunque il solo Critobulo, gli altri invece no, ma quando anche, come mai non combatte fino alla morte, come tutti occidentali compresi, avevano giurato. Si è trattato di un crollo nervoso, di un overdose, non so, droghe, oppio dovevano circolare. Certo, c'era un elemento molto importante che era la fede religiosa, su cui Costantino aveva tanto insistito, che è sicuramente una grande motivazione, diciamo una droga forte, non a caso è stata definita da qualcuno oppio dei popoli. In questo caso potrebbe anche essere considerata l'SD dei guerrieri, ma probabilmente almeno per i capi c'era dell'altro. Oltre agli oppiati endogeni, all'adrenalina, alle droghe diciamo che l'organismo produce da solo, probabilmente c'era dell'altro. Fu forse dunque l'abuso di sostanze. O invece tradì, o invece c'era un accordo. Ma questo potrebbe essere dietro logico, perché allora se c'era un accordo, perché morì Achio due giorni dopo? Noi non sappiamo e non sapremo mai che cosa vide Giovanni Giustiniani Longo a quell'alba del 29 maggio 1453. Che cosa lo terrorizzò tanto da farsi portare via dal campo, addirittura da farsi dare le chiavi di una delle porte sprangate, da farsi accompagnare fino al corno d'oro attraversando la città e quindi effettivamente spargendo la notizia falsa, come dice Barbaro, che i turchi fossero entrati? Non lo sappiamo. Sappiamo soltanto che la storia è molto irrazionale, che appunto congetturare un accordo segreto con i turchi è abbastanza difficile. C'è chi dice che morì Achio, ma non per le conseguenze della ferita, bensì per una punizione divina. Molto spesso quando si parla di punizione divina si intende vendetta umana, veleno, uguale veleno. Però sinceramente c'è anche da dire che sono i due elementi più irrazionali della nostra storia a confluire. Perché vi ricordate la Kercoporta? Ebbene, non si sa come, perché le fonti non lo dicono assolutamente, ma nei libri, anche i più seri degli studiosi, degli storici, si sovrappone la leggenda della Kercoporta con questa cosa inspiegabile della defezione di Giustiniani, per cui viene fuori che Giustiniani viene portato fuori dalle mura attraverso la Kercoporta. E che a quel punto la Kercoporta viene dimenticata aperta dai genovesi, che tra l'altro tutti se la danno a gambe insieme con il loro capo, e i giannizzeri si infiltrano attraverso questa porticina sotterranea. Ora, questo non è probabilmente vero, anzi non è certamente vero sulla base dell'evidenza archeologica. Certo, la porta da cui fu fatto passare Giustiniani, nonostante le implorazioni di Costantino, che nel frattempo aveva galoppato fino a quel settore delle mura e che lo implorava di non lasciare il posto di combattimento. La porta doveva essere in quel tratto delicato appunto che segnava l'intersezione con il palazzo di Costantino Porfiro Genito, poteva essere la porta Carisi o la porta Regia, la Vasilichi o addirittura la Caligaria. Punto vero è che solo a vedere una porta delle mura aprirsi e Giustiniani rientrare nella città, da un punto all'altro delle mura si sparge la voce che i turchi abbiano sfondato. Mentre non è vero, i turchi non si sono mai aperti una breccia nelle mura teodosiane, cioè non nella cerchia interna. Le mura teodosiane, questa è la verità, non sono mai state spugnate. Quello che è successo è diverso, cioè una cinquantina di Giannizzeri per qualche motivo trovano in effetti una porta, una postierla lasciata aperta, si infiltrano all'interno delle mura, ma attenzione, solo nel passaggio tra la muraglia esterna e quella interna, non certo dentro la città e sarebbero stati istantaneamente accerchiati ed eliminati se non fosse stato appunto per la confusione che proprio in quel momento viene creata dalla defezione di Giustiniani, che appunto è seguito precipitosamente da tutti i suoi genovesi e questa immagine crea, se pensate anche la difficoltà di comunicazione fra i vari tratti di mura contrapposta alla velocità con la quale si susseguono a questo punto gli eventi, questo fa credere erroneamente che la città sia persa. A questo punto Costantino e i suoi cercano di fare il possibile, girano i cavalli, tornano verso la valle dell'Icos e cercano di difendere da soli, loro quattro, l'accesso alla porta militare di San Romano. Sono in quattro, Costantino XI, suo cugino Teofilo Paleologo, un fedelissimo compagno d'armi forse fidanzato Giovanni d'Almata e poi quello straordinario personaggio che era Don Francisco da Toledo, uno spagnolo, un nobile aristocraticissimo spagnolo che era convinto di discendere dai paleologhi e che si era presentato per difendere la città di Costantinopoli, lui singolarmente, e lo fa fino alla morte, sempre a fianco di Costantino. Comunque la difesa ormai è infranta, ma solo per questo fatto, per questa porta lasciata aperta, che ormai è bloccata dai cristiani che cercano di fuggire, mentre un numero sempre maggiore di Giannizzi ripiomba su di loro. Teofilo grida, preferisco morire che vivere, scompare nelle orde che sopraggiungono. Lo stesso Costantino si butta nella mischia e Don Francisco da Toledo e Giovanni d'Almata, che sono ancora al suo fianco, fanno lo stesso. Nessuno più li vede. Ci sono due versioni contrastanti sul destino dell'ultimo imperatore, Costantino XI paleologo. Da un lato le cronache ci dicono che Mermet II, proprio appena finita la battaglia, manda a cercare il suo corpo perché appunto vuole avere le famose babucce di porpora segno della sovranità e che trova un corpo senza testa, il che è probabile perché i turchi mozzavano le teste a tutti i cadaveri. Poi c'è una seconda leggenda che tra l'altro non è necessariamente una leggenda perché è avvalorata da Jacopo Tedaldi, che era uno abbastanza informato come abbiamo visto, secondo cui la sua testa era stata riconosciuta da un contadino e quindi portata al sultano da alcuni cortigiani che Maometto l'aveva fatta collocare per un po' di tempo su una colonna del foro di Augusto e poi l'aveva fatta imbalsamare ed esibire nelle corti principali del mondo islamico. Diciamo la verità, le due cose possono benissimo essere compatibili, appunto dato l'uso di decapitare i cadaveri possono essere stati ritrovati separatamente il corpo e la testa e questo è abbastanza raccapricciante, però dobbiamo anche tenere conto che Costantino XI non morirà mai per i suoi sudditi perché secondo la leggenda si marmificherà, cioè diventerà una statua lui con la sua cavalla araba dalle zampe bianche che di giorno sarà appunto immobile nei sotterranei della città e di notte invece si animerà e la si vedrà levare scintille facendo cozzare la spada contro le spade degli infedeli e questo fino a oggi è rimasto tra le tante leggende dei sotterranei di Costantinopoli. Le sorti degli altri comunque non sono poi tanto migliori, per esempio i fratelli Bocchiardo quando si rendono conto che ormai non c'è niente da fare cercano di aprirsi la strada verso il corno d'oro ma uno dei tre viene catturato e ucciso, gli altri due riescono a raggiungere un'imbarcazione genovese che li traghetta a pera però poi vengono di nuovo fatti i prigionieri. Le sorti dei difensori sono veramente interessanti perché è attraverso il racconto di come ciascuno si salva che noi sappiamo una cosa fondamentale che cioè i marinai, cioè quelli che non avevano fatto niente in realtà perché appunto la marina turca non aveva cavato un ragno da un buco come si dice, quando si accorgono che la città è presa nell'ansia di entrare per primi abbandonano le loro navi. Così succede che moltissimi occidentali riescono a raggiungere le proprie e a filare via senza incontrare resistenza turca e c'è tutta questa massa di gente che si butta a nuoto nel corno d'oro e non gli succede nulla anziché essere mitragliata dalle colubrine. Dei turchi raggiunge indisturbata le navi principalmente genovesi perché a questo punto i genovesi di Pera si giocano tutto, bisogna dire, organizzando delle vere e proprie lifeboats, dei trasporti che salvano una grandissima quantità di sopravvissuti. Da questo arriverà poi alla città di Pera l'accusa di tradimento, la rappresaglia turca, anche la distruzione. Secondo Barbaro anche i veneziani fecero qualcosa del genere. C'è anche chi dice che qualcuno si prese una nave vuota turca e scappò con quella. Una cosa è certa che Alvise Diedo, che era appunto incaricato del porto, diede inizio alla fuga in massa delle navi occidentali e Alvise Diedo era un veneziano. Mentre la flotta veneziana comandata da Diedo si dà alla fuga, sembra che soltanto cinque navi genovesi scappino, perché in realtà le navi genovesi sembra che abbiano aspettato il più possibile per prendere a bordo il maggior numero di profughi che si dirigevano a nuoto verso di loro. Fra questi c'è il nostro amico Jacopo Tedaldi, l'autore di quell'utilissimo memoriale al cardinale Allende Coetivi, da cui abbiamo tratto molte interessanti notizie, che riesce a salvarsi tuffandosi, raggiungendo a nuoto una delle navi veneziane, di cui raggiunge Negroponte e di là l'Occidente. Anche il suo schiavetto, un tredicenne russo di nome Valentino, si salva a nuoto, però si imbarca su una nave cretese di un certo Antonio Chialinas. Isidoro di Kiev, l'abbiamo anticipato, fa cambio di vestiti con un povero monaco anonimo che viene decapitato, mentre lui riesce a essere comprato per quasi nulla da un mercante di pera che lo ha riconosciuto e di qui a scappare a Candia con un'imbarcazione turca. Un po' la stessa cosa accade a Leonardo Di Chio, che viene fatto prigioniero ma non riconosciuto e subito riscattato dai mercanti di pera che erano corsi al campo turco per recuperare i genovesi. La stessa cosa accade a Ubertino Pusculo, l'umanista bresciano che si trovava a Costantinopoli per imparare il greco e ci rimane ed è un altro dei testimoni oculari cruciali, anche lui viene fatto prigioniero ma poi viene riscattato da un mercante. Insomma c'è da dire, perché potremmo fare la storia di tutti i sopravvissuti ma forse potrebbe anche essere poco interessante perché è abbastanza monotona, la cosa che colpisce è la prontezza dei genovesi quando ancora sta infuriando la battaglia a traghettarsi in città per salvare il maggior numero di vite possibili, cercare soprattutto di comprare i prigionieri, cioè gli schiavi, prima che ne sia compreso il valore, cioè quando ancora sono in mano alla soldataglia e non agli ufficiali o addirittura alla corte. Questo permette a moltissimi di salvarsi, non solo tra i letterati o gli intellettuali che appunto ci hanno lasciato i loro diari, ma anche tra personaggi eminenti dal punto di vista politico. La stessa cosa avviene per i libri, nel senso che all'inizio il saccheggio turco di cui parleremo nella prossima e ultima puntata non li risparmia, ma poi qualche soldato più furbo degli altri capisce che forse hanno un qualche valore e quindi si mettono a venderli agli angoli delle strade, ripeto, mentre intanto continuano a bombardare, a sparare, a menare colpi di scimitarra. Ed è così che alcuni dei grandissimi e importantissimi codici che si sono salvati dall'assedio e dalla battaglia di Costantinopoli ci sono arrivati, comprati a pochi spiccioli da qualche intelligente mercante genovese che si è coraggiosamente traghettato da pera fino alla città ancora in fiamme, in cui ancora infuria la battaglia. Però non va bene a tutti. Orkan, secondo alcuni si suicida, ma secondo la maggior parte degli altri, cercando di fuggire travestito da bizantino, perché ovviamente conta sulla perfetta padronanza della lingua greca, viene fatto prigioniero e lì tradito da un compagno di prigionia è decapitato all'istante. Lo stesso accadrà al bailo Minotto, poveretto, con un figlio e sei alti ufficiali. A Catarino Contarini, che era stato già riscattato una volta dalle truppe di Saganos Pascià, viene ricatturato. Il riscatto questa volta è così alto, perché appunto basta che passino i minuti e i riscatti salgono, che vengono chiesti 7 mila pezzi d'oro. In quel momento nessuno ce li ha, nessuno riesce a pagarlo e viene ucciso, così come Pere Culiat, il console catalano che viene giustiziato con 5 e 6 dei suoi ufficiali compatrioti catalani, erano stati così bravi nella difesa, proprio non se lo meritava, povero Pere Culiat. Maggio è il mese delle rose e proprio quel giorno, il 29 maggio 1453, a Costantinopoli era la festa di Santa Teodosia e c'era la chiesa di Santa Teodosia, che era proprio vicina alle mura del corno d'oro, ed era stata tutta dobbata e inghirlandata di rose, le rose erano sparse ovunque, sul pavimento della chiesa e davanti, e una processione di donne alla notizia della cruta della città prese a dirigersi verso quella chiesa, perché Santa Teodosia non l'avrebbe abbandonata, pensavano, si sarebbero messe sotto la sua protezione. E però come abbiamo visto il saccheggio comincia proprio dal corno d'oro, cioè è quello dei marinai, e quindi quest'orda di marinai turchi, inferociti, si trova davanti, appena arriva in città, questa processione di donne, non gli pare vero, le circondano, le violentano, se le spartiscono, poi entrano nella chiesa e catturano tra petali di rose che volano, anche tutte le altre donne che vi si trovavano dentro. Poi altri salgono sulla collina, lì vicino c'è la triplice chiesa del Pantocrator, c'è la chiesa del Pantepoptes, c'è il Sacro Palazzo, c'è una continuazione di profanazione di saccheggi, fino ad arrivare a Santa Sofia, dove convergono i marinai delle due flotte, quella del corno d'oro e quella del mar di Marmara. La chiesa è ancora affollata di fedeli, anche perché avevano dato retta a un'ulteriore profezia, una profezia molto nota, la cosiddetta Visio Danielis, che fra l'altro era molto antica e che sembrava fino ad allora essersi avverata puntualmente, perché sembrava avesse anche annunciato la caduta di Costantinopole del 1204, la riconquista, una serie di cose erano tutte tornate benissimo e quindi ora nessuno dubitava di doversi recare là dove un misterioso liberatore avrebbe aspettato il popolo dei bizantini, vicino alla colonna di Costantino, nel foro di Costantino e quindi a Santa Sofia. Quindi un po' quelli che c'erano e che c'erano rimasti tutta la notte in quella infinita continua celebrazione che si era svolta durante la battaglia e che adesso stavano celebrando la liturgia mattutina, l'orthros, sia i nuovi fedeli che affluivano sperando di essere posti al riparo dell'angelo o del liberatore che doveva aspettarli appunto alla colonna di Costantino confluiscono nella chiesa, vengono chiusi battenti di bronzo ma ben presto vengono forzati da questa massa di soldati che si ingrossa minuto dopo minuto e che diventa minuto dopo minuto più assetata di sangue e di saccheggio. Entrano, i fedeli rimangono intrappolati, alcuni anziani, alcuni infermi vengono uccisi sul posto, i più vengono legati o incatenati, soprattutto le donne. Voi sapete i costumi dei bizantini nel Quattrocento, contrariamente a quelli occidentali, erano sciolti, erano non attillati, avevano molti mantelli, molti veli di tessuti splendidi, preziosi, colorati. Questi veli vengono strappati e vengono intrecciati fra loro perché servano da funi e con queste funi bellissime, multicolori, involontariamente bellissime, involontariamente multicolori, tutte le più belle fra le aristocratiche, fra le dame presenti e anche fra gli adolescenti, fra i figli dell'aristocrazia vengono legati fra loro. E c'è una tale rissa nel contendersi gli ostaggi per la loro bellezza, perché poi è questo che ne fa il prezzo e che anche suscita la cupidigia dei soldati. Nella rissa muoiono quasi tutti gli ostaggi, perché a forza di difendenti sciabolati, a forza di strattonarseli, li fanno a pezzi. I preti hanno continuato a cantare sull'altare fino all'ultimo, fino all'ultimo istante, assistendo impassibili, secondo la passività ortodossa tipica a ciò che è accaduto e cantando, cantando. All'ultimo istante, quando vedono che i turchi stanno avventandosi sull'altare, si dirigono verso la parete meridionale del santuario che si apre e si richiude dietro di loro. Qui, secondo la leggenda, rimangono vanificati o forse semplicemente rinchiusi nella pietra. Racconta Nicolò Barbaro, l'impassibile medico di bordo veneziano, che quella mattina a Costantinopoli il sangue scorreva come acqua e le teste galleggiavano lungo i canali come meloni. Questo è molto probabile. Fra l'altro, quando abbiamo detto della fuga della flotta veneziana, forse a onor del vero abbiamo omesso di dire che un gruppo di veneziani, cioè Alvise Diedo, il capo, ma anche Nicolò Barbaro faceva parte della delegazione, si recarono dal Podestà di Pera per chiedere ospitalità ai rifugiati veneziani. E naturalmente, con la solita polemica genovese-veneziana, il Podestà di Pera negò questa ospitalità e questo fu anche uno dei motivi per cui la flotta veneziana salpò così presto. Comunque, se non altro, il salpare della flotta veneziana ha fatto sì che il prezioso giornale di Barbaro si sia salvato. Preziosissimo perché ci dà anche proprio la cronologia dei fatti che altrimenti non avremmo se non forse ricavandola dalle indicazioni zodiacali di Tursunbeg. Comunque, questo racconta Barbaro e sono infinite le atrocità che si possono raccontare, che sono state raccontate. Non bisogna neanche essere troppo morbosi. Per esempio, parlavamo prima della passività tipica del clero ortodosso. Beh, per questa stessa sorta di resistenza passiva i monaci si lasciano prendere senza opporre resistenza. Anche le monache, le più anziane, quelle giovani però, si buttano nei pozzi. Perché dovete sapere che in questo periodo ogni monastero di fatto era quasi un quartiere, un villaggio a sé, quindi aveva il proprio approvvigionamento idrico. C'erano quindi tanti pozzi, quanti monasteri, anzi spesso i monasteri avevano più di un pozzo. Ecco, le giovani monache, spesso aristocratiche che si buttano nei pozzi, sono una delle immagini che rimangono più impresse del 29 maggio 1453. Ma un'altra immagine che ci rimane impressa è quella che dobbiamo moltiplicare per mille, per diecimila, che ci racconta il lamento di un certo Matteo Camariota, un signore che racconta in versi la disperata ricerca sua e dei suoi amici per ritrovare i parenti. Lui stesso perde figli e fratelli, in seguito sa che sono stati uccisi, altri saranno per sempre dispersi. Ha anche la vergogna di scoprire che un nipote si è salvato convertendosi all'Islam. Ecco, pensate, questo è ciò che accade sostanzialmente a tutte le famiglie greche. Però, oltre alla storia individuale delle persone, c'è anche una storia dei quartieri. Abbiamo detto che Costantinopoli ormai, per il decremento della sua popolazione, era divisa in quartieri anche spesso distanti fra loro, nel senso che erano separati da ampie zone di verde. Ora Stephen Runciman, l'altro grande studioso inglese, anche lui presumibilmente ottima spia, oltre che ottimo studioso come Edwin Pierce, nel racconto che ci ha lasciato presumo che i capi, i magistrati che sovrintendevano a ciascun quartiere, in alcuni casi si siano resi spontaneamente al sultano, il che spiegherebbe come mai, mentre alcuni quartieri, alcune chiese, alcuni monumenti sono andati completamente distrutti, altri si siano conservati integralmente. Questa è un'ipotesi interessante, anche perché spiegherebbe dove siano stati trovati i denari per i riscatti. Probabilmente gli abitanti dei quartieri che si erano spontaneamente arresi, che erano poi soprattutto i quartieri meridionali, il quartiere di studio, nel quartiere di ipsamattia, i quartieri che si trovavano vicino al mar di Marmara e vicino al corno d'oro, probabilmente furono anche questi ragionevoli, intelligenti, sensati greci che arrendendosi e ottenendo quindi clemenza da parte del sultano, secondo le regole del saccheggio turco e comunque secondo la legge islamica, riuscirono poi a fare quell'operazione capillare di riscatto dei greci, perché non dimentichiamoci che i genovesi erano stati molto bravi, ma avevano salvato soprattutto i genovesi. Abbiamo detto la storia degli umili, quella dei soldati, quella degli intellettuali, ma quella dei capi. Sappiamo che Costantino e i suoi praticamente si suicidarono. Ma cosa avvenne agli altri? Sfranze, il suo fedele segretario, non viene identificato come alto dignitario, per cui rimane schiavo per 18 mesi con la famiglia della Mirachur, del sultano, cioè del gran maestro dei cavalli. Poi riesce, probabilmente grazie alle collette di questi bravi signori dei quartieri che si erano arresi, a far riscattare se stesso e la moglie, ma non i due figli, che tra l'altro sono bellissimi, sono i figliocci, erano i figliocci dell'imperatore, che vengono destinati all'arem del sultano. La figlia Tamara muore quasi subito. Il ragazzo viene ucciso da Mermet con le sue mani, racconta Sfranze, per essersi ribellato, virgolette, allo scellerato atto di sodomia che il sultano voleva compiere su di lui. Sfranze, alla fine della sua cronaca, rimpiange di essere rimasto in vita. Ma non è che al filo turco Lucano Taras le cose siano andate meglio. Nei piani originari di Mermet, che si sentiva il nuovo imperatore dei Romani, in realtà la classe dirigente bizantina, quella che insomma ci fosse stata, sarebbe rimasta. In effetti anche l'uccisione del bailo veneziano, del console catalano, seguono quella che però dobbiamo considerare del tutto accidentale di Lucano Taras. Cosa succede? Lucano Taras inizialmente viene preso prigioniero, ma poi con la famiglia, ma poi viene riconosciuto, liberato e trattato benissimo dal sultano, che appunto lo destina a essere il primo ministro. Poco dopo il sultano decide di far visita alla moglie di Notaras, che era di sangue imperiale, che era una grandama e che era malata. Notaras, per accogliere degnamente il sultano, organizza un banchetto all'aperto. Siamo ormai, il tempo è buono, siamo alla fine di maggio, quasi inizio di giugno. Però cosa succede? Che si ubriacano i turchi e allora qualcuno dice al sultano che Notaras ha un figlio adolescente particolarmente bello. Il sultano chiede a un eunuco di portarlo subito da lui per soddisfare i suoi appetiti carnali. A questo punto Notaras si arrabbia. Insomma, a Notaras viene tagliata la testa e così ai suoi figli. E la povera grande dama, la moglie di Notaras, viene deportata ad Adrianopoli ma muore durante il viaggio in Messenia. Questo però ci deve far riflettere su quello che Mehmet avrebbe voluto fare. Perché in realtà possiamo dire quel che vogliamo. I saccheggi sono omicidiali, sempre, in tutte le guerre. I massacri sono inevitabili. La crudeltà umana è sempre qualcosa che lascia senza fiato e che stupisce. Però va anche detto che Mehmet, da un lato, per quanto riguardava l'esercito di terra, aveva cercato di farli entrare in città ordinatamente, sfilando, insomma, in modo da rendere un po' onorevole il saccheggio, anche se naturalmente lo aveva promesso ed era inevitabile. Ma soprattutto nei suoi piani c'era quello di una certa conservazione, c'era quello di un mantenimento in qualche modo della tradizione bizantina. E questo è testimoniato dal fatto che volesse mantenere con sé alcune delle gerarchie, quelle naturalmente disponibili, alcune delle gerarchie. Questo per esempio avviene nel caso delle gerarchie ecclesiastiche. Giorgio Scolario, il grande studioso, che però era un antiunionista convinto, che viene imprigionato, fra l'altro con un grande imbarazzo, finisce da un mercante anatolico che si trova questo prigioniero dottissimo, coltissimo, scichissimo, con cui intrattiene conversazioni elevate, per cui con un certo sollievo poi lo fa riscattare dal sultano. Ebbene, il sultano farà eleggere col nome di Gennadio Giorgio Scolario, patriarca di Costantinopoli. E questo i crociati non l'hanno fatto, hanno sostituito le gerarchie ecclesiastiche ortodosse con quelle latine. Invece Mermet secondo l'ha fatto, e non solo, si recava costantemente nella chiesa della Pamma Caristos a conversare di teologia con Gennadio. Però, per evitare che fosse trasformata in moschea, cosa che il suo ingresso nel luogo consacrato avrebbe per forza di cose indotto i suoi correligionari a fare? Beh, si incontrava con Gennadio in una stanzetta laterale, ed è stato così che i meravigliosi mosaici della Pamma Caristos sono stati preservati. Racconta Thursumbeg che quando Mermet secondo, andando a cavallo, sul suo cavallo bianco, a vedere Santa Sofia, aveva visto un suo soldato smantellare con l'ascia l'antico pavimento di marmo, gli aveva fermato il braccio, aveva detto, accontentati del denaro dei prigionieri, gli edifici della città, lasciali a me. Così sarebbe stato. Si racconta che il sultano sia poi salito silenzioso in mistica contemplazione sulla cupola della basilica. Racconta Thursumbeg che, accanto alle rovine dell'Aia Sofia, alle costruzioni ridotte a giardini di pietra, neppure un vestibolo era rimasto in piedi, e che dalla cima della cupola, scorgendo la città dissolta in macerie e deserto, il conquistatore abbia meditato che il destino di ogni impero è cadere in rovina, e abbia recitato i versi di un famoso poeta persiano. Il ragno fa da portinaio nel palazzo di Cosroe. Il gufo suona la musica di guardia nella fortezza di Afrasiab. Possiamo dire tutto quello che vogliamo di Mehmet II, che era un folle, che era un megalomane, però dobbiamo dire con un turcologo, Robert Mantran, chi sono i mediterranei nei secoli sedicesimo e diciassettesimo? Nei veneziani, nei genovesi, che avevano subito, possiamo aggiungere, perso il controllo dei mercati, mantenuto solo da chi teneva entrambe le estremità della catena da occidente fino agli sbocchi del Mediterraneo sul Medio Oriente. No, dice Mantran, sono gli ottomani gli eredi diretti dei greci, quelli che hanno calzato gli stivari dei bizantini. Eh, gli stivari dei bizantini calzati letteralmente, i famosi calzari di porpora, ma anche metaforicamente Istanbul è una copia di Costantinopoli perché presenta una continuità nella strutturazione formale del potere, nei sistemi di pensiero, nei sistemi commerciali ed economici, ha argomentato Robert Mantran, tra l'altro in un dibattito bellissimo che si è svolto a Chateau Vallon insieme a Fernand Braudel e a una bizantinista, Eleonar Weiler. Bisanzio non cadde certamente senza il tacito consenso politico o realpolitico del Papa e di Venezia e nell'area di quell'impero multietnico che ancora oggi aleggia come un fantasma sul Mediterraneo, sul mondo slavo-balcanico, in definitiva sull'Europa, i bizantini erano umanisti da 1.100 anni, non erano certo stanchi né di studiare o trasmettere la passata tradizione ellenica, né sul piano strettamente politico e amministrativo di congetturare nuove e future forme dalla possibile applicazione pratica, come dimostrano gli iscritti della scuola di Mistrà. Se Roma e le potenze europee avessero scongiurato la definitiva penetrazione turca, come abbiamo detto, probabilmente Bisanzio sarebbe rimasta come una sorta di enclave della civilizzazione occidentale di ascendenza ellenica e classica, in un mondo che già con il loro assenso e per loro intervento era etnicamente smembrato, geopoliticamente trasformato, ma pur sempre permeabile dall'egemonia occidentale. Fu invece inopinatamente il potere turco a realizzare lo spregiudicato assorbimento delle strutture bizantine, quelle stesse che solo in parte aveva distrutto. Ad esempio nell'amministrazione provinciale e nel regime di tassazione fondiaria del primo periodo ottomano si rispecchia largamente il modello paleologo e a ricostruire quelle strutture i vincitori turchi furono aiutati dall'alleanza di una parte della classe dominante bizantina sconfitta, sì, ma che odiava la voracità ideologica cattolica. Oltre che la distruttiva competizione economica protocapitalista, insomma il tradimento strategico dell'Occidente. Come ha scritto Philip Mansell, la tolleranza e la configurazione multietnica nella nuova Costantinopoli saranno determinate soprattutto dalla realpolitik. E l'assimilazione etnica fu il colpo di coda del fanario, la rivincita della realpolitik di Bisanzio, ancora oggi nella presenza islamica al centro del Mediterraneo così come in pieno adriatico, nelle continue collisioni delle faglie etniche generate da questa dopo l'affermazione degli stati nazionali, avvertiamo ancora l'intensità della sferzata di realismo politico che Bisanzio assestò all'Occidente come per punirlo, per avere perso la culla della sua stessa civiltà.